che ci siamo, eccoci ora ci siamo, ora ci siamo, io avevo anticipato come sempre, buonasera a tutti, grazie per essere qui con noi, se ci siete, se non ci siete poi venite anche più tardi, non è un problema, allora buonasera a tutti, grandissima serata, l'abbiamo annunciata più volte, pensavamo alla fine anche di non farcela, ma ce l'abbiamo fatta, grandissima maratona, ce l'abbiamo fatta perché siamo qua già per un siciliano, annunciare una cosa e farla, nel senso che puntuale, puntuale, ecco amore, è già vero Alberto Vingardi, Michele Boldrin, è già averla fatta, annunciamoli subito, allora cosa faremo questa sera, l'abbiamo detto tante volte, però permettetemi di ritagliarmi almeno un attimo di serietà, chiudiamo, oggi si chiude l'asta dell'Istituto Bruno Leoni, un'iniziativa con la quale l'Istituto finanzia le proprie attività e quindi abbiamo pensato di fare proprio il Christmas special, ci tenevamo tantissimo come i Muppets, d'altronde era un po' il mio sogno, io speravo di somigliare alla Rana Kermit ma ho finito con somigliare a quello di Manamana, quindi diciamo che non è proprio il massimo della vita e quindi cominciamo questa lunga diretta, questa lunga maratona con me, Serena Sireoni, Carlo Stagnaro che appunto abbiamo, conduciamo questo piccolo canale, le cronache della fronte liberista, ma abbiamo non ospiti ma siamo noi anche ospiti di Liberi Oltre del canale di Michele Boldrin che quindi con noi comincia questa lunga maratona insieme ad Alberto Vingardi, direttore dell'Istituto Bruno Leoni. Allora grazie Michele, grazie Alberto, buonasera Carlo, buonasera Serena, eccoci. Eccoci. Ciao. Finito. Già finito da dire. No, allora anzitutto io direi che appunto... Allora come va l'Area? Cosa avete venduto? No, cosa stiamo vendendo? Stiamo ancora vendendo. Anzi, scusate, scusate, tu che hai fatto fortuna in America come gli emigranti, quelli giusti, vedi di spendere un po' di soldi e di fare un po' di rimesse. Scusami, a che sei qua? Tu rivai. Alberto sbaglio. Adesso ha vinto Biden, mi aumentano le tasse. Vabbè, però spendi prima. Guarda che... Io sono rational, I foresee, I foresee. Ero scusate. Mi chiedo subito un negative world effect. Terrible negative world effect. Ci sono guardavini importanti. Mi prendi l'ora e rimetti l'ora. Mi spendi, così hai meno asset da tassare. Più spendi, meno spendi, vuoi dire. Allora Alberto, io comincerei con te. Che anno è stato per l'istituto e con le attività chiaramente bloccate? Che anno sarà... Con l'incidio in diretta. Vabbè, però uno la cosa deve dire. Che anno è stato è stato l'anno che è stato per tutti. Poi ognuno utilizzi, diciamo così, la metafora che ritiene più appropriata per segnalare questo 2020. È stato un anno difficile per tutti, per noi non più che per altri. Ovviamente abbiamo avuto le cronache dal fronte liberista che ci hanno tenuto compagnia. È stato un anno complicato perché abbiamo dovuto un po' tutti inventarci un nuovo modo per fare le cose che facevamo prima. Forse questo è stato anche positivo, perché cosa abbiamo imparato. La privazione della socialità, soprattutto lo spettacolo indegno, penso che ci siano altre parole che ci è stato offerto dalla politica nazionale, ci ha dato anche un desiderio, una voglia di fare più cose, provare a farle diversamente, provare a essere più incisivi. Quest'asta è pensata per chi volesse darci un aiuto per le nostre attività, però ci sono anche dei lotti interessanti, il più importante di tutti, quello sul quale mettiamo tutte le fish dell'istituto e ovviamente una settimana in cabina di regia, per così dire, con le cronache dal fronte. È lì che ci aspettiamo questa sera delle offerte, una più interessante, una più alta dell'altra, ma penso che questa serata sia interessante anche un po' perché è un'occasione per fare assieme un bilancio delle tante cose terrificanti che abbiamo visto quest'anno e anche per pensare magari un po' assieme con tutti i vostri ospiti alle cose da fare. La situazione di questo nostro paese è drammatica, credo per la cialtroneria, l'impreparazione della classe politica, per la durezza delle condizioni in cui ci troviamo e anche perché le speranze sono veramente un po' poche, a meno che uno non creda alle pentole d'oro alla fine dell'arcobaleno che vanno sotto il nome di Recovery Fund e devo dire una cosa che mi fa molto piacere e dalla quale sono grato è che siamo ospiti anche di Michele Di Liberioltri che hanno fatto un lavoro straordinario nel mobilitare energie, nel dare spazio a riflessioni critiche e anche alla possibilità di sperare in qualcosa di meglio per il tempo che abbiamo davanti e quindi grazie di questa ospettabilità e speriamo di fare tante cose assieme anche in futuro. Io ho una domanda per Michele. Siccome lui è un economista vero, diciamo non come quegli altri che ci sono qui, cioè ma è stagnaro che non siamo neanche degni di parlargli ogni tanto, ma ti volevamo dire… No, no, allora Michele ti faccio la classica domanda, ti chiedo la classica profezia. Una cosa che succede con la vecchiaia, posso interromperti, che ti vengono continuamente dei pruriti al naso, agli occhi, è saletato. Però lo sai che non ti devi toccare né gli occhi né il naso, stai già facendo una Io mi lavo le mani ossessivamente, sono una specie di vivi in lavatrice. Non lo so, non lo so, vero che voi l'acqua lavete, non è come qua. Allora scusa Michele, una roma, Michele. L'acqua del mare al massimo che poi… Si può desalinizzare, Alberto, si può desalinizzare. Michele, a te che sei, diciamo, un economista serio, una notizia buona è una notizia cattiva per il 2021, cioè una cosa facile, non è una cosa difficile. Una notizia buona è una cattiva, nell'ordine che preferisci. Una profezia buona. Ah, profezia, perché notizie, cioè non ho questa capacità… No, notizia, ieri non è ancora iniziata. No, infatti, notizia no, una profezia. Allora, vabbè, la prima notizia, zero, è che siamo ospiti di Liberi Oltre, si usiamo anche il vecchio canale mio, perché così per l'algoritmo di YouTube insomma abbiamo capito che conviene. Più canali trasmetti, più gente vecchia. E quindi noi piccolini… E una notizia buona, una notizia che ti ammazza, ma me la risa è difficilissima. Vabbè, dai, vai, cioè sempre noi ci siamo qua. E' una notizia che è più facile per voi con noi misti fare le profezie. Per gli italiani, allora, i soldi del recovery fund arriveranno, ma non serviranno di sicuro a pagare i bonus di questi quattro stronzi che governano. Posso dirti che non serviva? La prima notizia buona… Ma sono tutte e due buone. No, non serviva essere economista per una profezia del genere. Vabbè, ma noi abbiamo chiesto una cosa da razionale, non è che abbiamo chiesto… Ma lui mi ha chiesto una profezia così su due piedi, non me l'aspettavo. No, ma è bella questa cosa, perché sei riuscito a legare assieme una cosa che tu ti illudi all'inizio. Arriveranno i soldi, tu pensi già di averli messi in tasca, perché ricordo… Esatto, esatto. Io vorrei ricordare che l'obiettivo principe per il 2021 mio e di Carlo Stagnaro è non che spendano bene i soldi, ma che riusciamo a mettersi noi in tasca alcuni di questi soldi. Quindi lo diciamo ufficialmente. Il soffio nella doccia. Io puntavo tutto su una doccia, la doccia, la doccia, le esempi. La doccia. Ma se non hai nemmeno speed e quindi non puoi fare il cashback. No, l'ho fatto, l'ho fatto, poi l'ho fatto. No, io sono… Perché non ho fatto pubblicità invece con Luciano Gappone, ma l'idea è sua. Ieri abbiamo lanciato… Quello lo possiamo prendere anche noi, il bonus vaccini. L'abbiamo fatto? No, l'abbiamo fatto la puntata. Ah, avete fatto la puntata. Michele, io ho offerto pure i miei organi, ma non li ha avuti nessuno. Questo è stato… Abbiamo anche marmato il carattuale che hai offerto. Hai fatto la tua ricettazione e vendere i tuoi organi. Lei offerti… Ma è un contratto, è un future, hai venduto un future. No, cioè, quando muoio potete avere qualche resta di me che belli. No, io… Ti vende al mattino la fontana di Trevi, al pomeriggio al fegato, prende i soldi e scappa, cazzo. No, però io… Io pensavo avessi venduto i suoi riccioli beyond the future. No, io… No, quelli che li li ho venduti in the past. Le ho già venduti. Le ho già venduti. Per questo non ce li ho. Che pensavi? Ah, però non ce li ho. Tu che pensavi che fosse un fatto… No. Ma tu pensi che quando a mente l'ho conosciuto lo chiamavamo Candy Candy? Ecco, con questo potremmo anche intudere, effettivamente. Dicono… Io li ho conosciuto, perché sono otto anni fa, credo. Eh sì. Forse… Non mi ricordo. No, forse anche Alberto, ma… E devi uniformemente… Sì, sei abbastanza invariante. Sì, sì. Faccio schifo più o meno uguale. Però questo va bene. No, no, no. Grazie. Lo so che te piaccio. Però volevo dire anche, siccome io sono per il mercato degli organi, ribadisco la mia proposta. Cioè, se qualcuno vuole, io sono disponibile. Non è una cosa, diciamo… Dipende. Ci sono cose che si possono prendere, cose che non si possono più prendere, ormai sono andate da tempo. Ma quello è un altro problema. Quindi… Vabbè, ma tanto prima si fa una verifica. Ci vuole una verifica. Ci vuole una verifica, anche psichiatrica, in questo caso. Esatto. Comunque, allora, andiamo con ordine. Prima di tutto, giustamente ci richiamano dalla regia e ci dicono di invitare chi ci segue a mettere likes su qualunque canale voi ci stiate seguendo. Perché questo aiuta noi. Aiuta l'asta, secondo, andate. Ti vedo che stanno crescendo, siamo a 415, è un buon numero. Dai, dai, dai. No, no, bisogna far crescere, eccetera. E visto che abbiamo una serata molto densa, io comincerei con l'avvicendamento di persone, tanto sia Alberto che Michele, poi ci raggiungono anche dopo. Io non ho niente di intelligente a dire, ma beccato lì con la profezia. Dopo la profezia ti ha stroncato, dici. No, guarda, piccola cosa pubblica non ho mai detto, me la faccio con una forma di augurio. Spero di finire questo libretto di Economia Popolare, che me l'aveva ispirato, pensa un po', me lo ispirò Marco Ardemagni nel lontano 2012. Stavamo giusto mettendoci a scriverlo, che decide io di un giorno, gli dissi, ma scusami c'è un attimo, devo scrivere qua un proclamino, una roba che stiamo facendo con Sandro, si è giunto anche Stagnaro, c'è Giannino, eccetera, e il libro non è stato più scritto. Vabbè, allora era molto per l'oro, come sempre era per l'oro. E allora ciò che resta del PIL, capisci, andava bene allora, perché era stato pensato adesso fa meglio a corso. Adesso non resta un cazzo del PIL, quindi è un libro breve, vuol dire. Adesso credo che sia... Mi auguro, è questo il mio augurio. Tutte pagine bianche, vero Michele? Adesso sono tutte pagine bianche, ce lo sfogli come... Come perché il comunista... È un libro molto sintetico, tu lo fai? È come quello perché i comunisti hanno ragione, tu giri tutte le pagine e vedi che è tutto bianco, no? E questo è uguale. Va bene. Va bene, dai, andiamo avanti, vediamo una scaletta densissima. Grazie Michele, grazie Michele. Grazie Michele per la postulica benedizione che ci hanno dato, poi li ritroveremo entrambi di più avanti nella serata e la nostra serata comincia con un doveroso omaggio alle persone che, come si dice in questi casi, hanno reso possibile tutto ciò, mentre la siglione... Ah, bravo, bravo! Ah, la poltrona da Quindia, la Quindia! Lo sai che ce l'ha uguale a Balmoral Castle la regina questa volta? Anche la regina, tra l'altro, ha un'intera libreria dedicata all'articolo 16 della Costituzione. Ma, allora, la prima parte della nostra diretta è dedicata in realtà a ringraziare le persone che animano il lavoro dell'Istituto Bruno Leoni tutti i giorni, che quindi entreranno, faranno tutti un breve saluto, ma ci tenevamo a presentarveli. E quindi chiederei alla regina... Che bello dirlo, ho sempre sognato di dire una cosa del genere. E alla fine ringrazieremo la regia come nei migliori. No, ci hai detto, senza la regia già eravamo fottuti, senza la regia. Alcuno nei commenti ci chiede se c'è Arcuri, do una chicca domani, comprate il quotidiano di foglio, perché io e Amenta dibattiamo con Arcuri. Dibattiamo un parolone, rispondiamo ad Arcuri. Rispondiamo che risponde a noi, però, Arcuri. Rispondete a una sua risposta. E' lui che viene a disturbare, noi eravamo i fatti mossi, non si considerano. Credo che abbiamo in attesa qualcuno e chiederei alla regia di fare eccoli, eccoli. Ciao, ciao Giacomo. Ciao. Ciao, grazie alle cronache, ragazzi. E' l'evento mondano, seppur virtuale, del 2020. Vedi che hanno di merda. Dico, no, nel senso, dico, bene o male, se facciamo un'altra cosa, Giacomo era meglio. Dico, voglio dire, però, va bene così. Comunque, siamo un surrogato, un buon surrogato. Questo abbiamo. Sì, infatti non erano convinte. Posso dire, scusate, posso dire che invidio la poltrona di Serena in un modo incredibile. Cioè, vorrei averla anch'io una poltrona del genere, è una cosa fantastica. Mi dà l'idea di una poltrona meravigliosa. E' una poltrona che si abbraccia. Non è vietato ancora l'abbraccio della poltrona. E' che manca tipo il gatto da carezzare lì, proprio. Ecco. Per avere un potere pieno. Non ci manca il gatto. No, anche no. Vabbè. E quindi, chi sono Silvio e Giacomo? Sono due fellow dell'Istituto. Intanto ci ha raggiunto Giuseppe Portonera, che è un altro fellow dell'Istituto. Se voi andate sul sito dell'IBL, cercate i loro nomi, trovate interessantissime pietre miliari, direi, della storia del pensiero. In particolare, l'avvocato Boccalatte, autore di un evergreen sulle proposte di legge più idiote di cui si sia vista traccia in Parlamento. Già con il sequel di Giuseppe Portonera. Con il sequel di Giuseppe Portonera. Quindi, praticamente... Ma sei specialmente alimentare, che ce ne sono di bella. Ma Giuseppe, anche tu sei stato minacciato dai proponenti di queste proposte? No, prima te la sei cavato. Vedi che Giuseppe è siciliano. Prima di minacciarlo ci pensano, Silvio. Non è la stessa cosa, diciamo. Non c'è una differenza, capisci? Giustamente. Comunque Serena ci ha appena detto che se Giuseppe Portonera è Luke Skywalker, Silvio Boccalatte è Darth Vader. Mai ho avuto complimenti migliori di questo. Vabbiamo finita tutta per me, guarda, ho chiuso. Ha chiuso. Comunque, dai commenti ci chiedono di mettere all'asta la poltrona di Serena. Sì, senza Serena. Precisiamo che è senza Serena. Non vorrei che vi lo dette. La mando all'asta. Non vorrei che vi lo... La mando all'asta e vi dirò che ne ho due. Addirittura. Offrite, offrite che le mando all'asta. Ecco. E allora, ragazzi, scusatemi, io però... Una poltrona d'entrona, che è sotto lockdown. Io però chiederei anche a voi, diciamo, ognuno per quello che, diciamo, la vostra competenza, quello che fate, eccetera, eccetera. Per il 2021 che cosa vi aspettate? Non dite parolacce, non evitate chiaramente gestarci, gestarci, sia, siate quanto più possibile... Seri no, perché se ci sono io la vicenda non è seria. Ovviamente però, diciamo, ecco, da persone che per lavoro scrivono, studiano e così via, io mi aspetto quantomeno, diciamo, una parola di conforto. Giuseppe, cominciamo da te. Che ti aspetto? La parola di conforto sarebbe di dimenticarmi di questo acronimo terribile che negli ultimi mesi ci sta, anzi, un po' tormentando, che è di PCM. Proprio oggi, insomma, con Serena abbiamo fatto l'ultimo aggiornamento del barometro. Non ti vorrei... Scusa se ti interrompo, ma va dato atto, va riconosciuto, voglio ringraziare Giuseppe perché è il nostro ricercatore che sta dietro l'aggiornamento quotidiano del barometro delle libertà sotto il Covid. Quindi è quello... abbiamo anche pensato che le mostre del governo e le scelte continue di cambi e di fare e disfare di PCM siano fatte apposta per scassare, per rompere le scatole a Giuseppe che praticamente... Qualche sospetto viene in questo senso. Quindi diciamo per il 2021 recuperiamo un po' di questo termine che ai giuristi piace tanto, che è un po' di certezza del diritto per quanto possibile in Italia, mettere... Se l'avevamo gli estagnano sulla punta della lingua. Dopo c'era tecno del diritto, era una cosa che noi non avevamo. Io veramente sulla punta della lingua c'avevo paralipomeni della batracomiomachia. Esatto. E fosse più semplice da... non da dire, ma comunque da incontrare rispetto alla certezza del diritto in Italia. Quindi per il 2021 spero di mettermi da parte queste follie normative e governative più che normative. Giacomo, che ci racconti? Ma io... Ma il prossimo suicidio. Sì, infatti. Dopo la parola di PCM si è un po' abbattuta. No dai, io onestamente quest'anno sono rimasto piuttosto infastidito e alla fine resto un po' in tema, anzi però cerco di buttarla in politica. Sono rimasto piuttosto infastidito da due conte che appunto mi inceppano la vita seppur in ruoli diversi ma alla fine simili e quindi per il 2021 vorrei liberarmi se possibile di entrambi e data appunto la difficoltà politica di Draghi in politica la mia idea sarebbe Draghi, nuovo allenatore dell'Inter e a questo punto, come dire, per par condicio l'altro che a me piacerebbe vedere nell'Inter ma nell'Inter non trova spazio che è, chiedo scusa per i non calciofili Christian Eriksen, presidente del Consiglio che secondo me ha un bello standing per fare il presidente del Consiglio Sì, comunque ha la faccia di uno che si diverte molto Esatto Questo sarebbe il mio auspicio per il 2021 Mi rendo conto di essere stato un po' meno raffinato di Giuseppe ma nel resto, nel senso Infatti io l'ho apprezzato di più Devo dire, io a Boccalaccio, se parliamo di calcio condividiamo un periodo che è ancora più al cui confronto la situazione politica del paese è il Carnevale di Rio È un biju Esatto, esatto Silvio, che ci dici? Intanto salutiamo Paolo Belardinelli che ci ha raggiunto L'avete visto però L'onore È scondato dall'alone della forza, evidentemente Sì, no È anche scondato Luce, perché qua dicono che io giustamente ho poca luce No, ma sei al buio completo Dico, io c'ho i chiariscuri della tiglia Allora, mi devi dire che se l'era Se serena ha poca luce è come dire che il sole ha poca luce Boccalaccio Mettili a piacere questi screanzati Ecco, ecco Ma allora, io auspicandomi di base la salvezza del Genoa Perché Sì, vabbè, ma quello ci mancherebbe È un diritto umano Esatto E per cercare di essere positivi Io spererei che con questa Pandemia che ci ha Tutti un po' digitalizzati Si continuasse a digitalizzare Il processo civile E magari si riuscisse anche A digitalizzare una parte del processo penale Si confermassero le udienze in videoconferenza Che sono, secondo me, qualcosa di civile Dignitoso Si riuscisse anche a digitalizzare Pienamente il processo Davanti al giudice di pace E davanti alla Cassazione Beh, guardate L'unica cosa buona che io ho visto Dalla pandemia è Purtroppo attraverso norme d'urgenza Che peraltro sono a scadenza Scadono il 31 di dicembre Speriamo che vengano stabilizzate Speriamo che in qualche modo Questo possa aiutare a Modernizzare il processo Innanzitutto il processo civile Insomma, il codice È un codice del 1940 Rifatto più e più volte Però l'impianto è del 1940 Ecco, se usassimo questa occasione Per velocizzarlo un attimo Non sarebbe una brutta cosa Posso chiederti, Silvio A proposito di previsioni Carlo ha prima chiesto una previsione A Paul Drin Ne chiedo una a te Credi che sarà un gran casino Nei tribunali nei prossimi anni Per contestazioni Diciamo sui DPCM Non credo Credi che la gente Non credo perché ci sarà Non credo perché ci sarà Non credo che la pena Sì, cioè la gente Guardate che la gente sta obbedendo In gran parte E quindi io non sto vedendo Nei In realtà qua più che altro Nei giudici di pace Però io non sto vedendo Una particolare Un particolare fermento Su questo punto Non credo che sarà Allora, i tribunali Sono il regno del casino Sono già nel casino di loro Vivono nel casino Da decine e decine di anni Forse da millenni Non credo che questo Come dire Dia un casino differenziale Non penso proprio Ma credi che ci saranno Tanti ricorsi? Molti meno di quanti pensiamo La sensazione è mia Molti meno Perché la gente sta obbedendo Come tanti soldati Secondo me c'è un altro motivo Perché sotto sotto Diciamo le misure Deterrenti Per Paga subito Paga poco Funzionano, no? Ma non trovo che sia Una specie di ricatto? Lo dico Lo dico Lo dico veramente stagnaro Che di queste cose Non capiscono nulla No, no, no C'è Paghi subito Scusate C'è un famoso paper Che si chiama A fine is a price Quindi la sanzione Altro non è che Un prezzo Che uno è disposto A pagare Per non avere a che fare Con voi avvocati E siccome la sanzione Funzione in modo tale Che subito paghi Molto poco Rispetto a quello Che potresti pagare Che poi anche per spese Processuali La domanda cattiva Era questa Non credi Che le misure Deflattive Per il contenzioso Nascondano anche Un po' di ricatto? È una espressione Soft Cioè diciamo Chiamiamo le cose Con questo Potremmo anche chiudere Nel senso che È un espressione No, no, no Potremmo chiudere Dopo che sono stato Denominato come Darth Vader Per me Si può chiudere già lì Era già prima Paolo 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 Io prima Credo di essermi perso La domanda Ma se non l'ho capito male Parliamo di Visto che abbiamo Un limite Tanto qua è tutto Il bello della diretta Visto che abbiamo Un limite di accessi Alle persone Contemporaneamente collegate Salutiamo intanto Giacomo, Giuseppe e Silvio Così entrano Altri Altri Le altre persone Che stanno Ma quanto è professionale Quello Stagnaro No io È un presentatore Non ci arriviamo alle 11 Questa è la verità Grazie ragazzi Auguri Buona Buona partita Ragazzi È stato un piacere Ciao Grazie Ma sembrate Paolo e allora No la domanda era in realtà Che ci racconti per questo 2021 Che vedi Che travedi Che prevedi Serena scusa Ah ok Aggiungo perché Perché Paolo viene da Londra Ah Esatto Quindi è la variante inglese Paolo è la variante inglese Paolo è la variante inglese Ho già fatto il doppio tampone Sto tranquillo Vabbè non ti giustificare Perché questa variante è così È suddola Arriva Non arriva Tampone Ormai non si sa più Sta variante Come la devono utilizzare Non dire niente Che è meglio Una variante che fa notizia La prima variante che fa notizia Ma No della domanda Pensavo ci fosse L'obbligo di ottimismo Ma invece no 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 Perché C'è l'obbligo di provarci No perché prima sentivo Boldrino Ha parlato del recovery fund Dei soldi che arriveranno E che non basteranno A coprire i bonus Secondo me appunto Sarà un disastro Il 2021 Se guardo dal Regno Unito All'Italia Di Motivi per essere ottimista Parte il Milan Che vincerà lo scudetto Ma no Ma vedo difficile Però va bene Vai Quello Almeno si può essere ottimisti Sul resto L'auspicio È che A livello di offerta politica Si muova qualcosa Che magari Ci faccia Ben sperare Al momento Onestamente Non vedo Ma non guardare Serena Che ogni volta Si fa il discorso Che cambia qualcosa Ti tronca sempre Ma poi nell'anno Nell'anno in cui Persino Alle cronache Dal fronte Si è parlato In favore Delle mascherine Obbligate Che schifo Che schifo No Serena Ogni volta Che io Pavento Una possibilità Di cambiamento E di cose Mi dice sempre Quelle due parole Che sono fondamentalmente Andrà Andrà peggio Di quello che pensi No No Mi dici sempre Sei la parte razionale E mi dici sempre Parlamento Gente che non Non c'è Guardare Anche tu Eh Quint Anche tu E Sara E Sara Sara E Sara Ascoltari Che è la colonna Che è la colonna Di tutti i miei E noi siamo quelli Sì Siamo noi Esatto Non puoi La sicura Scusa Di quello che vuol dire Lavorare a casa Dacci Dacci tu Una ventata di ottimismo Sara Auguri Ciao 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 No scusa Ciao Il fotobombing È il bello Della diretta È il bello Della diretta E sta Ecco E sta arrivando L'altra colonna Degli Stutture Leoni Cioè L'uomo Dei libri Che qualità Infatti Hai i libri Dietro Non è finta Tengo a salutare Paolo Vabbè Se volete Una cosa Per i fatti Voi Serena Carlo Li lasciamo Ce ne andiamo Sara Dico Quindi Se qualcuno Vi risponde Maleducatamente Mandandosi a quel paese E' chiaramente Sara Se invece Cosa che fa Giustamente Con tutti noi E fa bene C'è un'innovazione Abbiamo anche La segreteria Telefonica Adesso In ufficio Con i momenti Dell'Affa Ci siamo fatti Un telefono Con la segreteria Telefonica Però a proposito Filippo Dici il primo libro Da comprare Nel 2021 Non solo Te lo dico Ma Lo faccio anche Vedere Il libro Oh E non eravamo Manco d'accordo Assurdo Guarda che Guarda che C'è C'è una qualità Questo Guarda Questo Si vede Sì Razzionalismo In politica E altri saggi Di Michael Occio Appena pubblicato Dalla nostra Casa editrice Quindi fresco Di stampa E Ho assolutamente Comprato E letto Ci vuoi ricordare In asta Quali sono i libri Diciamo Le edizioni Più recenti Che sono in asta Autografate Sì Beh Allora Abbiamo Delle edizioni Di pregio Che ci ha Gentilmente concesso Il professor Cubeddu Che ringraziamo E Quindi Abbiamo Degli testi Di Bastiat Delle prime edizioni Di Federico Bastiat Abbiamo Testi Un po' Più Recenti Ad esempio Di Luigi Einaudi E poi ci sono Testi Autografati Dagli autori Come Imon Butler Diedere Mekloski E Bert Mingardi E Matt Ridley Quindi Insomma Ci sono Ci sono libri Assolutamente Da giudicarsi All'asta Da comprare Poi Se uno le vuole leggere Ce li può anche leggere Anche ornamentale Uno se li mette alle spalle Anche per tenere il tavolino Quando balla Uno può fare quello che vuole Con i libri Qualsiasi Ci sono dimensioni diversi Ci sono dei Bravi Cose Sottili Quindi proprio Per tutte le necessità Esatto E visto che è stata Evocata Io direi E direi Di far accedere Dierdre Mekloski Che ci ha fatto Il grandissimo onore Di essere con noi Questa sera Quindi switchiamo Per qualche minuto In inglese Tra poco ci raggiunge Anche Franco Do Benedetti Hello Dierdre Not a great At least Obviamente Not Serena But just me And the other Carlo If you don't see I have the wrong camera Because my My camera That works better Than this Isn't working For some reason So I'm in my The important thing Is that We can Your help Salutiamo intanto Filippo e Paolo Ciao Ciao Grazie Auguri Diardre Being here Diardre Recently Wrote a book With Alberto Mingardi Which is also Sold On ebay Il libro di Dierdre Mekloski Con Alberto Mingardi In vendita Nell'ambito Dell'asta Dell'istituto Brunno In the book Diardre Is about The myth Of the Entrepreneurial State So Why do you Say The Entrepreneurial State Is a myth In a moment When everybody Seems Willing And happy To welcome The state Doing Everything Basically In our Society Well It's A It's A It's A myth Because The A state Or Our Political Masters Are Not Skilled At Having New Ideas Most Particularly They're Not Skilled At Having New Profitable Ideas Ideas That People For Goods Or Services That People Are Prepared To Pay For And That Means That When The The When the State Tries To Organize Entrepreneurship Or Invention It Does Usually A Poor Job I Mean It Seems Plausible To People That We Can Have This Kind Of Top Down Planning Of Everything I Don't Know The Supply Of Bread Or Or I Heard This Wonderful Fact That A Few Years Ago The Italian Parliament Was Considering A Proposal To Impose A License A State License On Pizza Cooks Which I Find Wonderful And It's Just Implausible That I Don't Know Some Some People In Rome Could Know What You Want This Afternoon In Your In Your Coffee And In Particular It's Implausible That They Would Know That They Would Know How To Invent Some New Kind Of Coffee So Didre Can I Ask You Something Because It Is Really Strange To Me The Fact That Until The Beginning Of This Pandemic And This Crisis Everyone Was Saying It Was Like The War So We Were Like Getting Used To The Fact That We Need That Let's Say A Pivotal Player That Could Be The Government Or The State Just To Be In Chief For Everything Just To Just As It Was During The War It Was Not A Surprise For Me That They Are Failing Because You Know We Always Know That The Government Is Not A To Do Things But How Can You Explain The Fact That Even When People Is Facing They Are Witnessing All These Failures By The State But They Are Still Believing That The Only Way To Go The Only Way The Only Exit From This Situation Is More And More State How Can Explain This Incredible Bias For Me It 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 Extremely Hard To Explain It For Italians Because Any Sentient Italian Knows That Lo Stato Is A Thief And An Idiot I Mean You All Know It Yet Italians Keep Voting For Larger And Larger States More And More Capable State Larger And Larger State Capacity As People Are Always Saying And I Think It's Because It's So Hard For For People To Get Out Of The Mentality Of The Household They Think Well Italy Is Like A Home A House And There's A Father In Charge Or A Mama You Know And They Tell Us Children What To Do And That's A Wonderful Experience That Most Of Us And We Don't Ever Get Over It We Still Think That The Top Down Family Type Organization Is What We Need Every Time You Know The Great American Journalist Of A Century Ago H.L. Mencken Said That 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 Democratic Politics Is The Art Of Frightening The People To The Point Where They Can Only Turn To The To The To The Politicians To Save Them You Know In The Case Of Actual War There Is A Lot There's A Lot To That Because War Has A Single Object Right To Prevent The Invading Force From Invading But Of Course That's Not True Of An Economy So Deidre Do You Think That Vaccine And The Extraordinary Effort Done By Pharmaceutical Sector Could Restablish Refound The Optimism A Pure Optimism In Science And In Entrepreneurship In This Moment For The Future I'm Not Sure I Heard All The Words That You Used I'm Not Sure Do You Activism Is That Vaccine And RESTABLISH The Truth And Optimism Through The Entrepreneurship And Science Well If We Tell That Story If We Tell The Story Which I Believe Is Correct That Something Like A Hundred Separate Attempts Worldwide To Come Up With A Vaccine Are Going On Right Now And These Are Mostly Private Enterprises Of Various Kinds Right They're Mostly Companies Or Small Laboratory Groups At Universities And If We Can If We Can Get People To Believe That That's Where The Vaccine Which Apparently Is Going To Solve Our Problem Comes From Then That Will Be A Victory For A Liberal Vision But Of Course The Politicians Like Donald Trump Want To Claim That They Are The Ones Who Saved The People Even If They Didn't This Is Routine So We Have To Get Control Of The Narrative We Have To Persuade People That It's The We Could Call It The Invisible Hand Or Spontaneous Order Or Anyway The Same Thing That Governs The Evolution Of The Italian Language Or Science Or Art Right The The Free Interaction Of Of People That's What Created This These These Vaccines And Did I Have A Question If You Were In Place Of Mariana Mazzucato Called To Advise The Italian Government About What To Do With The Immense Amount Of Money Which Is Coming From The European Union What Kind Of Advice Would You Give To Prime Minister The Money That's One Thing I I I I I I Unmuted Now Yeah I Say Give Back The Money Or If This Is Of Not Going To Happen Or Hand It Out To Italians You Know Randomly The The Danger With These Monies Is The Problem That The South Of Italy Has It Gets Vast Amounts Of Money From Rome Which Corrupts Its Politics Strengthens The State And Doesn't Help The South All That Much I've I've Driven In Sicilia And There Are Lots Of Autostrade That Go Nowhere And That's That's From Rome So Of Course It Will Be Grossly Misused She Wants To Use It I Imagine To Strengthen The Claim That The State Can Plan Innovation And Here's One Thing I Would Ask Her If She Were In The Room I'd Say Dear If You Think The State In Rome Can Govern Innovation Why Don't You Do It Why Don't You Open I Don't Know A New Pizzeria Chain Or Why Don't You Do Some Biological Innovation Or Help Finance It And Make An Unlimited Fortune A Long Time A I Wrote A Book That That's About The American Joke If You Are So Smart Why Aren't You Rich Which Is A Good Question To Ask Of Anyone Who Proposes To Plan Innovation I Mean It's Can When You Think About It It's Sort Of Crazy How Is The Italian Language Going To Evolve In The Next Century All Right If You Think You Know You Can Plan The Italian Language But Of Course That's Crazy The Italian Language Like Entrepreneurship In The Economy Is In It's In It's Essence In What The Word Means Practically Is Unpredictable Yes Thank You Okay Serena Go Go Franco De Benedetti Join Us Franco Dovresti Girare Okay Perfect So We Switch To Italian For A Moment And Then We Go Back To English For The That Now I Can't See Franco Anymore I Don't Know If You See Him So How Are You There Yeah Okay Everything Is Gone Okay We Can Hear You This Is Really Market Failure This Is Really Market Failure Mariana Mazzucato Should Come Over And Help Us Getting Out Of This Situation It Steve Jobs Falls I Think Franco Connecting By iPhone So I Okay Okay Franco This Is Perfect Ciao Franco Let's Switch To Italian For A Moment Franco De Benedetti Non ha Bisogno Di Presentazioni Buongiorno È Presidente Dell'Istituto Brunleoni Ne approfitto Per Invitare Tutti A Mettere Like Sui Vari Canali In cui Ci Stanno Seguendo Per Andare Sul A Partecipare All'asta Dell'Istituto Franco In Una Battuta Parlavamo Con Dirdre Mekloski Delle Ragioni Per Cui Le Tesi Del Sullo Stato Imprenditorio Sono Fallimentari Tu Hai Scritto Un Libro Pochi Anni Fa Dedicato All'insana Idea Della Politica Industriale Il libro Parte Da Una Constatazione Tu Sei Nato Contemporaneamente Al Liri Devo Dire Una Cosa Che Ho Paura Di Morire Prima Che Moria Liri Perché Liri È Rissuscitata Io No 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 La La Cosa Che Ci Pensavo Prima L'insana Idea Della Politica Industriale Era Sottotituto Dobbiamo Parlare In italiano In Inglese Parliamo Un Attimo In Italiano E Then We Switch Back To English For Last L'insana Idea Della Politica Industriale Corretto 3-4 Anni Sano Insana Era Ovviamente Una Metafora E Però L'idea Della Politica Industriale C'era Adesso Non c'è più La metafora Ma c'è la realtà Perché noi siamo In un momento Di Insanità Abbiamo La malattia Che gira Tra di noi Però Non c'è neanche Più L'idea Della Politica Industriale Quindi Questi Fanno Solo Casino Allora Non so Se Reddono L'idea Noi Siamo Adesso Insano Non è più Una metafora Ma è la realtà E non c'è più Neppure L'idea Della politica Industriale C'è solo Il lagare Dello Stato In sé E per sé Senza neanche Un progetto Solo Occupare Per occuparsi Perché Questo Evidentemente Perché abbiamo In Parlamento Una maggioranza Tra populisti E nazionalisti Evidentemente Il populismo È chiedere un po' Tanto al populista Di capire Una cosa Semplice E naturale Come il meccanismo Di mercato Perché proprio Non vanno insieme Un populista Non capisce Il funzionamento Automatico E semplice Del mercato E Gli altri Il nazionalismo Evidentemente Fuori lo straniero Prima di tutto Allora Io mi sto Dimandando Che cosa c'è Noi stiamo Assistendo A un Dilagare Della Se lo dice Molto bene Il dilagare Di regismo Che vede Nello Stato Nelle aziende Partecipazione Pubblica E nell'onnipresente Cassa Deposite Presti L'unica strada Per ritrovare La crescita Questo lo scrive Penati Il sabato scorso Su domani E noi Assettiamo Un dilagare Della Presenza Pubblica Come se non bastasse Che Quello che avevano già In pochi mesi Abbiamo Portato dentro L'ILVA Abbiamo impedito Che poi Di portare fuori Delle PS Abbiamo portato Dentro L'autostrade Porteremo Dentro Io ho ancora Qualche speranza Ma Si diminuiscono Ogni giorno La team E poi L'uso Che Viene fatto Di quei 20 miliardi Del fondo Che La Cassa Dei fondi Dei prestiti In uno Dei precedenti Decreti Era stato Autorizzato A mettere Questo qui Viene usato Per entrare Per portare Capitale Nelle aziende Ma Questo significa Entrare Nelle aziende Ora Questo È Questo Dilagare Quello che È un Dilagare Senza Senza Progetto Senza Senza Prima c'era Il ministero Delle partecipazioni Statali Che in qualche Modo Un'idea Ce l'aveva Qui Non c'è Neanche Più Quello Allora Io mi Domando Che Relazione C'è Tra Questo Dilagare Della Presenza Pubblica E il Covid Perché Non può Essere Casuale Secondo Me Sono Due Due Cose Una È Va In qualche Modo Il desiderio Del governo Di far Vedere Che Lui Può Che Che è Onnipotente Che riesce A Risolvere Il problema Risolvere Di Dare L'ultimo Aiuto L'ultimo Solo in ordine Di tempo Magari Forse L'ultimo All'Italia L'ILVA E così via E l'altro È Che Probabilmente Da parte Della Gente C'è Quest'idea Se salva L'ILVA Salverà Anche L'E E ho l'impressione Che ci sia Una Una Che Questa Che a tutti Faccia piacere Sapere Ecco C'è lo Stato Che può salvare L'ILVA Che può salvare L'Italia C'è un senso Di sicurezza Un senso Di sicurezza Franco Che dà Il fatto Un senso Di onnipotenza Che fa comodo A tutti E due Scusa Forse è sbagliato Però Non mi so dare Un'altra spiegazione Di questa coincidenza Tra Che pure c'è Perché non è solo Che abbiano vinto Che abbiano vinto I 5 Stelle E Salvini Le elezioni passate Ma Secondo me Con il Covid C'è stata Come dire Una maggiore accettazione Quasi un desiderio Di vedere Queste cose Ecco Ecco Scusa Prego No prego Tu mi hai ovviamente Ingettato la palla Dicendo L'insana idea Della politica industriale E chiaramente Chiaro che la vedo Come Tremenda Questa cosa Di questa Che poi viene fatto Anche Anche con Arroganza Guardiamo Vabbè Facciamo Gli esempi E poi Baccio solo Per da tempo Però Secondo me Non è ancora Non è neppure Questa la cosa Questo mi può Dispiacere Ma non è la mia Angoscia La mia angoscia È la RECOVERY FOND Scusami Franco Perdoni Prego Prego Scusami No no Il RECOVERY FOND Veramente È la cosa Che più Mi angoscia Perché io Ritengo Che con Un governo Con questa Con questa gente Che abbiamo lì Scusami Pardon Scusami Con il governo Che ci troviamo L'idea L'idea Che RECOVERY FOND Noi ci ritroviamo Alla fine Con Una Spesa Pubblica Non per Imprestimenti Ma una spesa Pubblica Corrente Aumentata E con Un debito Per i nostri figli E nipoti L'idea Che quindi Paradossalmente Il rischio È che abbia ragione Salvini Che avesse avuto Ragione Salvini Questa mi sembra La cosa peggiore Di tutto Darà la rovina Dell'Italia Perché ci sono tutte Le premesse Per fare Quando dicono Che noi usiamo Questi soldi Per spese Che erano già In corso Questo qui Vuol dire Direttamente Li indirizziamo Non so neanche Io speravo Perlomeno Che ci fosse Una certa condizionalità Dall'Europa Che ci obbligassero A fare le cose Un po' Questo invece Ho l'impressione Che si vada Proprio Verso la direzione Di usare Questi soldi Per le spese Non voglio dire Il bonus monopattino Ma insomma Per le spese Che poi Da spese Da cui come sappiamo Non si torna indietro Franco Scusa ti interrompo Perché abbiamo I tempi stretti So One last question To Dirdre And then We move on I mean Franco De Benedetti Just described The situation Where The entrepreneurial State That Will advance That we like It or not What Would you suggest Us To do To resist This This Phenomenon What Can you do And when we say When we say Us We think about People who are Concerned about Individual freedom Individual liberty So ask The people that Are here Together with you Well They aren't Concerned about Individual Freedoms Very much That's That's Our basic Problem That 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 Franco Is concerned With And I'm Concerned With it Most people Like to be Children And They Remember How nice It was To be a Child And they're Very liable To give away Their adult Liberties To the state As a Result They see No problem With this So I I like to Call Liberalism Adultism And That's All we can Do Is persuade All we can Do is Talk Although The People we Mainly need To persuade Are the Journalists To begin With But also The artists Particularly The popular Artists The Filmmakers The The song Composers And so Forth Because it's There Or There that The Ideology Whether A Statist Ideology Of Mazzucato Or a Liberal Ideology Of Franco And me That's Where It's Formed Thank you Thank you Thank you very much Deirdre And my first Shot tonight Is for you Thank you very much For joining us Tonight And I would like I would like to switch back to italian for a second Vorrei ricordare che il libro di Deirdre McCloskey Alberto Mingardi The Myth of the Entrepreneurial State È disponibile con Dedic Autografo all'asta dell'Istituto Brunleone I switch back to English So thank you very much Deirdre for joining us tonight And One very last question What do we expect Franco Franco ci sta facendo vedere la copertina del libro Grazie Franco What do we expect In the United States With the Biden administration From the point of view Of state interventionism in the economy Just a very quick answer If you can Well It'll There'll be more state intervention But I I'm not a I I didn't like Trump at all I think he's a fascist Or He's He wants to be A fascist And Of the possibilities Biden Is pretty good He's gonna There's gonna be more Regulation For I don't know The environment But By the standard Of A complete Overturning Of American Democracy Which is what A second term Of Trump Would achieve I'm glad I always vote For the libertarians Right This Small party But this time I voted for Biden Okay Quite Quite A bold Statement Thank you Very much Deirdre Thank you Thank you Greetings From Michele Boldrin Greetings From Michele Boldrin How are you Dear Thank you Very much Deirdre Bye Ciao 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 Credo che abbiamo Spazio per un'ultima Considerazione di Franco Mentre ci stanno raggiungendo Gli ospiti Del prossimo panel Qualcuno c'è già Quindi se vogliamo Possiamo farlo entrare E Franco Come Così Un pensiero conclusivo Rispetto Salutiamo Francesca Baraghini Ciao Ciao Francesca Ti dicevi Perché ho tagliuzzato la voce Ti dicevo Un Un ultimo pensiero Prima Prima di salutarci Anche rispetto a quello Che Che diceva poco fa Dirdre Meklowski Come Diciamo Ha 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 temperato un po' Il tuo pessimismo Oppure no No Diciamo No Temevo la risposta Di Franco No La risposta è no No Voglio dire Il pessimismo Sulla Cioè Io credo che Il paese È Abbastanza Forte Da superare Il Le difficoltà Relative Alla Di conseguenti Al covid E così via Ecco Col 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 recovery fund Corriamo veramente Le risposte Oddio Adesso Per lo meno Questa cosa Che Della piramide In cima Conte Che comandava I suoi manager E le 900 persone Credo che questo Per lo meno adesso Sembra non sia più Si è scampato Questo Probabilmente Ci sarà Un maggior Intervento Dei ministeri Che sono gli unici Che possono Agire Ma quello che Vedo è che La mancanza Di idee E quelle poche Che ci sono Sono sbagliate Perché l'unica cosa Che ci può salvare È il mercato E questo Il mercato Non lo capisco Mi sembra Mi sembra Perfetto Una parola di Conforto Vabbè Era giusto Così Che non si poteva Uscire Da questo tunnel E quindi Non siamo usciti Diciamo completamente Però Cambiamo Ora cambiamo Il registro Mi raccomando Perché ora Ci tenete Che prima Non è stato Diciamo Un fiorire di ottimismo Però Adesso Come va l'asta Prima di tutto Sì Ma Se qualcuno Ha fatto offerte Su di noi Questo era Quello che mi interessava O nonostante noi O nonostante noi Nonostante noi Mi raccomando Vi ricordiamo Che stiamo facendo Questa live Un po' Per salutare Tanti cari amici E ospiti Che adesso Saluteremo Quelli che sono appena arrivati Ma anche Per chiudere L'asta IBL Quindi Non vi dobbiamo Distrarre troppo Dal vostro principale impegno Che è quello Di andare su ebay E fare offerte Ai migliori prodotti E intanto Migliori prodotti Ci siamo noi Voglio ricordarlo Perché tu Era Ai migliori prodotti Più noi Esatto E proprio per distrarre L'attenzione da noi Abbiamo cercato di Coinvolgere Tanti amici Tanti ospiti E in questo panel Abbiamo invitato Tre amici Che fanno lavori Molto simili Ma in modo Molto diverso Francesca Baraghini È una giornalista Televisiva In realtà Alle spalle Ha anche esperienze Sulla carta stampata E in radio Ma oggi Come dire Un noto volto Televisivo E a dispetto Delle sue Discutibili Gusti calcistici È uno Dei Molti Assolutamente Emergenti Della Televisione Di oggi Alessandro Masa Di cacarlo Eh vabbè Non importa Te la ricordo Vabbè ma ora Sempre sti dettagli qua No poi qua Andiamo avanti Alessandro Masala Ti posso definire Uno youtuber? Sì Sì Voglio vedere Adesso come mi presenti Dai dai Fammi vedere Alessandro Masala È l'uomo Che suscita Tutte le nostre invidie Perché riesce A spiegare bene Le cose In modo semplice A entrare su temi complessi E a farsi ascoltare Da numeri Assolutamente pazzeschi E Claudio Cerasa È il direttore del foglio Quindi il direttore Di un quotidiano Eh Di opinione Diciamo così Un quotidiano Eh Molto politico Nel senso Del Della funzione Che svolge Che cerca di svolgere Nel paese E quindi sono tre Protagonisti Dell'informazione Eh Del mondo Dell'informazione Che da punti di vista Differenti Eh Vivono e raccontano Tutto quello Che noi Viviamo E E osserviamo Quotidianamente Tra cui Il Eh La fine La presunta fine Del pensiero unico Neoliberista Il dominio Del pensiero unico Neoliberista Eccetera Eccetera Che non c'è mai stato No Lo volevo dire E io Partirei proprio Da Alessandro Da questo punto di vista Tu che sei bravo A spiegare le cose Se dovessi spiegare Cos'è il pensiero unico Neoliberista Anzi Se c'è il pensiero unico Neoliberista Cosa diresti Ma guarda Secondo me La questione Ti dico una cosa Quando emergono Le questioni Diciamo Eh Puramente economiche Però proprio Nel senso alto Del termine Quindi Quelle che dividono La gente No Che immediatamente Tu dici una cosa Eh Affronti una notizia Eh Cioè lo sapete anche voi Le persone si spaccano Immediatamente E dicono Ah ecco Quello è liberista Questo è il liberismo Questo è il neoliberismo Che nuovamente Si infila No Tra le maglie Della società Per distruggerla nuovamente Come già l'ha distrutta In passato Eh Ma credo che sia In realtà Un po' una risposta Come spesso le cose Vengono affrontate Dall'alto Perché Se tu riesci un po' A liberarti Da Dal Dal pregiudizio Che ti viene immediatamente Messo addosso Perché poi È un vestito Che la gente Ti cuce addosso Difficilmente uno si presenta E dice Ciao Sono Sono liberista E Ho intenzione di Eh Espandere il verbo Del 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 neoliberismo Eh O del pensiero unico Neoliberista Eh E riesci ad affrontare La questione Sotto un punto di vista Più pratico Eh Immediatamente Questa Questa cosa Si sfarina Cioè Si vede proprio Che dietro Non c'è in realtà Un Un approfondimento Sulle cose No Le persone In realtà Faticano addirittura A capire Che Spesso il liberismo Si Si Contrapone Allo statalismo Eh Invece Il liberismo Viene inteso Più come Ah tu sei quello Da par Che sta Quei ricchi No c'è ancora Questa Molto Questa Questo Affrontare la questione Le questione economiche In maniera Un po' come affrontiamo La politica Però noi ci stiamo Però noi ci vogliamo stare Con il ricchio Perché è meglio E che è meglio i ricchi Dei poveri Nel senso Che più ricchi ci sono Meno poveri ci sono Questo dobbiamo spiegare Più ricchi ci sono Meno poveri ci sono E meglio è Questo diciamo era Però è così Ma perché il discorso In realtà il discorso È un po' quello che faceva De Benedetti prima Perché stavo ascoltando Cioè Questa cosa del senso Di sicurezza Che lui Di cui lui parlava No Lo Stato come senso Di sicurezza Secondo me È vera Nel momento in cui Tu invece dici No guardate Secondo me Ad esempio Questa cosa Che il governo Sta facendo Non so se volete Nel dettaglio delle cose O parlare Di massimi sistemi Ma se Questa cosa del governo Non funziona Non è perché Il governo Non è perché siamo cattivi E diciamo che Siamo contro Le persone che verrebbero Aggredite Da una maggiore Un maggiore movimento Del mercato Una maggiore competizione Del mercato È perché Effettivamente Poi Tutta la comunità Viene danneggiata Da certe politiche La controrisposta È sempre quella lì Cioè tu vai a cercare Il senso di sicurezza Dello Stato Che dice No 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 Stai tranquillo La tua posizione Non verrà toccata Il tuo lavoro Non sarà messo In discussione Non dovrai tu stesso Metterti in discussione E il discorso è quello No E quindi Cioè Si contrapone Questa Quest'idea Dei ricchi Come cattivi Che vogliono mangiarti Vogliono comprarti Vogliono distruggerti E guarda Da caso Sono sempre All'estero Sono sempre Figure Altissime Che sono difficili Da raggiungere Soros E si contrapone Allo Stato Che invece è buono E ti vuole proteggere Perché lo Stato È vicino È amico Ed è molto Viene Percepito Molto più Caloroso E affettuoso Di quanto non possa essere Un Soros Un Gates Ma che poi Non si capisce Che lo Stato Sono i politici Cioè Quando uno dice Lo Stato mi deve aiutare Uno ci crede I politici Mi devono aiutare Si mette a ridere Ma sempre gli individui Non vede un po' Un bario Perché tu stai Contrapponendo Soros Che quindi è una persona Cattiva A Di Maio No Alla bandiera italiana Perché se tu dici No 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 Mi aiuterà Di Maio Lì il discorso Cambia La gente dice No 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 Aspetta Mi aiuta Conte Mi aiuta Salvini La grande Leggione dello Stato Io Però aggiungerei A quello che Che dice Alessandro Su Sulla La ricchezza Come nemico Un'altra questione Storica Almeno per l'Italia Che Vorrei girare A Claudio Claudio Il foglio Credo abbia ospitato La prima rubrica Tutta colpa Del liberismo Che curava Luciano Capone Che poi Verrà anche lui E Lo diciamo così Scappi prima Claudio Sì Lo vedo tutti i giorni La questione Dal punto di vista Concettuale E Secondo me Non c'è soltanto Una contrapposizione La ricchezza Come nemico Ma La falsa Contrapposizione Tra libertà E uguaglianza Che ha solcato Il dibattito Culturale Italiano Dagli anni Sessanta Settanta Soprattutto In poi Voglio chiedere a Claudio Che appunto Ha ospitato per primo A tutta colpa Del liberismo Se crede che Dal punto di vista Anche mediatico Di operazione Vettuale Intellettuale Quella che fa Il suo giornale Ci sia ancora Tanto da fare Per far capire Che le idee liberali Non hanno come nemica L'uguaglianza Ma L'elemento Spassoso Perché Meglio riderci su Che pianderci su Delle polemiche Sul neoliberismo È che Il neoliberismo È come se fosse L'unica teoria Complottista Di cui si può discutere Tranquillamente A cena Senza essere presi in giro Da tutti quanti E se ci pensate Chi è che Si appella Alle minacce Del neoliberismo Al dramma Del neoliberismo C'è un Troppo sono tanti Che vendono Un mondo Che non esiste Si sono immaginati Un mondo Simile a quello Che si immaginava Con un tempo Di Trillini Con le scie chimiche O che si immaginano Tante altre persone Quando parlano Non so Dei Complotti Pluto Giudaico Massoni C'è più o meno La stessa cosa Un pochettino Più sofisticata Si identifica E lo schema È esattamente È chiaro Si crea Un nemico Che non esiste Lo si Descrive In una maniera Un pochettino Superficiale Ma dandogli Una cornice E poi Si scaricano Tutte le proprie Frustrazioni politiche Di estrema destra Di estrema sinistra E non solo Su quel tipo Di concetto lì Quando noi abbiamo fatto Quando è Nel 2015 La rubrichina È colpa Del mio liberismo Ci siamo Molto divertiti Perché abbiamo visto Che le teorie Contro il mio liberismo Sono portate avanti Da Destra Sinistra Cioè Tutti coloro Che in qualche modo Vogliono Criticare Un Qualcosa Che ci si è Pensato Nel passato Ma che non c'è mai stato E quindi Questo è Il filo conduttore E poi Il grande paradosso È che magari Cioè Tutti quanti voi Che parlate Cercate Euricamente Ogni giorno Di spiegare Perché Purtroppo Non c'è mai stata Una Minaccia Neoliberista Nel nostro mondo Non fate altro Che ricordare Che in fondo Tutti La libertà Che porterebbe In qualche modo Una rivoluzione Neoliberista In realtà Non c'è Non c'è mai stata E Tutti alla fine Che cosa vogliono In un modo Di un altro Quando dicono Occhio al mio liberismo Occhio al mio liberismo Vogliono un po' di Stato in più E farlo in un paese E farlo in un paese Come l'America Ok ci può stare Farlo in un paese Come l'Italia Dove Non è che Come sappiamo Lo Stato Abbia un peso Così poco Importante È semplicemente ridicolo E la cosa Preoccupante Anche della fase Politica E culturale Dei prossimi mesi È che La dottrina Contro il mio liberismo Sentite Mio figlio Intanto che Protesta Giustamente Protesta Contro il mio liberismo Claudio Anche lui S'attento Che cominciano Così Troppo il mio liberismo Troppo il mio liberismo E Sono tutte questioni Che ovviamente Verranno riportate avanti Perché Perché si dirà A caso il mio liberismo Noi dovremmo Assolutamente Togliere Altro spazio Liberisti Cattivi E priorizzatori Mentre invece In una fase Come questa In cui lo Stato È ritornato E sta tornando In maniera Molto molto Prepotente Avere E legittimare Anche la cultura Neoliberista Sarebbe Straimportante Perché Garantire Libertà nel futuro È impossibile Capire Quali sono Gli accessi Dello Stato Dei prossimi mesi Io Ho una domanda Mi sembra che però Non ho risposto A tua domanda In maniera brillante No No Perché non hai risposto Sì È tutta colpa Del neoliberismo Di fatto hai detto È tutta colpa Del neoliberismo È verità Anche la connessione Che funziona mai È colpa Del neoliberismo Quello è lo stato Innovatore Della Mazzucato Ti devo Ti devo Ti devo Ti devo Correggere Francesca Io Siccome I miei due Compagni di viaggio Serena e Carlo Mi hanno Ridotto A questo ruolo Da Gigi Marzullo Lo devo dire Mi hanno fatto fare Una domanda iniziale Del tipo La vita è un sogno È un sogno È un sogno da vivere meglio A Michele Boldin Che ancora mi sta cercando Che resta ragione Però volevo Farti una domanda In realtà Diciamo che Mi interessa particolarmente Perché è stato Chiaramente Definirlo un anno complicato Mi sembra riduttivo No C'è il famoso proverbio cinese La maledizione cinese Che tu possa vivere Tempi interessanti E noi ci siamo finiti Tutti Diciamo Con i piedi Ecco Che cosa ha significato Il 2020 Per il giornalismo Per chi Come te Si occupa Di notizie ogni giorno E quindi Non solo quali difficoltà Ma soprattutto Quali temi hanno In qualche modo Anche fagocitato Non solo il covid Ma una serie di cose Accorollate E quindi forse Reso più difficile Anche la possibilità Di variare Sul tema E dare spazio A notizie importanti E poi ti devo chiedere Che cosa ti aspetti Al 2021 Perché ormai La mia domanda Alla Margiullo La serata Andrà avanti così Francesca Ho detto giù il cane Perché mi sta distruggendo Casa Il cane Ricordiamolo Che è importante Perché poi Torno Lockdown Una cosa Uno c'è il cane Io ce l'ho E a tutti Mi faccio di tutto Per poter uscire Mi sono organizzata Come vedi Mi fai due domande Forse la seconda È più difficile Della prima Nel senso che Cosa mi aspetto Di essere all'altezza Di esprimere desideri Perché mai come quest'anno Mi sono resa conto Che se è vero Che l'uomo Può creare La propria realtà È molto difficile Sapere esprimere Il desiderio giusto Quindi mi auguro Che sia all'altezza Anche per gli altri Poi vabbè Bisognerebbe discutere Sul fatto che Mi aspetto Che la paura Non prevalga Che Si smetta Di parlare Di morti ogni giorno Perché Anche oggi Si parla di calo Dei contagi Ma ci sono tanti morti In tante regioni E questa quindi Non è una buona notizia In tutto questo Faccio un passo indietro Nel senso che Praticamente Quest'anno Mi sono resa conto Di quanto sia Complicato L'equilibrio Che c'è Tra il dubbio E il sospetto Nel senso che Abbiamo sempre parlato Di fake news Perché ogni giorno C'era un dubbio Un sospetto Che poi si trasformava In una notizia falsa Ma aveva qualcosa Se vogliamo di vero Cioè partiva da un dubbio Quindi da una domanda Poi non sta tanto Al giornalista Ma sta agli esperti In questo momento storico Spiegare le cose Il giornalista Intercetta gli esperti giusti Tra il dubbio E il sospetto Adesso Insomma C'è un equilibrio Un po' scarso Quindi È più facile Che le persone Sospettino di tutto Anche dello Stato Per tornare poi Al tema del neoliberismo E quindi Quando c'è sospetto È molto difficile Poi scardinare Dare una risposta Con tutto Che è un momento Di grandi parole Opinioni Non troviamo più L'opinione brillante Soltanto La troviamo L'opinione brillante Sul quotidiano Ma c'è parecchio commento C'è soltanto commento E quindi Non credo Che inventeranno Un vaccino Per linfodemia E ormai Siamo dentro Siamo dentro Fino al collo Questa cosa qui Dove tutti pensano Prima era una questione Di bar Di calcio Tutti sapevano Adesso è una questione Che riguarda La salute delle persone E È giusto Personalmente Credo Porsi il dubbio Delle cose Quindi anche Anche il negazionista Parlarci Come dire È costruttivo Non sono loro Il vero problema Il problema In questo momento È che Che la gente Si è stancata Di sentire Un giorno una cosa Un giorno un'altra Quello che sta capitando In queste giornate Dove abbiamo Praticamente Se dovessi spiegare Quali sono i divieti Noi da domani Da dopodomani Partiamo con il lockdown Arriviamo fino al 28 Poi abbiamo tre giorni Di libertà Poi torniamo in lockdown E poi abbiamo di nuovo Un 4 e 5 Di nuovo arancioni Dove ci muoviamo E così è un po' incasinato Cioè serve un Un tabellone sul frigo Yogurt, latte Oggi si esce Domani non si esce Dunque Deve essere molto difficile Essere Essere in questo momento Al governo Prendersi la responsabilità Di alcune cose Perché Nessuno è preparato Per un'epidemia Che diventa pandemia Però è vero anche Che manca un po' di chiarezza E ci sono troppe informazioni Qua e là E troppe opinioni Nello stesso giornale O televisione Possiamo trovare Un esperto Che mette in discussione Il vaccino Nel momento in cui C'è una Una mutazione Del virus Come per dire Vedremo cosa succederà E viene interpretato Come negazionista E prima pensavo Che ogni passo nostro Non giornalista Ma di essere umano Fosse un passo politico Adesso che la politica In generale Nel mondo Un po' in crisi Mi rendo conto Che è molto di più Un passo economico Tutto quello che facciamo Durante il giorno È un passo economico Muta un virus A settembre Mentre noi stiamo parlando Di banchi a rotelle Se ne accorgono Per prima loro Perché hanno messo in piedi Un sistema Molto più grande In tutta Europa Per mappare Il genoma Del coronavirus Sembra che sia partito lì E intanto siamo Al 22 di dicembre E loro sono In quella che si chiama Bricksmas Cioè Un accordo natalizio Sulla Brexit Che Boris Johnson Isolato o meno Adesso Probabilmente Accetterà qualcosa Non ho idea È un passo politico Tutto quello che Tutto quello che facciamo Bisognerà capire Nel 2021 Se sarà un passo Se rimarrà Un passo Economico Scusate Non politico Così Perché sarà tutto Sarà tutta una rincorsa Economica O se veramente La politica Rimarrà sempre un passo indietro Perché non è Non è all'altezza In certi momenti Ecco Volevo chiedere Nel Stato Non mi ha gettato Nello sconforto Sta cosa del calendario Perché pensavo al golf Invece mi ha fottuto Che non posso andarci Perché non si capisce più Quando posso E quando non posso più Vabbè Pazienza Queste cose da vecchi Ecco Ecco Io me ne vado Ma come si Ma non è una cosa da vecchi È una cosa da gente Un po' in là con l'età Non è Da vecchi Da vecchi Da vecchi vecchi Volevo chiedere Una cosa ad Alessandro A proposito di Quanta responsabilità Anche su chi fa Informazione Chi la fa con I mezzi tradizionali Come Francesca E come Claudio Ma anche con I mezzi più giovani Come Alessandro L'enorme responsabilità Che avete in questo momento Anche di Selezionare La Corretta informazione La veridicità Quella che con il linguaggio Dei miei colleghi Si chiama La veridicità Delle notizie E E Soprattutto Quando vengono Da esperti Noi abbiamo Visto Abbiamo capito Che non basta avere Una laurea in medicina Per essere esperto Eh Di Di virus Non basta Non bastano tante cose Per essere esperti Come Come fai Tu Volendo Una domanda Che si può fare Anche a Claudia A Francesca Ma come fate A Cogliere A fiutare La competenza Ed anche L'onestà Intellettuale Per settori Che sono Molto Specialistici E come fate Poi a farne Una sintesi Che sia Veramente Utile Per noi Comuni mortali Io Credo Che il discorso Che si rallassa Un po' Il discorso Che fa C'è la Francesca Sulla fiducia Non è tutto Un discorso Di fiducia Io Devo dire La verità Mai mi sarei Aspettato Che di fronte A una pandemia Ogni gruppo Politico Avrebbe avuto I suoi esperti Che dicono Delle cose Ad altri esperti E lo fanno In televisione Di continuo Cioè È proprio Una roba Che davvero Non mi sarei Aspettato E quindi Ovviamente Un pochino Ci rimani Perché Di fronte A una materia Che dovrebbe essere Quella degli esperti Ti aspetti Che gli esperti Almeno Io mi sarei aspettato Che parlassero Con voce Univoca Invece Non è stato così Quindi Il discorso Che Cioè Io ho affrontato Il discorso Pandemia Come affronto Qualsiasi altro Discorso Cioè È un discorso È una questione Che di fiducia Che leghi Alla community Che ti segue O ai lettori Che hai Insomma Dipendentemente Da chi sei Ed è un discorso Di metodo Cioè Invece Invece di Mettermi Io A decidere Quali siano Effettivamente Le voci Pi' autorevoli Perché La medicina Non è la mia Expertise Non è esattamente Quello che So fare io Quindi Non sono titolato Per decidere Quale degli esperti Si stia comportando meglio E stia dicendo le cose Più corrette Anche perché Spesso non è una questione Di correttezza Delle cose che dici Ma di quando le dici Di come le dici E dell'effetto Che le cose che dici avranno Sulla popolazione Ne faccio sempre un discorso Di Approccio alle notizie Quindi Il fatto che Io Ho iniziato a fare Notizie dal basso Quindi Ponendomi come una persona comune Non dall'alto Dicendo Questa è la verità Abbiamo fatto delle ricerche E questa è la verità Ma Il mio discorso è sempre Abbiamo fatto delle ricerche E viste le nostre esperienze E noi siamo arrivati Più o meno qui Questo è il percorso Che abbiamo fatto A voi risulta Cioè più o meno La filosofia è quella Questo è il percorso Vi facciamo capire Come siamo arrivati A decidere Che questa cosa Ci sembra più Plausibile di altre Però è tutto lì I dati sono lì Quindi Tutti quanti Vengono sempre Rindirizzati A fare un discorso A un percorso Simile al nostro Di ricerca All'indietro E poi c'è il discorso Della fiducia Cioè effettivamente Questo è un momento Nel quale nessuno Si fida di nessuno E quindi tutti quanti Si trovano Un padrino politico E quel padrino politico Quella bandiera politica Ha i suoi esperti E quindi io arrivo E dico Crisanti ha detto questo E un altro Arriva e dice Invece Gismondi Ha detto quest'altro Perché sostanzialmente Si ritorna sempre A una questione Di che cosa Conferma Il mio bias iniziale Quindi Il discorso è proprio Spacchettare I bias iniziali Precostituiti Io ho trovato Il modo di farlo Ponendomi Come una persona Comune Quindi non Cioè Dicendo da subito Che non ho cose Da insegnare a nessuno Che non ho Che non voglio Dire alla gente Come le cose stanno Ma semplicemente Mostrare un metodo Di ragionamento E credo che questo Modo di Porsi Un po' umile Sia quello che Per me Un po' ha funzionato Dico un'ultima cosa Su questo Poi smetto All'inizio Quando ho iniziato A fare questo lavoro Cioè Prendevo le notizie Dai giornali Facevo molto approfondimento Leggevo molta stampa estera E facevo anche io Questi grandi discorsi Sulle cose Che vediamo giornalmente Sui giornali In tv Nel dibattito pubblico In genere Poi Finiva tutto Andavo a casa Mi confrontavo Con le persone comuni Normali E tutti I ragionamenti Arzigogolati Che magari io Avevo fatto Si scontravano Con la realtà Delle cose Cioè Le persone Volevano semplicità Parlavano di semplicità E se tu iniziavi a fare Discorsi incredibili Su Come potrebbe funzionare Un virus Perché Per come Nessuno Ti segue Quindi io Trovavo Mi chiedevo Perché Devo fare online Una cosa Che poi Nella vita reale Non funziona Le persone Si annoiano immediatamente Perché Sbagliavo L'approccio L'approccio Era invece dire Ho letto E sentito Questa cosa Ho approfondito E ho scoperto Questo Mi sembra plausibile Che da A Si arrivi a B E poi si arrivi a C Che ne pensi? E così Ho scoperto Che le persone Effettivamente Tendono a Non partire Con la guardia alta Ecco Questo È il modo Che io Ho trovato Anche Nell'epidemia Vedi Per questo Mi tengono Serena e Carlo Per abbassare Un poco Mettermi più a livello Però Non abbiamo Lo stesso successo Tuo Diciamo Ci speriamo Senti Claudio Io a questo punto Però una domanda Te la voglio fare Vole approfittare Che andasse via Serena Ma invece resta E adesso mi rimprovererà Sicuramente Dicendo che faccio sempre Ah ecco Se ne va un attimo Così ti posso fare Questa domanda No puoi andare Ah Così sono libero Allora Adesso quindi possiamo Parolacce Perché se no ci rimproverà sempre Claudio Vi sento Mi lo sapevo Sempre presente No Quale Io Sto in serie C Sono messo malissimo E lo toga anche tu E quindi Anche io Anche io No Dimmi una cosa Siccome io ho un solo sogno Io Non ho Non ho più niente Il golf me lo stanno levando Ho un solo sogno Io non voglio vedere Conte Presidente del Consiglio Raccontami In poche battute Se ho questa speranza Oppure Dovrò morire Prima ministro E doveva morire Il democristiano Poi ministro E doveva morire Il tedesco Poi bisogna stare a giocare A golf Non c'ho più l'Inghilterra Ma Conte Me lo leverò Da davanti Oppure Ti rispondo Con una domanda Ma sei proprio sicuro Di quello che stai dicendo Che uno Che uno Stai attento A ciò A ciò che desideri Potrebbe avverarsi Esattamente Esattamente La domanda è No Secondo me È assolutamente No Per te E anche per Carlo Sarà uno sconforto Totale Per voi Noi liberisti Per noi Pragmatici E realisti È una notizia invece Accettabile Perché Però No Mi spiego Allora Non penso che nessuna persona Al mondo In Italia Consideri Il presidente del consiglio Attuale come Il presidente del consiglio Dei sogni Ma quando si Si ragiona Politica Bisogna anche Pensare A ciò che si vorrebbe Quindi Il mondo dei sogni Ciò che si potrebbe avere E ciò che si ha Noi Ci dimentichiamo Spesso Che questa Legislatura Ci ha regalato Il Parlamento Più folle Della storia Del Del mondo Forse Non penso che I 5 Stelle Al 33% La Lega Che ha superato Forse Italia Cioè Vi ricordate Che cos'è Il 4 marzo 2018 Noi abbiamo rischiato Seriamente Di avere Un governo Che con questo Parlamento Ci poteva portare Tranquilamente Fuori dall'Europa Fuori dall'Euro Fuori dalla Nato Cioè Fuori da qualsiasi Qualsiasi cosa Ora Quello era Ciò che si poteva avere Ciò che si voleva avere Naturalmente È È diverso È Che costituisce Un sogno Un ideale Ma tra questi due elementi C'è Ciò che possiamo avere E in questo momento Credo So ovviamente Che il mio giudizio È Non Non oggettivo Ma è soggettivo Che si invasa Su una valorazione E che ciò Che si potrebbe avere Ora In alternativa A quel che abbiamo Potrebbe essere Infinitamente peggiore Rispetto a ciò Che in questo momento Noi Stiamo osservando È uno scioglilingue È un gioco È un gioco di parole Ma dice anche Credo A me Da mio punto di vista E anche Da punto di vista Del mio giornale È Un qualcosa Che credo sia Abbastanza Veritiero Perché Probabilmente Tutti noi Che stiamo Carcando in questo momento Vorremmo un governo Più sensibile Alla concorrenza Più sensibile All'apertura Del mercato Meno Salarista Che non nazionalizza L'Italia Che non nazionalizza Tutto quello Che gli capita Sotto le mani È Ovvio Ma Oggi Quel governo Esiste nei nostri sogni Ma non c'è Nella realtà Quindi Bisogna Credo Ragionare Su ciò che si ha E bautare Da ciò che si ha Il meglio Di ciò che si può Ottenere Quindi la risposta è Nelle Nel miglione Nelle miglioni Dell'ipotesi Non ci sarà più Il governo Conte Perché ci sarà Un altro governo Non ci sarà Un altro governo Conte No il terzo No io prima di lasciare A Carlo La domanda La domanda A Francesco No più che altro Voi capite perché bevo Io sto peggiorando Per questo Perché se poi Alla fine No sì Alla Al governo Conte Io brindo al governo Conte Che devo fare A Rosè A Rosè Tra arancione e giallo Io c'ho un idea A scarosco arancione Io c'ho un IPA Va bene così Carlo 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 ma che mince fai Io ho capito Allora Quella è benzina però Si Quella Si dà fuoco Benzina Per favore Dico Fai una domanda a Francesca De Censi Non come quella mia Allora Io provo a fare una domanda intelligente Buona stessa Allora Ieri sul foglio Claudio Cerato Come? No sono nella repubblica del popolo di Riva Trigoso No qua stiamo parlando E naturalmente peraltro Apro e chiudo la parentesi Riva Trigoso è notoriamente solo Rosso Blu Questo è importante Tema cruciale Claudio Cerasa ieri sul foglio Ha scritto un editoriale Sottolineando l'importanza della fiducia Che è sempre un elemento importante Perché una società possa crescere e prosperare Lo è a maggior ragione In un momento come questo Sia Alessandro Masala Sia tu Prima sottolinevate il fatto che Il ruolo Il vostro ruolo È tra le altre cose Quello di scegliere gli esperti E costruire il messaggio Che veicoli A chi ti ascolta A chi ti segue in televisione E questo implica automaticamente Che in qualche modo Che chi ti ascolta Che sceglie di seguire TG8 Si fida della tua scelta Si fida del tuo giudizio E così via Come si gestisce questo patrimonio di fiducia Che in qualche maniera Persone senza volto Che tu non conosci Ti danno E seguendoti E mettendo la televisione sul tuo canale Anziché su un altro Bella sa domanda Bella Una cosa giusta Una bella domanda Non è che ci sono solo io C'è una redazione C'è una gerarchia Ci sono delle teste che Per esempio TG8 Siamo 8 Direttore chiaramente Che è lo stesso Giuseppe De Bellis Direttore di SkyTG24 Quindi Però In 8 Ci confrontiamo Su quelle che secondo noi Sono le notizie Da approfondire 25 minuti Ogni giorno Quindi Qualcosa magari di diverso Rispetto a SkyTG24 Perché SkyTG È un all news Rispetto a TG Dalle 12 Detto questo Io posso parlare per me Perché poi Come gestisco la fiducia Faccio Provo ad essere Onesta Non so come dire Ogni giorno Leggo tutti I giornali Italiani ed esteri Qualcuno locale Me lo perdo In effetti A dire proprio la verità Li leggo E Faccio una non rassegno Su Facebook Le cose che mi colpiscono Le scrivo E non sono quelle cose Che di solito Aprono i telegiornali O sono in prima pagina Sui quotidiani Ma sono quelle piccole Cosine che mi colpiscono E ho questa convinzione Io credo che Nonostante Serva un divieto Mi rendo conto Per Non vedere le persone Assembrate Almeno Così abbiamo visto In questo momento Nonostante Nonostante ci si annoi Facilmente Come si diceva Poco fa Io credo ancora Che le persone Abbiano La loro Libertà Di scelta Abbiano la capacità Di intendere Di volere Che fare una passeggiata Al parco Vedere troppa gente Si torna a casa Si cambia percorso E si può ragionare Ci sono mille modi Per informarsi In questo momento Basta Intercettare Intercettare Il giornalista Giusto Il giornalista Più giornalisti L'ha testata A cui credere Nel senso che Il grande patrimonio Di questo momento È la fiducia Che una persona Ripone Sul giornalista Che ha scelto Mai come in questo momento Deve cercare Le fonti credibili Approfondire Dare quel qualcosa In più Che ogni giorno Tantissimi provano a fare Deve andare ancora di più Ancora più là Anche perché La scelta Degli esperti È così fatta A volte è meglio Far parlare le istituzioni Perché almeno Tu sai che Insomma L'Italia Va in quella direzione lì Arrivano i vaccini Si fa parlare Domenico Arcuri Che ti fa capire Che è data 27 dicembre Andarsi a cercare Il piccolo esperto Va benissimo Per un programma Di approfondimento Perché Magari ci può essere Un esperto Per far dibattito Che non è d'accordo Con lui In modo tale Da creare un'opinione Più che creare Il dissapore Ma come dire In un telegiornale Si provano a mettere insieme Le cose Le cose Basilari Dopodiché C'è l'approfondimento Come ti dicevo È molto difficile In questo momento Trovare Cercare Cercare Quell'esperto Che ti possa dare Qualcosa in più Perché ognuno di loro Quelli che abbiamo sentito Danno comunque Qualcosa in più Ed è sempre diverso La cosa Incredibile Di questo periodo È che Covid-19 Non ha lasciato Neanche spazio Per le pubblicazioni Scientifiche Quindi Chiunque parli Lo fa Senza una pubblicazione Scientifica E questo vuol dire Un po' liberi tutti Di solito Prima nel 2019 Si parlava Pubblicazione Va bene Poi magari c'erano staffe dietro C'erano dei dottorandi Che si sbattevano tanto Ma come dire C'era il nome del professore E adesso non è così Perché Sono poche Le pubblicazioni scientifiche Me ne è capitata una Recentemente Che parla di quanto Il Covid-19 colpisca Per dire Ireni Quanto sia diretto Il collegamento Tutta una serie di cose Ha sempre bisogno Di un approfondimento Non è che si può uscire Dicendo Sapete Rovina i reni Cioè È sbagliato Così E quindi È comunque Un lavoro di equilibrio Di fiducia Sì nei confronti Del giornalista Ma anche Nei confronti Delle persone Io quando Leggo Commenti del tipo Gli italiani Non capirebbero O queste cose È un pazzisco Anch'io sono italiana E provo a capirlo Non so come dire Non bisognerebbe Trattare le persone Come persone Che non Riescono ad arrivare Alle cose Le persone ci arrivano Alle cose Basta non parlare In politichese Avvocatese Medichese In questi Dizionari Che poi bisogna Interpretare È finita L'epoca Dell'interpretazione Secondo me Bisogna approfondire E parlare chiaro Vabbè Ora un po' Di più di speranza Ce l'ho Sagna Che mi lasci Perché io parlo chiaro 2021 Secondo me sarà Un anno molto bello Brava Brava Dice che è l'anno della stella Quindi Concordo anch'io Perché no Alessandro Tu pure lo vuoi dire Che il 2021 Sarà bello Così siamo a posto Vabbè Partiamo da una barra bassa Brava Non è quello Allora ringraziamo Ecco però se posso Se posso Visto che Stiamo In conclusione Cari amici Liberisti Dovete essere un po' Tino più ottimisti Perché Abbiamo bisogno Di voi Siete sempre Eccessivamente Apocalittici Dovete imparare A fare Come facciamo Nel foglio Dice Trovare Anche laddove È impossibile Immaginare Un qualche elemento Di positività Del buono Hai ragione Ma noi Impariamo ad apprezzare Ciò che abbiamo Impariamo ad apprezzare Ciò che abbiamo Però noi ci svegliamo La mattina Con la santina Di Margaret E Ronald E Rolling Back Del Frontier Of The State Ci troviamo Mimmo Arcuri In televisione Tu pure devi capire Che ci devi dare Un po' di tempo Dacci un po' di tempo Arriveremo Naturalmente Naturalmente Ma ricordiamoci una cosa Proprio per essere ottimisti Tornare a essere seri La grande fortuna Dell'Italia È che nulla Di quello che verrà fatto Nel prossimo anno Avverrà Speriamo che Borghi Non ci senta E neanche Bagnai Avverrà Grazie a Una scelta Deliberata dell'Italia Per fortuna C'è l'Europa Che ci costringe A fare tutto Quanto In maniera Via Il vincolo estremo Meno sovranità Meno Meno Sovranità Sempre meno Sono d'accordissimo Giusto Meno sovranità Sto scherzando Sto scherzando Diamo tutto Diamo tutto all'Europa Diamo tutto all'Europa Con questo grido Ringraziamo Francesca Baraghini Claudio Cerasa Alessandro Masala Grazie ragazzi Per essere stati con noi Grazie mille Grazie ragazzi Porta Palermo soprattutto Visto che qui Ci sono tra Germania Non capisco più In che se ne siamo Se ne siamo Arriveremo Piano piano Grazie Ciao a tutti Grazie mille Ciao Buon Natale E mentre Salutiamo I nostri ospiti E accogliamo Il prossimo ospite Che è Rosa Maria Bitetti Facciamo vedere La pagina Dell'asta Perché c'è una roba Che non va Lei è di casa No Stanno crescendo Chi ci segue Sta comprando Tutti i beni In asta Tranne la partecipazione Alle cronache E questa è una cosa Che Ora Capisco Che ci siamo io A Menta Ma c'è anche La Sileone In mezzo Che schifo è Quindi Se volete perdere Live con la voce Sexy di Amenta Brava Brava Come siete La voce più sexy Del liberismo italiano Vedi come sta messo Vedi come sta messo Il liberismo italiano Volevo dire Rosa Maria Bitetti Come stai Che sole Che finalmente vediamo Come stai Bene Bene Appesantita Stiamo lavorando Per aumentare La quota Delle donne In stemma Uspicabilmente Ma sicuramente Nel liberismo italiano Quindi Esatto Questa è la cosa Importante Torna anche Serena Guarda Guarda Potevo non tornare A questo punto Guarda Carlo Usciamo noi due Così finalmente Diamo spazio A chi metano Tu che hai sto E così facciamo La protesta Per un panel Tutte donne Bravo Che bella Perché una protesta Non si fa mai Di solito si fa sempre Per i panel Tutti uomini Giustamente Te lo voglio dire Subito Giustamente Giustamente Non vorrei Che sia messo agli atti Che io ero d'accordo Non vorrei Che mi viene poi Diciamo Imputato Qualche cosa Di gender pari Di cose Mi ascolta mia figlia Mi butta fuori di casa Evitiamo Mi fate fare Questa vita così E allora Vabbè Siete andati In sciopero Dovete andare A fare In sciopero Ci vuoi Ci vuoi Ci vuoi Ci vuoi Ci vuoi Hai visto Rosa Maria Come ci ha detto Vuoi andare Pure a fare No Vabbè Vai pure Vabbè Si preoccupa per voi Sapete che le donne Sono sempre Perché sa anche Che abbiamo Essendo un po' anziani La prostata Comincia a mostrare Un po' I segni Dell'età E quindi Se volete andare Questo Ci verrà Sicuramente Con un picco Di ascolti Il momento Prosta Pariamente Esatto Io ho reso Perché ce lo so Rosa Maria Per favore Dici qualcosa No Vabbè Recito una poesia No Io vorrei parlare Di una cosa Con Rosa Maria Dai ora Parliamo 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 Io Con Rosa Maria Tante volte Ci confrontiamo Sulla questione Del Del Non voglio dire Femminili Perché sarebbe Una di minuzio Però Anche Sulla Formazione Femminile Cioè Sul fatto Che oggi Più di ieri I tipici Le tipiche Facoltà Maschili Hanno invece Immatricolazione Continua Immatricolazioni Anche Di Donne E con lei Di quanto Lunga Impervia Faticosa Ma anche Culturale Sia La strada Per Una Dignità Femminile Uguale a quella Maschile Ne parliamo Tante volte Io volevo Proprio con lei Affrontare Questo argomento Se le va Cioè È vero Che le classiche Facoltà Maschili Non sono più Così Non sono più Tali È vero Che ci potranno Essere Nel prossimo Futuro Scienziate Di scienze Dure Donne Molto più Di ieri Io Mi facevano notare Oggi Che la società Italiana Degli economisti Ha cambiato nome In società Italiana Di economia Francamente La cosa Mi fa abbastanza Sorridere Forse Sarò limitata Io Ma Non mi pare Che sia questa La grande conquista Anche perché Il genere Plurale È un genere Maschile È grammatica Non è questione femminile Mi fa Quelli fanno una cosa E tu subito Fanno un passo Un passo No no Io andrei a vedere Allora In realtà Li conosco abbastanza bene So che sono molto impegnati Su questo tema Ad esempio Al di là dei gesti simbolici Organizzano il nido Per permettere Anche alle economiste Di andare alle conferenze Di settore E lavorano Per avere Dei bias Qualche anno fa Ho anche visto Com'era la loro composizione C'è una cosa Molto interessante Ricordiamo che Economia non è STEM Siamo degli abusivi Quando facciamo finta Che quella è Sia per economia In realtà E per engineering Però è considerata Tradizionalmente Poco di donne In realtà L'iscrizione È più o meno uguale È più o meno La stessa quota Di donne Che si iscrivono Al dottorato E che Comincia ad abbassarsi Un po' Nel postdoc Quindi negli anni dopo Crolla vertiginosamente Negli anni successivi E questo Ci fa pensare Che il bottleneck Culturale In parte Sta cambiando E probabilmente Possiamo fare di più Per cambiarlo Ma è una battaglia Culturale Però c'è una grossa Ancora restrizione A livello di carriera E purtroppo Fare ricerca Con un bambino Che urla e piange Penso sia complicato Serena Lo sa Benissimo Io l'ho trovata Ci sono Carlo e Carlo A far Danilo Poverino Sta crescendo Chiaramente Con valori Che No ma più che altro Devo dire Non solo fare ricerca Serena manco riesce Poverina A stare apprezzo a noi Altro che Ricerca Già stare apprezzo A due persone Come noi No no Io parlavo di due due Parlavo del tempo Che Serena Ci deve mettere Per un parte nuovo Stiamo fornendo L'adeguata educazione Hai capito Rosa Maria Cosa sta dicendo No cosa Carlo E il nido Eravamo noi due I due Lei si occupava di noi No non è vero No noi siamo I badanti No Vabbè Non capisce niente Devi sapere una cosa Rosa Maria Quando c'è la live Stagnano non è presente Perché guarda i commenti Perché non è una donna Quindi non riesce A fare due cose contemporanee Capito Quindi lui Tu gli parmi Non capisce Devi dire due volte le cose Ma comunque Vabbè Ora poi noi siamo Tutti liberi Però ne stanno vedendo pochi Di commenti E soprattutto Continua a non crescere Il prezzo dell'asta Il prezzo in asta Delle cronache È una cosa Io finirò Questa Questa puntata Questa live Con un suicidio rituale Mettici di mezzo Anche una cena da menta Vabbè Vabbè Per me Possiamo anche prendere Solo tutto intero Non solo a cena Anche a tranci Anche a tranci Come pesce e spada Ne possono prendere Che so bello grosso E vedi che vengo bene Non è male No Comunque Ritornando Alla cosa vera Noi siamo tutti liberisti E tanto Seri e contrari Però siamo in un paese In cui ci tolgono Un sacco di soldi Per pagare un welfare Che viene redistribuito Interamente Per la maggior parte Agli over 65 O buttati In cose inutili Se ci dobbiamo Se ci dobbiamo porre Il problema Delle donne In STEM Una delle cose Da cui riflettere E così Avere un welfare Con un maggiore Ritorno sull'investimento Quindi più basato Sui bambini piccoli Che poi ti ridaranno qualcosa Anche permettendo Alle donne Di lavorare E pagare le tasse E rimettere in pari Il nostro bilancio Siamo fra i paesi europei Uno con una partecipazione Di donne al mercato del lavoro Al di là di STEM In generale Molto basse Per carità Può essere una cosa culturale Ci sono scelte diverse Però il fatto È che sia molto difficile Basarsi su altre forme di sostegno Che quelle familiare Mentre contemporaneamente Paghiamo un sacco di tasse Per tenere in piedi Una macchina costosissima Di welfare Chiaramente rende Tutto quanto più difficile Se ancora un minuto però Volevo mandarvi Una cosa di buon umore C'è una foto Che ho mandato Prima alla regia Questa è Olivia Non potete vedere la faccia Perché ha sei anni E dobbiamo rispettare La sua privacy E Olivia Non sono i regali Di Natale aperti prima Sono i regali Del suo compleanno Ha chiesto Di avere il kit Del piccolo scienziato E sono giorni Che sta lì a giocare Perché ha visto In televisione Questa fiction Su Rita Levi Montalcini Allora si è fissata E cominciate a chiederlo Alla mamma C'è speranza C'è speranza E ricordiamoci Che deve essere Una battaglia culturale Non dobbiamo costringere Le bambine a fare stemma Ma possiamo esporle A tutti i modelli possibili E quando pensiamo E quando pensiamo alle politiche Stiamo attenti Perché se non facciamo Uno sforzo culturale Tutti insieme Obiettando Anche vocalmente Quando ci sono Degli stereotipi in giro Cercando di ridurli Nella nostra vita quotidiana Arriveranno le politiche E lo farà lo Stato Inserendo quote Inserendo sussidi Come adesso si vocifera Sussidio per le donne Che si iscrivono a stemma Cerchiamo di riprendere Questa battaglia Come tante altre E farne una battaglia A cui si possono dare soluzioni Dal fronte liberista Anche perché Se ci fosse stata Una roba del genere Ai miei tempi Io guardavo L'uomo tigre Mi avrebbero dato Lo sussidio Per fare il wrestler Vabbè Ma che c'entra Non c'avevi il fisico Ti buttavano Dalla rupe Ma sono agile Ma che sei agile Per cortesia Vabbè Lasciamo stare Lasciamo stare Vabbè Lasciamo stare Vero Volevo dire una cosa Prima di chiudere Che questo Rosano Gli ha toccato Un tasto interessantissimo E questa è la narrativa Poco fa lo diceva Anche Dirdre Quando parlava Appunto proprio Dell'importanza Di convincere In questo senso Chi fa Chi fa la televisione Chi racconta le storie Chi scrive i libri Cioè l'importanza Di quello che noi Dei simboli Che noi poi Acquisiamo Nel corso del tempo E secondo me Questa tua notazione È particolarmente Interessante Perché spesso Non ci si pensa Si pensa poi Che le inclinazioni Vengano Chissà per quale motivo Invece basta una fiction Per Quanto meno Per istillare L'interesse In qualcosa Che poi per carità Può sempre Può sempre Svanire Vabbè Mi pare che possiamo salutare Rosa Maria A me dispiace Farla andare io Perché l'ascolto Sempre con grande piacere Però L'aspetto Tornerà a mangiare Vabbè Tornerà a mangiare No No Torneremo Tornerà qui Perché Rosa Maria È già stata nostra ospite Quindi E tornerà sicuramente Vabbè ma poi Che ospite Di casa Che ospite Questa ospite di casa Non è ospite Andiamo avanti Ricordiamo che Rosa Maria È anche una Una ricercatrice Dell'Istituto Bruno Leoni Che è Io potrei dire Che l'ho vista nascere Vabbè È il mio mentore È il mio mentore No Rosa Maria Ecco perché Sono crescita Queste belle Star Wars Tutto merito Anche col maglione Di Star Wars Quindi Quindi Sostenere L'asta IBL Partecipare L'asta IBL È anche un modo Per partecipare Al futuro Di Rosa Maria E della sua Possiamo dirlo Possiamo dirlo Possiamo dirlo È della È della prole È della prole È della prole Che importante Va bene A Rosa Maria Un bacio Auguri E quindi Se Rosa Maria Poi ti saluta Auguri Rosa Maria Adesso ci saluta E continua a seguirci Però parleremo Di temi che le interesseranno Tra breve Perché adesso Parliamo di scuola Ecco Parliamo di scuola Dove devo mandare Parla Dove devo mandare Esatto Ciao Rosa Maria Grazie Ciao Rosa Maria Parliamo ancora una volta Con opti di eccezionali Cioè alla fine L'unica cosa di troppo Che c'è in questa diretta Siamo a mente io Siamo io spagnale Io spagnale Vero Vero Io spagnale Ciao Salve Diamo il benvenuto A Carlo Lossieri Pasquale Annichino Buonasera Ciao Pasquale Sono Anna Mognalfieri Buonasera Professore di filosofia Del diritto a Verona Nonché uno dei fondatori Dell'istituto Bruno Leoni Che ancora anima Con grande entusiasmo E portando Portando molte 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 idee All'istituto Pasquale Annichino Che già è difficile Pronunciare il cognome Eppure noi ci siamo sbagliati Ieri a scriverlo E che è esperto Di questioni Di diritto ecclesiastico Che negli ultimi anni Direi dal 2000 E uno in poi Quindi ormai Da 20 anni Sono uno dei temi Politici Più Più importanti E Sora Anna Mognalfieri Che anche lei L'abbiamo convinta In un momento di follia Da parte sua A entrare Nello staff Dell'istituto Bruno Leoni E il nostro Signor Fellow Maestro Tra tutto Una dirigente Di scuole paritarie E esperta Di educazione Di diritto all'educazione Questa lunga premessa Per parlare In questi pochi minuti Purtroppo Che abbiamo a disposizione Di idee liberali E education Quindi istruzione E educazione A idee Che almeno Nel nostro paese Ma non solo Nel nostro paese Non hanno avuto Poi vita Così facile I grandi Padri Di queste idee Nel nostro paese Penso Vedendo anche Toranna Mogni A Don Scurso In realtà Sono state Delle stelle Fermamento Isolate Perché è così difficile Io questa L'inizio Questa prima domanda E quella che farei A Carlo Beh è difficile Per varie ragioni C'è sovrapporsi C'è sovrapporsi Di questioni istituzionali Su cui i liberali Ti richiamano spesso L'attenzione Noi abbiamo Un sistema Statizzato E quindi Questo ostacola La libertà scolastica Libertà educativa E alla fine ostacola Anche il dibattito Sulla libertà educativa Per certi aspetti Cioè c'è un monopolio Statale Che ha creato Una serie di difficoltà Ma oltre a questo Credo ci sono È normale che i liberali Si concentrino Sulle questioni Del finanziamento Libera scelta E quindi buono scuola C'è altre scure Eccetera Però c'è altre questioni Che credo Siano ugualmente Molto importanti E una è proprio La questione Culturale Cioè Non c'è più Io credo Un'idea forte Di educazione E quello che io temo È che anche se avessimo Con la bacchetta magica Domani Un sistema concorrenziale Di scuole Con Le visioni Dell'uomo Della società Del potere Dello Stato In circolazione Ci troveremo In una situazione Alla fine Non così diversa Non così diversa Quindi c'è un problema E questo Io credo sia importante Anche di Di rafforzamento Della visione Della libertà In questi ambiti Ecco E poi c'è anche Un altro tema Che trovo cruciale E cioè che Si è confusa E si continua a confondere Io credo L'istruzione Che è importante Con l'educazione Tanto è vero che si accetta L'idea di fare Dei programmi Nazionali Che contengano Le cose Che uno deve sapere Quando La dimensione informativa Che pure Ha un suo ruolo Indubbiamente Però deve essere parte Di un progetto Di una visione Della persona Che esige quindi Come dire Interrogativi più Più ampi Al di là Delle Delle conoscenze Equazioni differenziali E così via C'è un problema Di che visione Si ha della verità Dell'uomo Della società E quindi C'è una crisi generale Io credo Dietro la difficoltà Della nostra scuola Scusate Non trovo il tasto Per smutarmi Io vorrei Coinvolgere Suoranna In realtà Su un tema Che chiaramente Da papà Lo dico Un interesse privato Diciamo In questa In questa domanda Cioè Questo sistema scolastico Che noi stiamo vedendo In questo momento Così in difficoltà E così probabilmente Anche negletto Nell'ambito della pandemia Perché certamente A me non sembra Sia stata una priorità Ecco Che futuro Stiamo lasciando Ai nostri figli Come stiamo affrontando Questi problemi E perché la scuola In questo paese Non riesce a essere Al di là Del problema La scuola è paritaria Pubblica e così via Ma non riesce a essere Un tema centrale Come se lo spiega Solanna Volentieri Faccio parte Anzi Mi sento onorata Perché Guardi Tutto è collegato Al concetto Di libertà La scuola italiana Soffre Perché noi Abbiamo fatto fatica Negli anni A puntare Sulla libertà Abbiamo agito Come era raccomandazione O costruzione Perché la libertà È l'unica Che muove Le responsabilità Quindi è chiaro Che la scuola Essendo L'unica realtà Che fa Da ascensore sociale Che muove Le libertà Perché il sapere Aude Muove quindi Le responsabilità E muove Tutto quel concetto Che si fonda Sulla libertà Individuale Che muove La responsabilità Collettiva È tutto Un movimento Che noi Abbiamo ostacolato Perché ci faceva Tremenda paura E quindi È evidente Che il covid Intercetta Questo sistema Incessato Questo sistema Che è agito Fondandosi Sulla raccomandazione Sulla costruzione E quindi Qual è il futuro Che stiamo lasciando Ai nostri giovani In una fatica Che stiamo avendo Nell'investire Nella scuola Perché non si tratta Più solo di risorse Abbiamo ampiamente dimostrato Anche con l'Istituto Bruno Leone Che si liberano Tante risorse Alla morsa Dello spreco Quindi non si tratta Di non aver dei soldi Si tratta di Farsi delle domande Di fondo Noi siamo disposti Ad avere Una generazione Del sapere Aude Cioè che ha il coraggio Di conoscere Una generazione Libera E quindi che muove Le responsabilità Perché se la politica Si risponde Sì Siamo disposti A questo Allora avremo Una politica Disposta A non avere Più La possibilità Di fare La propria Campagna elettorale Sulla pelle Di tutta questa Povera gente Che ci crede Quindi a non agire Più di Questo bacino Elettorale Parallelamente Non avremo più Un sindacato Che fa Del proprio Tesseramento Sempre su questa Gente Che ci crede E quindi abbiamo scomodato Il secondo potere forte Poi avremo Un altro terzo potere forte Che avremo scomodato Perché la gente Che sa E quindi Questi cittadini Che sanno Creano una Cittadini Di difficile gestione Quindi Scomoda il potere Della burocrazia Che si nutre Si nutre Delle derivoli Dello spreco E allora Se siamo disposti Tutti quanti A fare un passo indietro Ribadisco politica Ribadisco sindacati E confermo Una burocrazia Che ci ha mangiato Allora è molto semplice Noi punteremo Sulla scuola Che è l'unico Ascensore sociale E terremo Insieme Il paese Tenere insieme Il paese Vuol dire Che da quel divario Fra il nord e sud Ci ha guadagnato Chi aveva Delle logiche Del paternalismo Dell'assistenzialismo sociale Dei sussidi Non certamente Liberali Perché chi è libero In realtà Ha semplicemente Bisogno Di realizzare Sistemi Guardate un po' Equi Non uguali Perché l'uguaglianza Alimenta le disparità Noi puntiamo Sull'equità Ed è l'equità Che libera Le risorse Libera Le responsabilità Libera I soggetti E pensate un po' Ti ritorna bomba La frase di Sturzo Fino a quando Non saremmo libri Di educare Saremmo sempre schiavi Schiavi di chi Schiavi Dell'ideologia Schiavi Dell'idiozia Culturale Nostra E degli altri Schiavi Del potere Quale futuro Stiamo lasciando ai giovani E concludo così Molto dipenderà Dal recovery fund Da queste risorse Se noi le punteremo Sulla scuola Allora avremo dato Ai nostri ragazzi Le premesse Per ripagare Questo debito Attuale Quindi li avremo Liberati Li avremo resi Soggetti Attivi E l'Italia Sarà ritornata Ad essere Attiva In Europa E quindi Con un ruolo Da protagonista Altrimenti avremo Assecondato Nuovamente La politica Delle mancette Dei sussidi Che non hanno altro Che legare I cittadini A sé Con una corda Sufficientemente lunga Per arrivare alla ciotola Ma non così Da uscire E restare liberi Questo lo fa la scuola È un miracolo Che fa la scuola Bisogna vedere Quanto noi vogliamo La corda lunga O meno lunga O quanto non la vogliamo Proprio Io non la vorrei Proprio E allora bisogna Puntare sulla scuola Beh io tutte le volte Che sento Suor Anna Poi penso Che dovremmo Che è un peccato Che abbia smesso di parlare Dovremmo Caricarla A corda Ma io la vorrei Ma io la vorrei Presidente del Consiglio L'ho detta a Cerasa Quello dice che mi devo Accontentare di Conte Io penso a Suor Anna Giusto è Scusate Allora che ho Torso Ma perché le vuoi Così male a Suor Anna No no Perché lei lo farebbe Presidente del Consiglio Per farci una cortesia A noi tre Lo farebbe Ecco Quando parliamo Di istruzione L'istruzione È uno Dei fondamenti Del vivere comune E quindi Deve avere Degli aspetti Di Come dire Degli elementi Di cittadinanza Diciamo così Al tempo stesso L'istruzione Deve essere plurale Come La domanda Che vorrei fare A Pasquale Annichino È come si può conciliare In una società moderna E complessa Come è quella attuale Questa tensione Tra L'istruzione Base della cittadinanza E il pluralismo educativo Allora innanzitutto Grazie a tutti Per l'invito Come è stato già detto prima È difficilissimo Parlare dopo Soranna Quindi vi ringrazio Per avermi messo Per ultimo Cosicché faccio scendere Diciamo L'audience Delle persone Che sono con noi Devo dire Colgo la pala Al balzo Perché io Qualche giorno fa Serena Penso l'abbia letto Perché gliel'ho mandato Ho scritto Un intervento Sul quotidiano domani Con cui collaboro Dove ho analizzato L'ultima legge Di Macron La cosiddetta legge Appunto Sui principi Valori repubblicani Eccetera eccetera Che è un'ottima chiave Di lettura Della questione Che tu poni Perché è una legge Che mette un po' insieme Le cose E i problemi Che sottolineava Carlo prima Cioè Soprattutto nel contesto francese Ovviamente Cioè questa cappa Della macchina Macchinarum Dello Stato Rivolta in quel senso Ad un nemico Invisibile E visibile Che sono le comunità Islamiche Che appunto Si vuol cercare Di contenere Nella morsa E soprattutto Si agisce In una delle norme L'articolo è molto lungo Mi fa piacere condivirlo Ma è un'analisi Molto giuridica Proprio sulle questioni Dell'educazione Dove sostanzialmente Si Salvo eccezioni Abolisce L'homeschooling L'educazione parentale Chiamiamola come vogliamo Per ricondurre tutto Sotto la macchina Dello Stato Tant'è vero Chi ha la pazienza Di andarsi a leggere Quei documenti Io Scherzando Nell'articolo Scrivo che C'è un'analisi Di impatto Di quella legislazione Fatta al Parlamento Francese Che è di 460 pagine C'è un parere Del Consiglio di Stato Che è di 68 pagine Se non sbaglio Quindi io Compatibilmente con i tempi Prima di scrivere l'articolo Ho provato a leggermele tutte La cosa interessante È che c'è un passaggio Del parere Del Consiglio di Stato In cui Si critica Il Parlamento Per aver utilizzato L'espressione Valori Nell'analisi Di impatto E non Principi giuridici Perché Il Consiglio di Stato Francese Pensate voi Cioè Forse Non plus ultra Diciamo Di una certa Concezione Dello Stato Critica Il Parlamento Francese Perché Dice In una società Plurale È difficile Parlare Di valori Unici Che tutti Devono condividere Ma c'è necessità Di rispettare Dei principi Una cornice Giuridica All'interno Nella quale Poi ogni comunità E ogni individuo Declina I suoi Assetti valoriali Ed è questo Che è centrale Ad esempio Nell'avere Un'educazione Nell'avere Un'educazione Pluralista Che sia Religiosa Oppure No Non vuol dire Uno dei paradossi Del caso Francese Perché L'usra Credo molto bene Tanti paradossi Del pluralismo E che altre Legislazioni Molto restrittive Emanate in Francia Penso alla famosa Legge sul porto Dei simboli religiosi Cioè In Francia Uno studente Non poteva Entrare In classe Con la kippah Col velo Piuttosto che Con una croce Molto visibile Ora Uno dei paradossi Di questa cosa È che Se si vanno a guardare Le statistiche Ha portato Molti genitori Di fede musulmana Ad escrivere I loro figli Nelle scuole cattoliche Perché Nelle scuole cattoliche Loro potevano Mettere il velo Mentre non potevano Mettere il velo Nelle scuole di stato E Quindi L'integrazione Sicuramente Io penso che Appunto Come diceva anche Carlo prima Ma come diceva Come diceva anche Soranna Nel suo intervento È È una sfida complessa Ma che non si può vincere Con una risposta Univoca Che sia Quella appunto Del Del Comando centrale Dello Stato Perché non funziona Perché Nel caso francese Ci ha dimostrato Che appunto Integravano più Le scuole cattoliche I fedeli musulmani Che non le scuole Dello Stato Che anzi Io quello che dico Commentando la legge Di Macron E che crea Una sorta di Separazionismo Di Stato Mentre Macron Critica Le comunità religiose Perché Dando appunto Utilizzando questa parola Separazionista Jean Boberot Anche altri Altri filosofi Sociologi francesi Hanno detto Guardate che qui Andiamo incontro Ad un separazionismo Di Stato E non ad un Separazionismo Delle comunità E io credo Che noi ovviamente Dobbiamo utilizzare Anche La leva La leva dello Stato E dell'istruzione pubblica Compatibilmente Anche con Un assetto plurale Ma non dobbiamo creare Un separazionismo Di Stato Perché un separazionismo Di Stato Non è utile a nessuno E soprattutto Non integra E non valorizza Una società plurale Grazie Pasquale Suor Anna Volevo aggiungere Su queste due interventi Noi abbiamo proprio Prima di chiudere Per merito Volevo dire Noi abbiamo proprio Un esempio In Italia Pensate che Quando ci furono Le leggi razziali Liliana Segre Provinente Da una famiglia Ebraica Ma borghese Peraltro Benestante Fu cacciata E lei lo racconta Spesso Ed è l'unica Forse domanda Alla quale Non si è mai dato Una ragione Dalla buona Scuola pubblica Statale Di piazza Tommaseo E fu accolta E la maestra Gli disse Mica le ho fatte io Le leggi razziali Le compagne Non chiedevano Più di lei E lei si è sempre Domandata Come mai Le compagne di banco Non si fossero chieste Dov'è la Liliana E Liliana Segre Fu accolta Come tantissimi ebrei Proprio dalla scuola Pubblica Paritaria Cattolica Della stessa Piazza di Tommaseo Pensate come stride Una di fronte All'altra Quindi Durante le leggi razziali La scuola pubblica Statale Quella libera Quella aperta Quella che accoglie tutti Non aveva posto Per lei Questo perché lo dico Perché la scuola libera Quindi la scuola statale Autonoma E la scuola paritaria libera Servono proprio per scongiurare La discriminazione Per ragioni economiche E razziali Ecco perché la dichiarazione Universale Dell'articolo Unica Universale dei diritti Dell'uomo All'articolo 26 Punta sull'istruzione Libera e gratuita Per tutti Proprio per questo Per evitare ciò Per questa ragione Noi dobbiamo puntare Alla scuola libera Perché quando siamo In tempi di regime E' proprio la scuola di Stato Che esclude Mi sono spiegata Ecco perché Quindi è un torto Che noi facciamo Ai laici Nel puntare Su una scuola classista E ai poveri E' proprio l'esatto contrario Di quello che vogliamo ottenere Rendiamo la scuola Sempre più confessionale Sempre più razzista Sempre più classista E sempre più discriminatoria E lo dico Proprio a chi Oggi Alza la bandiera Dell'uguaglianza Per attaccare La scuola libera In realtà Sta attaccando Proprio la scuola Che lui vorrebbe Per tutti Stiamo attenti Su questo Un gioco di parole Potremmo starne ore Ma Quello che in realtà Concludo così Per capire Chi noi abbiamo attaccato In questi anni Non bisogna vedere Su chi abbiamo puntato Il fucile Cioè l'abbiamo puntato Contro la scuola paritaria Cattolica Ma sui morti Che abbiamo seminato I poveri Quindi Chi stavamo attaccato La famiglia I poveri Per renderli sempre più sudditi Quindi più facilmente gestibili Che dire Potremmo anche chiuderla qua La diretta Noi che diciamo poi Non vale più la pena Quindi Lo dico liberamente Perché non me l'avete detto voi Per far andare avanti Queste idee libere Dobbiamo sostenere Lì su Bruno Leone E quindi avanti Con questa Giusto Soprattutto E andate a scommettere Sull'asta Grazie Soranna Grazie Grazie Garantisco che non mi date Nulla in cambio Quindi lo dico Da libera Me ne assumo la responsabilità No no Infatti Infatti Grazie Grazie a Paola Grazie a Paola Grazie a Paola io me ne vado tu sei qua e devi dare il tuo contributo fondamentale e l'idea quello che vogliamo discutere anzitutto con Francesco Ramella che ci ha già raggiunto e credo che si stiano unendo gli altri ospiti del panel è cominciamo nel frattempo con Francesco però è ecco arriva Costantino Costantino De Blasi che non ha bisogno di essere presentato essendo un padrone di casa di fatto visto che siamo in diretta anche su Liberi Oltre Andrea Bacchina e manca Marco Taviani che credo che ci stia raggiungendo il tema di cui vogliamo figurare adesso è la libertà economica e la politica perché la libertà economica sembra avere così poco diritto di cittadinanza nel dibattito politico italiano ma solo italiano e partirei proprio da Francesco non tanto per chiedergli fare una domanda sul tema che lo ha portato a avere diciamo confronti franchi e cordiali come si dice con tante persone cioè la sua esperienza o meglio sì la sua esperienza con l'analisi costi benefici sulla Tav a me non interessa in questa sede parlare del risultato dell'analisi costi benefici sulla Tav a cui meriterebbe dedicare come dire un'intera puntata delle croneche un dibattito più ampio mi interessa però parlare del concetto del principio dell'analisi costi benefici che è un principio sano nel nel dibattito pubblico anzi in quel caso specifico proprio il fatto che un'analisi costi benefici ci fosse ha consentito a chi doveva prendere delle decisioni di prenderle a chi era contrario a quelle decisioni di criticarle nel merito e questo credo che sia stato un momento di singolare diciamo singolare nella storia italiana recente ecco secondo te perché è così difficile Francesco far passare il principio per cui l'analisi costi benefici non è l'unico criterio decisionale ma deve essere un pezzo della decisione abbiamo perso è sparito perché la domanda era troppo lunga secondo me cioè secondo me è fatto troppo lunga secondo me attendendo attendendo che che torni che torni che torni Francesco io ecco ecco eccolo 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 che torno Francesco niente cioè qua basta parlare io ho sentito malissimo no allora la faccio in versione breve perché secondo te sì ma normalmente l'ho fatto tutto posso anche allora vai sì ovviamente l'argomento non poteva che essere quello ho visto che anche tu ne hai riparlato di recente interloquendo o tentando di interloquire con il ministro chiedendogli quali valutazioni aveva beh in effetti il nostro tentativo che è finito malissimo era proprio quello un po' di cercare di introdurre per la prima volta questo principio di valutazione delle politiche pubbliche che normalmente invece non viene seguito è stato un grande successo abbiamo avuto come dire un'opposizione di critica di pubblico quasi totale però riteniamo che sia stato un tentativo importante e che a maggior ragione oggi quando ci troviamo dinanzi la possibilità il rischio di avere molte risorse da spendere invece dovrebbe tornare del tutto di attualità perché perché a differenza di quello che spesso tendiamo a pensare non qualsiasi investimento pubblico è una scelta auspicabile anche su questo probabilmente io sono una minoranza nella minoranza anche tra di noi diciamo la spesa pubblica per investimento viene vista a priori come buona ma non può essere sempre così magari qualche keynesiano lo pensa ma in realtà la spesa per investimenti le grandi opere hanno una durata di molti anni quindi anche in quell'ottica sono poco giustificabili se non lo facciamo se anche sono risorse in parte regalate comunque vuol dire che se non valutiamo come le investiamo avremo meno risultati di quelli che potremmo invece conseguire cercando di allocare bene le risorse certo oggi siamo molto più in salita di quanto fossimo già tradizionalmente il fatto che sembra che le risorse siano abbondanti gioca contro diciamo la auspicabilità del valutare ci proveremo prima Cerase diceva di essere non pessimisti è un po' difficile esserlo in questo momento diciamo che se il virus ha una caratteristica è quella certo di non essere neoliberista anzi gli spazi per lo Stato si ampliano e si riducono quelli di libertà economica lo vediamo anche nel settore dei trasporti dove quel poco di libertà che c'era quel poco di concorrenza nel trasporto aereo nel trasporto su autobus di lunga percorrenza rischia di finire e rischiamo davvero di tornare indietro di una ventina d'anni dove lo Stato fa più o meno tutto e di solito lo fa male mi inserisco per fare una domanda a Marta a cui dichiaro chiaramente essere la mia giornalista preferita quindi io sono felice di averla qui con noi e le faccio proprio una domanda che riguarda la libertà e la politica economica mi spiego un po' meglio lei che segue con così tanta competenza le vicende della Turchia e ha visto trasformarsi questo paese da un paese certamente laico certamente un paese basato su istituzioni democratiche in un paese ovviamente che democratico facciamo fatica ormai a definire eppure spesso capita proprio che gli aspetti economici possono essere quelli che tirano giù il dittatore dal piedistallo ecco nella tua diciamo vita professionale per le vicende che hai seguito questo rapporto tra la capacità della politica di interpretare l'economia e gli effetti dell'economia sulla politica come lo vedi cosa ci può dire ad esempio possiamo sperare ad esempio che in Turchia un evento di questo tipo proprio oggi con Carlo commentavamo la puntata del podcast del professore Barbero sulla guerra alle Falkland Galtieri fa l'invasione dell'Has Malvinas perché la situazione economica è drammatica ecco questo rapporto tu che segui così queste diciamo oligocrazie come lo vedi? ma c'è sicuramente un rapporto fortissimo questo vale non solo per Regetta e Iperdoan ma anche per Vladimir Putin l'economia è il loro fior all'occhiello ed è quello con il quale hanno costruito gran parte direi del loro consenso poi ognuno dei due ha una base ideologica e ovviamente sono basi molto diverse tra loro però sicuramente Putin ed Erdoan soprattutto nell'appogeo del loro potere sono stati considerati leader di successo proprio in grazia dei risultati economici che erano riusciti a portare in stati che ricordiamolo sono molto diversi tra loro tra l'altro Erdoan adesso probabilmente molti si scandalizzeranno all'inizio della sua azione politica nel 2002 quando insomma l'Europa ancora credeva ad avere a che fare con un sereno riformatore diceva di avere un programma liberale nei costumi e liberista in economia diciamo che Erdoan aveva un po' come sempre interpretato il liberismo a modo suo oggi in realtà la Turchia è formalmente aperta ai mercati stranieri ma dove il potere economico viene è trattenuto nelle mani di alcuni imprenditori che fanno parte di un cerchio magico chiaramente compiacente con Erdoan e la situazione non è molto diversa in Russia visto che il potere economico è detenuto dagli oligarchi o comunque da grossi monopoli che fanno fronte comune con Putin e che secondo alcuni starebbero anche cercando di mettergli un po' i bastoni tra le ruote quindi per rispondere sinteticamente alla tua domanda sì le fortune economiche di un paese e il rimanere al potere di un leader più o meno autoritario sono strettamente correlati sia la Russia sia la Turchia stanno attraversando un momento economico molto particolare che sa che il 2021 non ci porti qualche sorpresa intanto tanto Russia Unita quanto l'HP che sono rispettivamente i partiti di Putin e quello di Erdoan hanno registrato durante il 2020 un calo considerevole dei consensi e in Russia nel 2021 si dovrebbe il condizionale ed obbligo votare per le elezioni parlamentari ecco io calerei invece tornerei alla realtà del nostro paese per fare una domanda a Andrea Battini io volevo distrarre un poco e tu subito devi tornare e che poi ho lasciato all'ultimo Costantino che su tutte le minchiate del governo vabbè dico allora Andrea Andrea vorrei fare una domanda da assicuratore Andrea è un imprenditore nel mondo delle assicurazioni dove c'è anche temi di innovazione eccetera e così via quanto oggi è più rischioso investire in generale e quanto è più rischioso investire in Italia anche a causa della situazione politica che abbiamo domanda diciamo in termini analogici da assicuratore ma direi soprattutto da da imprenditore ma allora il rischio nel contesto attuale e non vale solo per l'Italia è dato da uno scenario con tassi di interesse bassissimi temi a rischio compressi noi diciamo non sappiamo dove dovrebbero essere ecco perché insomma spesso ho qualche sospetto dei liberali che pensano che sanno dove dovrebbero essere i tassi e giudicano che quelli attuali sono troppo bassi però diciamo che diciamo siano un po' dopati drogati spinti all'estremo non entriamo se giustamente o meno questo è un dato di fatto che è particolarmente rilevante per il nostro paese perché questo comprime non solo i tassi ma anche il premio a rimpio quindi c'è un contesto macroeconomico che rende il segnale dei prezzi che è quello che diciamo non unicamente un po' come l'analisi costi benefici di prima ma certamente primariamente ci dovrebbe dare informazioni neutrali e con meno rumore di fondo possibile invece in cui ripeto per motivi contingenti che in parte sono anche condivisibili invece questo rumore esiste beh allora il tema tassi vale un po' dappertutto il tema spread no adesso senza essere troppo tecnico ma insomma vale la pena ricordare che il tasso di interesse noi vediamo un numero ma era componente era somma di una componente di una serie di componenti di una serie di addendi e uno di questi chiaramente è in Italia al contrario degli altri paesi particolarmente compresso e vale a dire il premio il premio a rischio questo se da un lato rende apparentemente più semplice l'attività di investimento perché il capitale costa meno dall'altro rende questo segnale di costo meno decodificabile nel medio nel medio termine aggiungiamo poi a questo aspetti qualitativi come l'invadenza della regolazione e soprattutto un aspetto l'imprevedibilità perché una regolazione invadente ma prevedibile certa in cui quasi quasi mi posso aspettare la mossa successiva diciamo ha parecchi difetti dal punto di vista liberale però in ogni caso permette la pianificazione dell'investimento ecco questo a mio parere è un altro elemento molto vicino alla distorsione nell'allocazione del capitale che rende difficile l'attività di investimento ciò nonostante io penso che nei post tragedie non dico il liberale deve essere ottimista perché poi il liberale per definizione è come il parere quindi diciamo però penso che un ottimismo non di maniera in un mondo segnato dall'innovazione tecnologica ma questa non la si riesce neanche a fermare diciamo pensiamo alla storia del vaccino nessuno la legge come una grande affermazione del capitalismo e del liberismo ma questo è perché la scienza da sola non organizzata non avrebbe prodotto un vaccino non sappiamo se avrebbe allocato e trovato le giuste risorse e giustamente per fortuna remunerate con qualche giusto miliardario in più in questi momenti ecco diciamo che il quadro è un po' questo l'innovazione tecnologica vale per il settore assicurativo vale per altri da opportunità di scoperte di invenzione proprio alla Kirzner direi quali mai nella storia probabilmente o perlomeno nella storia sino ad oggi ma all'altro lato prezzi distorti e regolazione imprevedibile rendono il processo che è giustamente e sanamente rischioso forse diciamo rischioso anche in modo in modo non necessario ecco grazie Andrea Costantino io diciamo come so sei diciamo una persona che segue ormai da tanti anni la realtà politica italiana mi dispiace per te lo sai io ti voglio bene però questo questo ormai fai quindi diciamo a te va una domanda di chiusura che però diciamo ha un'importanza fondamentale almeno per noi perché ci muoviamo in questa realtà ecco la politica economica perché di questo parliamo di questo governo politica economica è una parola che a me veramente fa venire più o meno l'orticale l'idea stessa che ci possa essere un'idea che facendo qualcosa si possa determinare una cassa con l'economia di questo governo per la tua esperienza esiste prima domanda e se esiste che senso ha ecco ti voglio lasciare libero sul tema mamma mia Carlo guarda l'unica immagine che mi viene è quella di un circo è quella di un circo con strani personaggi con clown con domatori di leoni eccetera non riesco veramente a trovare un'altra metafora per questa politica stiamo guardando anche in questi giorni stiamo vedendo che cosa succede in commissione con gli emendamenti che vengono approvati ma c'è un altro elemento che non è soltanto quello tipico della politica economica che anche a me fa ridere l'idea che possa esistere una politica economica almeno strutturata che è ancora più grave secondo me quindi la politica economica di cui siamo abituati perché poi hai i bonus alle mance alle prebende hai i finanziamenti a sagre di paese eccetera eccetera siamo tutti quanti abituati chi segue chi fa questo mestiere nostro lo sa perché lo commentiamo ogni anno c'è un elemento che è più pericoloso a mio avviso e adesso dirò qualche cosa che probabilmente che però si ricollega a quello che diceva all'inizio di questa diretta Franco De Benedetti lui diceva io ho visto nascere cioè ho visto nascere l'Iri io ho vissuto gli anni dell'Iri e morirò con gli anni dell'Iri il covid in questo senso è stato veramente disgraziato al di là della tragedia che c'è stata il covid ha dato l'opportunità a chi già voleva mettere in atto una command economy di fare command economy con degli altri elementi che sono altrettanto preoccupanti in prospettiva futura almeno di medio termine che il fatto che anche quando sarà passata l'emergenza sanitaria anche quando saranno stati messi in campo tutti i bonus che stiamo vedendo o il recovery fund si arriverà perché comincio a pensare e aggiungo non sono neanche tanto scontento che potrebbe non arrivare come questo governo si aspetta questa grande crisi che stiamo vivendo ci lascerà le macerie in economia e anche in finanza penso alle parole di Mario Draghi dell'altro giorno al G30 attenzione non soltanto dovreste fare debito buono eccetera eccetera non lo state facendo sottinteso ma attenzione che quello che verrà dopo sarà una grandissima un grandissimo un grandissimo momento dell'indebitamento delle società private anche quelle private su cui come si interviene le si lascia morire no non le si lascia molire almeno quelle che sono più grandi per dimensione e per impatto sociale interviene lo Stato interviene lo Stato e lo Stato è capace di intervenire a salvando queste aziende che sono in crisi b uscendo quando la situazione finanziaria di cassa e di prospettive sarà migliore il mio grande dubbio è che lo Stato se entra lo Stato italiano se entra non ne esce più non ne esce più e allora ci troviamo con una situazione in cui siamo con un'economia che era era ferma era era strutturalmente ferma da un ventennio almeno forse di più che non è riuscita a crescere nonostante ci siano lo raccontavo oggi in un'altra diretta che ho fatto nel pomeriggio ci sono comunque delle ottime eccellenze all'interno dell'imprenditoria italiana sì le dimensioni medie sono troppo piccole ci sono tantissimi problemi strutturali ci sono tantissimi problemi di sovrindebitamento con gli istituti bancari c'è pochissima capitalizzazione però ci sono anche delle eccellenze questa crisi purtroppo ammazza tanto le zombie quanto le eccellenze in alcuni casi e lo Stato se interviene sulle zombie o sulle eccellenze potrebbe veramente non uscirne più per qualche decennio questo a me preoccupa enormemente aggiungo un'ultima cosa mi ricordate quando dopo la la fine della della prima ondata uno dei verbi che venivano utilizzati da Conte era quello di combattere la burocrazia perché l'economia doveva essere liberata bla 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 c'è qualcuno che ha avuto sentore o comunque la percezione che con il decreto di luglio mi pare che fosse di luglio il decreto semplificazioni si sia semplificato qualcosa no direi proprio di no era retorico lo so io volevo rispondere certamente allora quello è stato a parte il solito bla 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 politico a cui siamo purtroppo abituati con questo governo il solito bla bla di propaganda enorme le parole pompose il cambio di ritmo eccetera eccetera a parte quello a parte le parole non c'è niente neanche in quel decreto semplificazione non c'è niente quella poteva essere invece un'occasione per cominciare a riformare una burocrazia che l'Europa ci chiede che venga riformata e noi facciamo sempre finta di noi i politici fanno sempre finta di non di non leggere quello che l'Europa ci dice da tempo dobbiamo riformare fra le tante altre cose che dobbiamo riformare anche la burocrazia l'economia italiana è ferma per mille motivi e gli imprenditori che riescono sono degli eroi per quanto mi riguarda perché riescono nonostante la politica questa crisi dovuta al covid secondo me ci lascia una situazione in cui anche quelli bravi rischiano di soffrire oppure di chiudere con uno stato che sarà a incapace come sempre b sempre più presente in ogni settore dell'economia grazie poi dice perché bevo per questo perché non è che cioè non vabbè hai notato che sullo sfondo di Costantino c'è un pangolino c'era il cane tutto nasce da lui alla fine c'era il cane da lockdown c'era il cane da lockdown pronto allora ringraziamo i nostri ospiti di questa sessione Francesco Ramella Andrea Battista Costantino De Blasi lascio per ultima mia preferita Marta Ottaviani vi inviteremo tutti chiaramente vi aspettiamo Costantino ci vediamo sempre non è neanche un ospite ma aspettiamo tutti gli altri siamo noi ospiti suoi in un certo senso però sto dicendo una cosa di affetto tu perché devi sottolineare sempre cosa dico io e approfitti che non c'è Serena questa è la verità comunque lasciamo un taglio mettete i like e partecipate all'asta mettete i like e partecipate all'asta mettete i like anche se c'è Stagnaro mettete i like allora grazie 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 a tutti aspetta che c'è Marta che sta dicendo una cosa ma è muta sei muta Marta Marta sei muta a proposito di partecipazione all'asta ci impiegherò tre secondi se c'è una cosa che Erdogan detesta sono i libri che fanno pensare le bottiglie di vino quindi mi pare che sia già solo questo un motivo per partecipare in maniera perfetto grazie anche le cronache dal fronte liberista Erdogan detesta le cronache dal fronte soprattutto quando c'è Marta credo io così ho sopporto così a occhio e croce va bene grazie 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 Marta grazie a tutti auguri auguri buon Natale auguri chiamiamo i prossimi ospiti che sono Giancarlo Loquenzi e Michele Boldrin e intanto però potremmo far vedere ai nostri ascoltatori il grande regalo che ci ha fatto Elena Visconti per questa diretta cioè la felpa delle cronache dal fronte liberista stupendo la dobbiamo fare la dobbiamo fare questa bisogna farla questa bisogna farla davvero questa poi va all'asta all'asta la vittoria sempre all'asta la vittoria sempre ecco nel frattempo è ritornata Serena ciao Giancarlo Giancarlo Buonanera ciao buonasera a tutti tutti conosciamo e tutti conoscono come conduttore di Zapping e con Giancarlo e poi appena ci raggiunge con Michele Boldrin noi abbiamo deciso di parlare nei prossimi 15 o 20 minuti ecco Michele ecco Michele della radio del declino adesso non vi sento più tanto bene proprio nel momento in cui toccava a me no ripetiamo aspetta che il tema è stagnato che non parla bene no no Giancarlo sono entrato io tutto il sistema ovviamente non sei ciao piacere di conoscere non ti avevo mai visto non ci sei è qui ho riuscito Carlo Carlo c'è tua figlia che ti voglio offrire qualcosa però è sparito Giancarlo mi ha portato mi ha portato questa birra poverino aveva paura che scendesse la gradazione alcolica anche io Carlo ti faccio compagnia un minuto 30 secondi vado vai vai tanto se io che parlo Giancarlo si sente e infatti è ritornato Giancarlo ci senti sento come la raffica di un mitra non sento le vostre voci ma mannaggia beh questi sono sono quelle che non siamo noi essendo tu un cittadino romano probabilmente è quello che sta succedendo nelle strade in questo momento no pure so come fare forse posso provare a uscire da internet e farlo con i dati forse la connessione non è ideale proviamo noi ti sentiamo bene noi ti sentiamo no esce manca pure Michele vabbè comunque è che siamo qua facciamo una puntata delle coronate romane per la gioia di Serena no no facciamo rivedere l'incallasta che ci siamo io volevo dire una cosa invece Carlo ricorda ecco guarda è tornato Michele aspetta che apro la birra perché se c'è Michele che bevevo pure io provo una birra nuova però non voglio fare pubblicità perché non so se finanzia l'istituto Bruno Leone no stai tranquillo guarda tu fai pubblicità allora anch'io dai questo si chiama death on two legs morte su due gambe penso un po' anzi domani mandiamo 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 alle ditte invece ce lo puoi mandagli terza rima è una birra poetica ecco adesso vi sento perfetto ce l'abbiamo fatta e allora dire allora il tema della 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 chiacchierata nei prossimi 20 minuti è la radiografia del declino e chi ha tanti aspetti la radiografia quindi mi trovo a mio agio esattamente quando si parla di radio esattamente e e ci sono tanti aspetti io vorrei partire da da Giancarlo Loquenzi che ha nella sua trasmissione fa sempre un tentativo lodevole cioè quello di promuovere il confronto tra rappresentanti politici e esperti in maniera tale da esporre i rappresentanti politici al dibattito anche con con persone che si occupano professionalmente delle varie materie politica economica e e altro la sensazione però è che nel panorama dei dei dibattiti sui media spesso questo tipo di incontro non ci sia è come se ci fossero due mondi separati che sono il mondo dei politici e il mondo di tutti gli altri come ti spieghi tu questo fenomeno questa difficoltà nel far comunicare questi due mondi beh innanzitutto quello che io noto è che quasi mai i politici accettano di venire nella mia trasmissione a confrontarsi con diciamo esponenti diciamo personaggi che non siano politici e che siano esperti di qualsiasi materia cioè è molto raro che un politico se la senta di venire a partecipare ad un dibattito già è molto difficile che un politico accetti di venire ad un dibattito radiofonico con un altro politico che ritiene magari minaccioso o insidioso nel particolare occasione che gli si propone ma ancora molto più raro è che un politico accetti di venire non con un politico ma con un tecnico con un esperto con uno con uno scienziato quella è una cosa che si verifica rarissimamente vengono se sanno che il personaggio portatore di una certa competenza verrà magari prima magari dopo di loro ma mai contemporaneamente le poche volte che succede il cortocircuito è quasi sempre quasi sempre a portata di mano cioè si parlano dei linguaggi che non arrivano mai ad intersecarsi cioè non c'è mai una prova e una controprova si viaggia su binari paralleli che non si incontrano mi sembra abbastanza chiaro il motivo per cui i politici non si vogliono mettere alla prova con personaggi che non sono come loro alla ricerca di un consenso immediato elettorale potenzialmente elettorale demoscopico non so come dire ma con qualcuno che è portatore di una qualche forma di sapere riconosciuto perché la costruzione che è una costruzione quasi del tutto solo narrativa viene sbriciolata abbastanza facilmente dai dati di fatto i politici poi i dati di fatto non se li ricordano vengono in trasmissione con 4 o 5 bigliettini con 4 o 5 idee da ripetere schemi di discussione che gli sono stati dati dai loro assistenti dal loro ufficio stampa che magari hanno verificato se sono magari quelli sono veri o sono attendibili in qualche modo se però gli si pone una domanda minimamente laterale sulla base di un dato che loro non hanno sulla punta della lingua non hanno nei loro tacquini non hanno nella loro preparazione mnemonica per quella particolare trasmissione vanno completamente in tilt non hanno la capacità di ribattere non hanno la capacità di puntualizzare quindi è molto difficile che si espongano ad un discorso fattuale che non sia basato sulla loro narrativa e con quella piccola manciata di dati che gli viene fornita per sostanziarla loro sanno che se hanno di fronte un altro politico lo scolto sarà quasi tutto è prevalentemente uno scontro di narrative e su quello ci si trovano al loro agio perché sanno come muovere le leve dell'emotività della sensazione sanno come andare a pescare nei sentimenti dei loro elettorati e contrapporsi agli stessi meccanismi con cui i loro avversari fanno lo stesso con i loro diciamo elettorati quando si tratta di avere a che fare con dati di fatto o dicono questo lo dice lei diciamo questa è la via d'uscita più diffusa che però non sempre funziona ed ormai è anche un po' usurata e quindi preferiscono non misurarsi con questo e questo è un problema molto importante perché invece sarebbe molto sano che i politici accettassero di fare un bagno di realtà un po' più profondo un po' più impegnativo di quello che si concedono di fare ogni tanto li aiuterebbe anche cioè sarebbero il loro standing se accettassero di fare un bagno di realtà e non ci affogassero sarebbe un lo vedrebbero aumentato cioè la gente potrebbe dire vedi quel politico ha avuto il coraggio di tuffarsi ed è non è annegato ed ha fatto una pessima figura e invece sono sicuri di affogare quindi non lo fanno tutto qui però io ho sempre questo tarlo in testa e lo chiedo a Michele è un problema dei politici o è un problema della politica e quindi la politica non esiste è quella cosa che fanno i politici beh la politica ti spiego è un problema della classe dei politici che abbiamo adesso e quindi basta cambiare le facce che era un po' anche lo slogan dei 5 stelle oppure è un problema di noi che selezioniamo la classe politica e che in fondo non chiediamo conto alla classe politica di essere più seria competente stare ai fatti e e e alle evidenze perché questo cambia la responsabilità eh sì hai già detto tutto e un po' l'ha detto tutto Giancarlo io ho una versione più sintetica i politici non amano dibattere con esperti di questo di quello o comunque con persone indipendenti che abbiano qualche capacità analitica dei fatti perché risulterebbe palese che non sanno quel che dicono e recitano versetti più o meno retorici che ritengono essere quelli ottimali per raccogliere voti ora tu dici responsabilità nostra sai io su questo sono più individualista di voi del Bruno Leone mia no quindi per scherzare eh piano con le offese non so se si è responsabilità dei cinque qui presenti siamo in cinque un due tre quattro cinque poi ci sono alcuni dietro la scena non contiamo così tanto però noi intendo questo è responsabilità degli elettori a mio avviso io da lungo tempo mi sono convinto che essendo la crisi italiana una crisi strutturale di lungo periodo che ha radici culturali e sociali se vuoi provare a invertire non che io assegni grande probabilità a questo evento ma è l'unico gioco da fare per cui o non giochi del tutto o se giochi un po' ti accontenti di raccattar palla tirar palla ogni tanto a questo gioco che è un gioco di rendere presente che sì l'evoluzione socioculturale questa cosa che chiamiamo l'Italia del suo elettorato della maggioranza del suo elettorato è stato tale da produrre questa classe politica che è bla 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 quello che avete già detto incapace di confrontarsi con la realtà vende retorica acquista voti su retorica vive in un equilibrio devo dire magico perché se ci pensi molti colleghi io non ho mai fatto parte del gruppo di catastrofisti di quelli di se battiamo dosso il muro c'è c'è le catombe credo di essere stato assieme ai colleghi di Unione dell'America quello che ha introdotto nel dibattito italiano la parola declino credo proprio che si debba a noi ed era sulla base di un'analisi che diceva guardate che l'Italia è un paese con una storia cultura anche ricchezza stiamo declinando lentamente ed è tragico perché poi altri hanno elaborato la metafora della rana bollita che ha iniziato tutta contenta non si accorge mai e alla fine si trova cotta ma non se ne ha accorta praticamente così quindi di fronte a questa situazione ovviamente cerchi uno shock ma non perché lo shock trasformerebbe il 60% dell'elettorato in magicamente persone che cercano evidenza e professionalità perché basterebbe un 10% dell'elettorato che dichiarasse che il re è nudo manca anche quello e su questo visto che stiamo parlando di giornalismo e chiudo sì la responsabilità del sistema mediatico dell'equilibrio nel sistema mediatico è pesantissima io mi pongo spesso una domanda sulla nostra responsabilità e spesso mi ricordo non so se l'avete vista qualche mese fa forse un anno fa o di più girava sui social una intervista di una giornalista della BBC a Jeremy Corbyn e la giornalista chiese a Corbyn per la prima volta questa domanda ma secondo lei mi dica questa cosa molto semplice il Regno Unito con la Brexit sarà meglio o starà peggio e Corbyn partiva per la tangente dicendo gli lavoratori le cose e lei gli faceva no scusi io le ho chiesto nel Regno Unito sarà meglio o starà peggio con la Brexit e Corbyn di nuovo a noi ci interessa che no scusi io le ho chiesto sarà meglio e questa cosa è andata avanti per 7-8 volte e Corbyn continuava sudando allora io qualche volta quando ho qualche politico di un certo livello mi chiedo quante volte mi è consentito rifare la stessa domanda posso fare questa stessa scena è utile mi serve serve a chi ci ascolta serve a chi parla cioè qual è il limite in cui diciamo questa nostra questa nostra intervista questa nostra attività diciamo di inquisizione funziona diventa diventa utile in qualche modo cioè dobbiamo imitare quel tipo di cosa lì altrimenti siamo complici oppure se facciamo quel gioco lì è un'altra forma di teatrino a cui in qualche modo magari così per autocompiacerci vogliamo accedere comunque è un tema interessante io quando mi sento rispondere in trasmissione da un politico una risposta senza capo né coda sinceramente io più di una volta forse due se proprio non me la sento di insistere anche se mi accorgo che la seconda o la terza risposta sono altrettanto senza capo né coda a un certo punto mi arrendo forse faccio male però forse sono complice però mi chiedo fino a che punto un pochino tu meno degli altri eh tu molto meno degli altri un pochino se non ti arrabbi sì io essendo ormai da 40 anni abituato al mondo che descriveva Serena e Carlo sono più abituato a quelli che continuano a dire no excuse me you just didn't answer my question would you mind to answer my question let me repeat my question perché gli saltano i nervi un giochetto gli fa saltare ma mi rendo conto che nella cultura italiana ci sono nato anch'io ci sono cresciuto anch'io e la capisco questo non lo sappiamo fare e purtroppo questo ha creato un certo tipo di equilibrio non so come se ne esce da quell'equilibrio io posso far scusa Michele sì prego prego sì sì no io volevo spostare un attimo la domanda invece proprio sull'economia e l'informazione cioè sul tema economia e informazione perché io una volta sono stato ospite da Giancarlo una delle poche volte in cui ho scritto una cosa interessante si parlava di migranti e ricordo che restai impressionato dalla capacità non solo di Giancarlo e non solo Giancarlo aveva letto tutto il paper che era una rottura di palle bestiale proprio bestiale ma mi fece delle domande particolarmente complicate poi siccome io il paper lo scrivo spesso insieme ad altri non faccio quasi mai una minchia mi mise anche in difficoltà allora il tema però io vorrei chiedere a tutte e due a Michele diciamo come produttore di informazione economica e a Giancarlo come fruitore e diffusore di informazione economica ecco vi chiedo siccome mi sembra che il paese sia particolarmente poco ricettivo rispetto diciamo alla necessità di avere educazione economica capacità di andare a cogliere in essi di causalità rispetto a certi argomenti a Michele chiedo se secondo lui c'è un problema culturale nel paese è un problema anche della disciplina cioè che la disciplina poi ha ormai una deriva per cui in alcuni aspetti è un po' complicata da spiegare e a Giancarlo invece chiedo se è la mancanza di impegno e di preparazione da parte dei suoi colleghi non suoi perché io l'ho sperimentata sulla mia pelle diciamo che può spiegare in qualche modo questa incapacità di spiegare alle persone i temi economici con chiarezza decidete voi chi vuole cominciare Michele vai mi butto io perché se no dopo vado dopo io sono cattivissimo poi devo fare questa parte a proposito avete visto che mi sono toccato gli occhiali stasera ci sono fenomeni atmosferici probabilmente cosmologici gravissimi deve essere l'avvicinarsi del cosiddetto santo natale o quel che sia forse il capodanno o forse perché hanno cominciato a prendere il vaccino che ne so insomma il mio audio funziona e questo è Giove e Saturno secondo me sì ma guarda Carlo no io non credo che tra l'altro l'economia o nessuna di queste cose siano diventate più complicate particolarmente anzi c'è un senso in cui alcune delle cose accadute negli ultimi due decenni hanno in un certo senso semplificato i termini dell'analisi il commercio estero la produttività insomma queste cose non le sto ripetendo le pensioni è tutto piuttosto semplice io vedo che con le persone che hanno voglia di ascoltare non perché io sia particolarmente bravo didatticamente non me la cavo ma ne conosco di tanti meglio le persone senza tante lauree mi dicono ma sai che si capisce non metti pane al pane vino al vino ogni tanto ci metti qualche espressione di umatica veneta e la gente capisce va bene anche quella siciliana secondo me come tu sai taruncello mio si può anche dire sul Bruno Leone perché io e Carlo ce lo diciamo non vorrei ma a me può dire quello che vuoi ma lo so tesoro mio lo so allora non credo sia quello un po' sì io credo sia io non ho una grandissima esperienza nel mondo giornalistico di 50 anni fa o 40 anni fa però però devo dire che mi sono trovato in questi anni di fronte situazioni e vabbè adesso sembra una sviolinata Giancarlo non è il caso però di persone che ti facevano delle domande si capivi che che cazzo mi stai a dire hai messo quattro parole in croce non sai neanche cosa mi hai chiesto peccato che mi hai chiesto una cosa a cui non si può rispondere però non è lì il problema il problema è in questo declino culturale ma adesso mi viene bene una roba una tirata lunghissima per cui rimando faccio un po' di pubblicità liberi oltre di questi giorni facciamo un pezzo con Paolo Bizzarri su questo questo ve lo mostro però e vi sorprenderà perché l'autore del libro è un comunistaggio Machiavelli chi è? Azor Rosa è Azor Rosa l'ultimo libro di Alberto Azor Rosa un signore che ha 87 anni che io conosco dai tempi che faceva l'operaista e contropia è andato è lui appena uno parla di comunismo giustamente è giusto è giusto questa è la prova che il problema del microfono di Michele è un problema di spionaggio è chiaro appena ha parlato di comunismo Giancarlo allora intanto dici tu sono i tuoi colleghi oppure che Michele torna e non torna ma eh lo voglio dire no dico così in generale non dobbiamo fare i nomi con noi però se voi c'era è successo il disastro qualcuno qualcuno dice che è Rick Dufer secondo me è proprio spionaggio questo è sempre un'invasione aliena stiamo capendo un signale da una galassia esatto e allora vai Giancarlo allora bisogna partire da un dato di fondo da un presupposto iniziale il giornalismo è un mestiere in crisi da tutti i punti di vista economico culturale strutturale di idee di tecnologie di prospettive cioè il giornalismo è diciamo alla canna del gas più o meno in Italia almeno ovunque qua e là nel mondo ci sono dei modelli a cui si fa riferimento per la speranza che il giornalismo abbia un futuro ma oggi come oggi il giornalismo è un mestiere oltre che in crisi quindi le relazioni si svuotano c'è tutta una classe di giornalisti che esce fuori e che lascia lo spazio a giovani che vengono presi al minimo della paga senza contratti per copiare e incollare notizie da altri siti insomma quindi la qualità del giornalismo rispetto ai tempi in cui c'erano le vacche grasse si potevano fare contratti fantastici e qualche volta in questi contratti fantastici tra i tanti senatori ci incappava pure qualche bravissimo giornalista che sapeva come mettere il mestiere al servizio dei cittadini dei lettori insomma della verità vorrei dire oggi questa cosa qui è molto più complicata nessuno ancora sa quali sono i media che sopravviveranno come farli sopravvivere da dove prendere i soldi dalle sottoscritte agli abbonamenti dalla pubblicità chi bisogna fare contento gli editori i lettori gli inserzionisti a chi bisogna vendersi è tutto molto molto complicato e questo provoca diciamo un impoverimento della classe giornalistica della sua produzione ora l'idea che un giornalista possa avere il tempo oggi con diciamo la dittatura del breaking news che possiamo essere sempre i primi a dire tutto per prepararsi un'intervista un po' strutturata essendosi letto non dico un paper ma un articolo su cui fondare le sue 4-5 domande è già tanto chiedere e quindi questo lascia braterie spostinate a del giornalismo ha bisogno le proprie veline le proprie cose trasversali senza un vero contrattare ovviamente con tutte le eccezioni del caso dovute ce ne sono migliaia di colleghi bravissimi però in generale il mestiere si è molto impoverito si è piegato la dittatura della velocità e ha rinunciato per gran parte alla qualità perché i soldi per la qualità i tempi per la qualità ci sono sempre meno e spesso magari la gente nemmeno li nemmeno li vuole li vuole pagare cioè chi è che ha veramente bisogno di notizie di qualità chi ci lavora allora infatti vanno molto bene Bloomberg Financial Times cioè chi ha bisogno per lavoro di notizie di prima scelta tempestive approfondite è disposto a pagare tutti gli altri leggono gli articoli che gli condividono gli amici su Facebook o prendono i primi trade che gli dà Google News questo fa sì che nessun editore si possa permettere un giornalismo di vera qualità di prendere giornalisti in grado di studiare in grado di approfondire in grado di fare le domande giuste e questo è una manna per i politici perché come si diceva non so non so quale giornalista lo disse se un politico tu non gli fai dire almeno una cosa che non voleva dire se non gli fai spiegare almeno una cosa che non voleva spiegare se non gli estrai una notizia che non voleva dare hai fatto marketing non hai fatto giornalista non hai fatto giornalismo e noi purtroppo spesso facciamo soltanto marketing ma lo dico anche per me cioè io devo riempire una puntata al giorno di un'ora e mezzo di interviste e spesso mi sono costretto a prendere degli interlocutori dei politici che non sono convinto di voler prendere però devo fare massa devo fare numero devo come dire mettere palate di carburante nella locomotiva della mia trasmissione che non si può fermare mai e qualche volta quel carburante è quello che è insomma non so che succede però ecco è il microfono Michele è Michele che prova ad aprire il microfono tu devi sapere che c'è una storia stupenda c'è il microfono del professor Belgrin cioè è incredibile questa sera per la prima volta nella storia mutatelo Michele Michele scrivi i pizzini scrivi e ce lo fai vedere così i pizzini evitiamoli che finiamo poi Giancarlo devi sapere che Michele viene regolarmente preso in giro dai suoi migliaia di fan sui canali perché ha sempre i microfoni che non funzionano questa sera che qualcuno ha detto che il microfono funzionava è successo questo quindi vedi un po' però è successo alla parola comunismo alla parola comunismo esattamente alla parola comunismo insisto è successo la parola asorrosa no la parola comunismo asorrosa ed è ricapitato di nuovo e allora salutiamo salutiamo Michele lo ringraziamo salutiamo Giancarlo Loquenzi grazie per essere stato con noi esprimiamo tutta la nostra stima per il professor grazie a noi vorrei proporre una cosa una piccola percentuale del ricavato dell'asta dell'asta IBL diamola a Michele ci compriamo un microfono a Michele per cui mi raccomando partecipate all'asta anche per la causa benefica di regalo a un microfono a Michele facciamo facciamo crowdfunding per un microfono grazie per essere stati con noi grazie Giancarlo grazie Giancarlo grazie Giancarlo e grazie a tutti quelli che stanno partecipando all'asta che però insisto non saranno mai abbastanza e soprattutto continua a non muoversi la 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 scommessa per partecipare alle alle cronache con noi ma mettere un euro in più un euro qualche numero per farvi capire le cronache a fronte liberista sono nate il 12 marzo 2020 all'inizio dell'ottuna io già mi sto commuovendo un minuto abbiamo fatto da allora 126 puntate 127 con oggi vedi che mi dà in merda con sto con sto dpcm e cose che ci hanno fatto fare il 21 marzo abbiamo avuto il primo ospite che è stata Claudia Squeglia dopo Claudia sono venuti tanti altri ospiti ne abbiamo fatti 52 ospiti fino a oggi esclusa la serata di stasera perché mi ha perso il conto non sappiamo quanti sono e quindi se volete essere per una settimana nel backstage delle cronache e metteteci sto cazzo di euro in più allora abbiamo capito che non volete essere per una settimana però metteteli comunque cioè fatelo non per stare una settimana nel backstage ma fatelo per una buona causa qual è la buona causa? no l'istituto non noi è certo e allora salutiamo Vital Bazzolini che non è ospita anche lei è di casa sia lei che Andrea Giuricino benvenuti grazie dovrebbe esserci Nicola Iannello disperso nell'etere da qualche parte speriamo di trovarlo e e vabbè Vital Bazzolini Andrea Andrea vi promettiamo una cosa non si parla di Alitalia questa sera no 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 io intanto voglio ringraziare pubblicamente Andrea Giuricino e Carlo Stagnano per avermi consentito di fare metà dell'ultima lezione del corso di economia e gestione dell'eutilitis perché dovevo parlare di servizio idrico integrato ho fatto l'introduzione ho messo il loro video e mi sono addormentato quindi il ringrazio è che gli studenti hanno imparato da loro professori molto meglio ovviamente del sottoscritto quindi Carlo l'avevo già ringraziato e invece Andrea no lo ringrazio pubblicamente Vital Bazzolini purtroppo non insegno diritto perché non sono degno se no utilizzare i tuoi video ma purtroppo diciamo lo sai non ne capisco niente mi dà le lezioni Serena ma purtroppo va beh ma scusa il 12 marzo ormai cioè potresti avere con le lezioni che ti ha fatto Serena una seconda là ma infatti io ho provato volevo provare ora l'esame in magistratura però vediamo allora abbiamo un economista che è Andrea Giuricin e una giurista che è Vital Bazzolini un bravissimo economista una bravissima giurista e visto che sono l'uno di fronte all'altro io vorrei fare la domanda la domanda del secolo per giuristi e economisti ma c'è possibilità di dialogo tra le due discipline perché io quando parlo con gli economisti è tutto un altro mondo quando parlo con i giuristi è tutto un altro mondo tante volte con Vital Bazzolini ce lo diciamo questa multidisciplinarietà di cui tanto che tanto vantiamo che tanto cerchiamo tra due discipline che sono comunque discipline di scienze sociali è mai possibile provare a raggiungerla un po' di più rispetto a quello che non sia ora? ma evitando prima sempre i giuristi Andrea prima sempre i giuristi prima i giuristi e le donne quindi questa è la condizione questa è la condizione per provare a collaborare giusto Andrea questa è la condizione per provare a collaborare prima i giuristi poi noi aggiungiamo allora io devo essere sincera ho cominciato a uno dei primi temi su cui negli ultimi anni ho cominciato a scrivere anche se dire uno dei primi temi su cui negli ultimi anni sembra una cosa un po' pasticciata è stato però in realtà proprio un tema che secondo me rappresenta l'anello di congiunzione quanto meno il punto di incontro fra economia e diritto ed è un tema pressoché sconosciuto in Italia che è appunto l'anello di impatto della regolamentazione perché praticamente è il 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 campo su cui entrano in gioco entrambe le discipline e addirittura anche una serie di discipline diverse quindi rappresenta proprio il punto di incontro non solo tra diritto ed economia ma anche tra le scienze come possono essere quelle mentali e altro per quale motivo è un tema che mi ha appassionato perché soprattutto in Italia noi sappiamo che c'è un iperattivismo regolatorio cioè qualunque governo arriva comincia a promettere che farà delle nuove norme delle nuove discipline delle nuove riforme e quindi misura il proprio consenso sull'annuncio di tante più norme ora normalmente le persone pensano che siano le norme ad avere un impatto sulla realtà ma di fatto non sono le norme astratte che hanno un impatto il loro funzionamento concreto e questa analisi di impatto serve proprio a vedere quali saranno appunto gli impatti l'incidenza delle regole sulla vita delle persone ecco allora per capire come funzionerà una regola e quindi quali effetti anche economici produrrà è necessario che il giurista anzi chi la scrive il politico e poi i giudizi di cui si avvale per scriverla mettono in campo delle misure quindi un metodo di misurazione dell'impatto della norma ed ecco che servono gli economisti per capire proprio quali saranno gli effetti economici a cosa serve tutto questo ci serve a far sì che quando vengono annunciate delle riforme noi chiediamo quale sia l'analisi di impatto di quella riforma e per mettere all'angolo il politico e quando poi si tratterà di verificare se sono si sono effettivamente prodotti gli effetti che lui aveva annunciato e badato ex ante quindi ecco è un modo ed è un metodo attraverso il quale noi potremmo effettivamente mettere alle corde e pretendere che ci sia reso conto dell'azione che era stata annunciata e che poi è stata barata in questa maniera noi riusciamo a dare sostanza al concetto di accountability che è quello di rendere conto rendersi credibile attraverso appunto l'azione del rendere conto quindi a mio parere l'analisi di impatto delle regole fatte preventivamente può essere appunto il momento di incontro tra queste due discipline che possono finalmente parlarsi grazie vitalba se mi posso attaccare a quanto stai dicendo te è essenziale poi anche il tema dell'iperregolazione che colpisce secondo me troppo spesso l'Italia cioè il tema dell'iperregolazione troppo spesso l'abbiamo visto come un incentivo poi a non far funzionare l'economia ed è come dici te purtroppo qualcosa che piace tanto ai politici perché piace allertare di nuove norme che cambieranno questo o quest'altro ma che in realtà poi provocheranno in realtà un'incertezza del diritto o un'incertezza regolatoria che fa sì che il mercato non possa appunto funzionare e se il mercato non funziona ci ritroviamo di fronte a dei fallimenti o comunque ci troviamo di fronte a delle situazioni che di fatto non portano a quell'ottimo che la regolazione voleva portare bensì portano molto distante quell'ottimo che provoca poi degli enormi problemi per i consumatori e sulla regolazione poi secondo me è molto importante che lo stiamo vedendo adesso nella legge di bilancio ci sono tante piccole norme che stanno introducendo nella legge di bilancio pensate al famoso ormai bonus VC o bonus urbinetti adesso poi dipende un po' come lo vogliamo capire al di fuori poi dei bonus monopattini o comunque tutte diciamo queste piccole norme inserite da qualsiasi lobby più o meno ragionevole in funzione diciamo delle proprie esigenze ma è chiaro che poi tutta questa iperregolazione che va a rispondere a dei piccoli gruppi di interesse cui il nostro Parlamento cerca di rispondere come è logico che sia purtroppo porta a una situazione dove poi non funziona nulla perché? perché si utilizzano tantissime risorse pubbliche tantissimi soldi delle nostre tasse per quella piccola finalità o per quella grande finalità adesso non voglio parlare di Alitalia ma può essere dai 3 miliardi dati ad Alitalia fino ai 20 milioni per il bonus Rubinetti e tutto questo chiaramente passa tramite delle leggi in questo caso pensiamo o il decreto rilancio e prima prima il decreto rilancio adesso con invece la legge la legge di bilancio che stiamo vivendo proprio in questi giorni fa sì che di fatto tutto questo di fatto poi non funzioni è un'Italia come spesso lo sentiamo dire qua al Bruno Leoni ma è un'Italia proprio degli incentivi dati a pioggia e questi incentivi dati a pioggia rispondono alle esigenze di piccole categorie la cui politica risponde poi a queste categorie questo secondo me è uno dei tanti elementi che fanno sì che non funzioni in Italia è uno dei tanti elementi per cui si sprechino tanti soldi in Italia è uno dei tanti elementi per cui poi la tassazione elevata e noi ricordiamoci sempre come amo ripetere spesso anche con con il buon Carlo siamo in un paese da socialismo e reale perché quando pensiamo alle tante aziende che ormai sono gestite direttamente o indirettamente dal pubblico dai gelati agli abiti alle compagnie aeree indirettamente servizi direttamente servizi postali di tutto e di più ormai ci ritroviamo in un paese da socialismo e reale con un'ipernormazione che di fatto quasi che non funzioni o che funzioni molto male si sprechino un sacco di soldi sì però io così mi deprimo cioè io voglio dire nel senso che continuiamo sempre non c'è stata fino a una sessione che abbiamo chiuso con un minimo di speranza cioè ora giustamente dobbiamo far parlare prima prima forse l'economista Andrea che ci parla di speranza poi invece Vitalba ci dice ma forse una norma ci salverà Carlo allora possiamo dire che all'Italia farà un ottimo è un ottimo piano industriale quello di all'Italia e voleremo finalmente tutti all'Italia Andrea faremo dei bellissimi monopoli sul mercato interno e finalmente l'Italia farà solo Andrea vedi che io ho pevuto non mi sono drogato no perché Amenta come al solito non ragiona quadridimensionalmente è evidente che il piano di ristandamento di All'Italia funzionerà perché è stato presentato in coincidenza con una fase in cui è impossibile volare quindi All'Italia avrai con quelli delle altre compagnie e allora ringraziamo sia Vitalba che Andrea permettetevi di dire che se tutti i giuristi fossero come Vitalba e tutti gli economisti come Andrea secondo me riusciremmo a metterli un po' più d'accordo se tutti gli economisti fossero come i due Carli e tutti i giuristi come Serena potremmo solo imparare questo ah Nicola è arrivato ora Nicola Vitalba voleva dire qualcosa io volevo dire solo una cosa sempre solo per richiamare il tema per cui siamo qui io volevo solo proprio fare il mio appello personale ad aderire all'asta solo citando una cosa ci tengo a dirla pubblicamente io debbo tantissimo all'Istituto Bruno Leoni io ho cominciato tanti anni fa a scrivere sul blog dell'Istituto Bruno Leoni che mi ha ospirata ed era le prime cose che scrivevo tra l'altro grazie a una loro collaboratrice dell'epoca cui avevo avuto degli scambi epistolari e mi disse scrivili sul blog dell'Istituto Bruno Leoni e quindi da lì poi ho cominciato a scrivere come faccio adesso attualmente quindi io volevo proprio approfittare di questa serata per invitare ad aderire alla causa per cui siamo qui e per fare il mio ringraziamento pubblico ecco quindi dopo la mia testimonianza per cui serve veramente contribuire a che queste belle realtà possano andare avanti ci tenevo tanto a dirlo grazie davvero grazie davvero grazie di cuore a voi prima di rubare la parola a Nicola prima di rubare la parola a Nicola scusami anch'io devo perché io sono cresciuto nell'Istituto Bruno Leoni ero ancora un giovincello studente che stava scrivendo ma lo sei ancora giovincello abbiamo creato dei mostri grazie all'Istituto Bruno Leoni sono cresciuto io mi ricordo i primi paper ormai quasi 15 anni fa quindi anch'io devo ringraziare l'Istituto Bruno Leoni e mi accuodo proprio a Vitalba per quello che ha detto grazie grazie sia a Vitalba fate l'offerta per le cronache mentre Vitalba faceva l'appello qualcuno ha fatto un'offerta e siamo saliti a 283 euro no veramente qua c'è scritto sempre 227 è sbagliato io sul mio che ho aggiornato vedo 283 è tanta preziosissima e anche Andrea approfitto per una per una cosa se non volete mettere mano al portafoglio comunque c'è sempre vergogna no potete sempre comunque votare ibl sul mio dono punto it Vitalba ci ha regalato una sua un suo video promozionale per il mio dono punto it quindi colgo l'occasione anche per ricordare questa cosa che è una cosa per la quale non dovete mettere nemmeno un euro poi l'euro comunque mettetelo comunque per l'asta grazie ancora Vitalba e Andrea benvenuto Nicola benvenuto eccoci mi sentite mi sentite ti sentiamo sei in una base artica ti vediamo sì praticamente sì praticamente sei alle foto più lontano più lontano volevo dire mi avete fatto intervenire dopo Giuricin quindi in qualità di vecchio praticamente Giuricin cioè io quando mi ricordo sono così vecchio e ho visto così tanto tempo fa l'istituto Bruno Leoni che Mingardi era minorenne dico solo questo e Giuricin Mingardi è ancora minorenne che io sappia o no? e Giuricin giocava con i trenini quelli proprio i trenini quelli che di Natale era già si stava specializzando nei trasporti però era fermo i trenini quelli in miniatura quindi e tutti noi all'epoca abbiamo pensato da grande voglio diventare come Iannello e poi per fortuna avete cambiato idea per fortuna avete cambiato idea nel mentre meno male meno male perché servono ecco questo ci potrebbe portare a parlare del mercato perché il mercato manda dei segnali sono importanti soprattutto gli errori che insegnano cosa non fare quindi avete visto quello che facevo io e avete fatto altro e quindi avete avuto successo e questa è la chiave oppure hai creato dei mostri non lo so ma secondo me io mi ricordo Mingardi 16enne come mostro era già sulla buona strada salutiamo Nicola prima che Mingardi ci licenzi tutti a sto punto perché siamo avanti così e diamo anche benvenuto agli altri due ospiti di questa sessione che sono Madeleine René e Rick Duferre brevissima presentazione Madeleine è una cantante ha una cantante lirica ha una esperienza una storia professionale incredibile ha cantato con Pavarotti se voi guardate il padrino parte terza la vedete interpretare la cavalleria rusticana ha fatto cose pazzesche Rick Duferre come ti possiamo definire Rick? pop filosofo va bene? no però pop filosofo muto così in questo momento intanto muto muto è una buona mi ha mutato la regia giuro non sono come Michele Boldrini non stavamo volessi fare come Michele Boldrini in realtà no 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 è la regia che mi ha mutato quindi gombloddo sicuramente sono molto di meno rispetto a qualcuno che ha partecipato al padrino quindi tanto di cappello e no comunque io mi occupo di filosofia divulgazione divulgazione culturale e commento politico ogni giorno online su youtube twitch e via dicendo tra l'altro ogni tanto Rick cerca di abbassare il livello del suo canale invitando anche anche noi come ospiti e ce la mettiamo persone come Carlo Stagnaro che ha inabissato la qualità del mio canale giustamente ci dispiace ci dispiace e quindi il tema di questa chiacchierata è un po' diciamo eccentrico rispetto alle altre agli altri panel che abbiamo affrontato volevo parlare di arte e libertà e vorrei partire con una domanda a Madeline quanto è importante per un artista poter vivere in una società libera aspetta che sei in muta sei in muta sei in muta Madeline devi aspetta un attimo però una cantante mi senti? sì? ora sì perché per una cantante non essere sentito veramente terribile volevo dire che dopo tutti gli anni che vengono alle cene da voi all'Istituto Bruno Leone scusi io non avrei mai sognato di essere invitato anche a parlare quindi ringrazio Carlo ringrazio Alberto ringrazio Franco e saluto tutti gli amici di tutti gli anni allora la libertà il diritto dei cittadini di praticare espressioni artistici scusa c'è mio marito che dice che ero muto vabbè insomma è l'unica volta che lo può dire fare parte della vita culturale di un paese questo si chiama democrazia lo salutiamo e io sono non si sente si sente si sente si sente si sente puoi tranquillizzarlo si sente è lui che deve alzare il volume Alberto deve alzare è un po' sordo è un po' sordo dico le cose non mi sente o fare i film non sentiamo dunque una cosa importante allora io sono americana ma vivo qua da quasi 40 anni noi abbiamo il primo amendamento della nostra Costituzione che spero che vada avanti a essere una bella democrazia che salvaguardia l'espressione artistica quindi questa è una cosa importante perché l'artista deve essere libera perché è intrinsica nella parola arte la libertà però io in veste di cantante lirico ho avuto la possibilità di girare il mondo e sono stati in paesi dove diciamo l'arte non va a ripasso con la politica posso dare qualche esempio nell'86 sono stata in Cina con l'opera di Genova in un tournée il primo tournée dell'Occidente c'era anche Pavarotti abbiamo fatto la Bohème ed era poco tempo dopo Chairman Mao ha fatto la sua rivoluzione culturale dove la musica classica è stata non solo proibita ma la gente che lo praticava venivano puniti torturati imprigionati e Chairman Mao Mao Zedong ha pensato a distruggere tanti strumenti più di 500 pianoforti allora questa è già una scena agghiacciante quando si pensa che l'arte viene veramente castigata in questo modo poi dopo per esempio prima della caduta del muro sono andata a cantare in Bulgaria dove per esempio i servizi segreti sono andati in casa del tenore che faceva Alfredo io delutavo Violetta nella traviata e li hanno interrogato quindi anche questo è una situazione inquietante poi le recise sono andate tutte bene insomma è stata un'esperienza artistica di altissimo livello però in un contesto che non dava la libertà assoluta all'arte e quello che succedeva nei teatri e un altro questo poi lascio la parola a qualcun altro ricca che è più abituato a parlare di me sono andata a cantare in Ungheria anni fa e una volta per motivi culturali più che politici facevano tutte le opere nella lingua del paese dove si svolgeva l'opera in questo caso era ungherese la lingua io ero l'unica cantante su palcoscenico che cantava in italiano ed è stato abbastanza difficile perché uno ti canta in pagina ho fatto il doppio lavoro perché dovevo lavorare per fare la parte degli altri nella mia testa per entrare nel momento giusto e c'era un momento che mi ricordo Adina dice morto lo zio morto lo zio allora ho chiesto a qualcuno come si dice in un ungherese morto lo zio e mi hanno detto me goto baci me lo ricordo ancora allora proprio alla fine dell'opera quando si dice morto lo zio ho detto me goto baci e il piatto è venuto giù quindi insomma ma si faceva anche Wagner in Italia una volta in italiano era un'usanza quindi insomma è importante avere una libertà artistica però non è sempre il caso l'abbiamo visto anche in Ungheria adesso con Orban che vuole privare la cultura e le sue istituzioni e della sua autonomia e questa è una roba molto seria e molto pericolosa io ho una domanda per Rick perché parliamo diciamo di arte e libertà per me lui diciamo mi incarna una persona che fa una forma d'arte perché diciamo ora qualcuno diceva insegna a questi tre a usare Twitch io mi sono iscritto poi mi sono perso quindi diciamo già per me sei anni luce avanti in termini di creatività e capacità diciamo di utilizzare e competenze quindi fatta questa questa doverosa premessa ecco un po' di letteratura sulla libertà che ci consigli qualche romanzo qualche libro perché da noi qualcuno l'abbiamo anche letto però siccome io i capelli li avevo lunghi quando leggevo di più di quanto leggo ora magari ci dai qualche buon consiglio non so se playboy vale però Carlo no mi ha appena tolto mi ha appena tolto un gran pezzo di consiglio che volevo dare però playboy è un grandissimo in alla libertà ora se vogliamo affrontare questo argomento io sono esperto però andrei avanti poi c'era la famosa intervista di Milton Friedman vabbè ecco esatto guarda allora io quando penso ad arte e libertà in realtà dico sempre che l'arte non è libera è libertina cioè nel senso l'arte è molto più che libera l'arte c'è una definizione del poeta Lorenz che secondo me io sono molto legato perché Lorenz diceva che noi in realtà come società ci costruiamo degli ombrelli che ci riparano dal caos gli ombrelli sono fondamentalmente l'insieme di opinioni l'opinione pubblica quella politica e via dicendo e poi di tanto in tanto arriva l'artista cosa che fa l'artista l'artista è quello che da sotto l'ombrello fa un taglio sull'ombrello per far entrare quel caos da cui tutti si riparano ovviamente per fare questo intanto ci vuole un coraggio della madonna perché la gente poi non ti vuole bene hai mai tagliato l'ombrello di qualcuno che si ripara dalla pioggia non ti vorrà bene quella persona in secondo luogo perché bisogna bisogna voler portare dentro qualcosa che gli altri non riescono neanche immaginare perché questa poi è l'arte l'arte non è semplicemente si dice molto spesso l'arte è un rimescolamento di cose che altri hanno detto questo è vero però l'arte è anche in missione di novità per rimettere le novità non devi essere soltanto libero devi essere scatenato l'artista è scatenato per questo l'artista quando si instaurano come diceva prima Madeleine quando si instaura una dittatura l'artista è sempre visto o come quello che va eliminato oppure come quello che va usato per la propaganda perché cosa fa l'arte quando non viene eliminata in una dittatura diventa propaganda l'abbiamo visto con il nazionalsocialismo l'abbiamo visto con tanti regimi quindi in realtà io quando penso all'arte penso proprio alla parola libertina ed è per questo che non c'è nulla da fare ma quando qualcuno mi fa una domanda come quella di Carlo io penso subito a Desad perché Desad ha mostrato esattamente cosa può fare la letteratura cosa può fare il linguaggio e io so che Desad è un autore che in qualche modo possiamo dire che è un punto di ispirazione anche del pensiero liberale libertario occidentale credo sia anche un po' in parte mi sento di dire che sia un autore molto anche vicino a quello che l'istituto Bruno Leoni cerca di fare culturalmente cioè cercare proprio di rompere le barriere di quello che la morale comune l'opinione pubblica di solito intendono come insuperabili è per questo che l'arte poi non è soltanto intrattenimento non è soltanto evasione ma è qualcosa che ti deve disturbare deve disturbarti perché ti fa capire che tu non sei mai abbastanza libero e devi sempre volere un po' più di libertà te la conquisti con il linguaggio e con l'arte questo credo sia fondamentale grazie Rick però credo che sia abbastanza evidente che l'arte le varie arti dal cinema alla musica soprattutto il cinema forse molto anche il teatro hanno avuto sempre molta più simpatia almeno nel nel secolo appena passato per altre idee che non quelle liberali no? L'eroe l'eroe borghese molte poche volte è stato rappresentato e volevo chiedere a Nicola proprio questa questa cosa qua come mai non il pensiero liberale non è riuscito a fare creare un'alleanza con le espressioni artistiche compreso il paradosso hollywoodiano che è una macchina di 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 capitalista e però ha prodotto molto poco eh avvantaggio del pensiero liberale e anche di quello capitalista per quanto non siano la stessa cosa ma Sirena credo che ci sia siamo noiosi forse siamo poco creativi ma giusto una poltrona per due giusto una poltrona per due per fare una citazione no per fare una citazione colta volevo fare per far vedere che sei preparato ma grazie grazie Nicola c'è un aspetto secondo me c'è un aspetto che diciamo la società aperta se non la vogliamo chiamare società liberale o la vogliamo chiamare società libera è la precondizione dell'arte e probabilmente spesso l'arte non si rende conto di quanto debba questa condizione perché non è solo una questione di società aperta è anche una questione di società opulenta se noi ripercorriamo la storia dell'arte dalle origini da quando si può parlare di un'arte codificata le comunità che hanno espresso esteticamente qualcosa di valida di valido erano società aperte ovvero società libere società ricche la Atene classica era una società commerciale Atene aveva un grandissimo porto era in in contatto con tutto il mondo di allora la Firenze del rinascimento era una città ricca di solito l'arte si esprime dove c'è libertà e dove c'è ricchezza perché l'arte spesso non esprime questi valori e forse questo è un mistero forse hai ragione te che le virtù borghesi forse sono noiose però se pensiamo anche al grande romanzo dell'ottocento francese o inglese alla fine i vari Hugo Balzac Flaubert magari in modo anche critico però esprimono in un modo o nell'altro la grandezza dei valori borghesi sono inimmaginabili senza i valori borghesi oppure un grande romanziere come Proust è un testimone del passaggio del potere in Francia dalla grande aristocrazia alla grande borghesia e lo esprime forse in maniera un po' velenosa con il passaggio dal salotto dei Germant a quello di Madame Perdurin però alla fine descrive un mondo e descrive anche una società borghese in senso positivo quello di Hollywood è un bel paradosso effettivamente è un'arte di mercato resa ricca dal mercato che produce grandissimi profitti e che invece spesso sostiene idee che non sono tantissimo favorevoli al mercato in Pretty Woman c'è il ritratto di Richard Gere che fa lo speculatore che acquista società mezzo di cotte quelle ridende eccetera e poi redento dall'amore invece interviene al sostegno di un'azienda che tra l'altro ottiene una commessa pubblica se non ricordo male quindi c'è un po' questo paradosso effettivamente però non bisogna dimenticarci che il presupposto dell'arte è la libertà lo hanno detto benissimo quelli che mi hanno preceduto che è chiaro senza libertà senza libertà non esiste assolutamente espressione artistica però volevo dire una cosa che in veste di artista l'arte è una cosa è come il tuo respiro è più forte di te e ci sono tanti artisti che hanno prodotto capolavori di arte di letterature di musica in condizioni molto aversi perché l'arte sovrasta tutto è un istinto molto molto forte e l'artista produce anche nei peggiori circostanze perché è il tuo inno è nel tuo DNA quindi volevo dire io che faccio la cantante lirica non posso parlare per la letteratura l'arte che come diceva Rick Duffer è anche una provocazione delle volte e secondo me non deve essere solo una provocazione per sollevare le anime perché la musica che mi appartiene non è una provocazione è un modo di fare arte che dà tranquillità che magari provoca in certe situazioni se tu sei uno che fai punk hip hop solo rap o qualcosa le parole possono suscitare certe emozioni ma volevo spendere una parola per l'arte lirica e dire che io invece di artista non creo un'opera perché non sono un compositore non sono regista non faccio la mise en scène sono un'esecutrice scusate sono un po' impappinato quando devo parlare è la mia voce che mi permette di interpretare un'interiorità un'esperienza comunicare un'emozione e questa è la mia arte non è l'arte che va fuori e produce qualcosa che uno mette al museo che devo dire è una cosa che apprezziamo tutti molto ma lo spirito umano artistico è una cosa che quando pensi che Shakespeare durante il pandemico la peste bubonica ha scritto il re Lier Macbeth e Antonio Cleopatra nel 1600 non mi ricordo se è il 1603 o il 1605 ma erano chiusi tutti i teatri come adesso ma in malgrado questo momento tremendo per l'arte per gli artisti perché noi abbiamo bisogno di un palcoscenico noi abbiamo bisogno del pubblico l'arte è comunicazione la mia voce è comunicazione allora il video va anche bene però tu devi avere gente in platea devi sentire l'applauso e tutto un altro e poi l'ultima cosa è stato detto che il streaming il tempo media che la gente ascolta lo streaming è tre minuti speriamo di no per stasera però però a noi già dopo un minuto ci hanno abbandonato puoi anche leggi il programma puoi anche metterti a dormire ma tu sei lì nel teatro e godi un'esperienza a 360 gradi voglio dire ecco e io per chiudere questo 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 panel vorrei chiedere a Madeline un regalo perché non sarà come essere in teatro ma ce la canti una canzone va bene anticipavo questa cosa siccome è natale ho pensato di cantare qualcosa di natalizia che sicuramente conoscete se volete anche cantare con me canterò Adeste Fidelis Adeste Fidelis Leti Triumphantis Venite Venite In Bethlehem Natum Videte Reggem Angelorum Venite Adoremus Venite Adoremus Dominus Buon Natale Buon Natale Buon Natale Buon Natale Buon Natale Grazie 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 Potremmo fare l'applauso come in un teatro ma proviamo a fartelo sentire Grazie 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 E poi io che sono Greto per DNA Grazie Adeste Fidelis Fidelis e andate sull'asta All'asta Fidelis Adasta Fidelis Adasta Fidelis Adasta Fidelis Va bene Allora grazie Grazie mille Buon Natale Grazie per questo legato Buon Natale Buon Natale Perché ridi Fai una roba anche tu Non canto Comunque ti voglio evidenziare che mentre c'era il direttore del foglio poco fa Claudio Cerasa diversi commenti erano aumentati lo stipendio a Capone quindi questo te lo voglio dire Anche perché passare è difficile No vabbè ora vuoi fare questa polemica però lo voglio dire perché ti voglio rendere merito perché per me sai che l'unico l'unico vero indicatore della qualità è solo il denaro quindi no e per questa ragione so di essere un professor universitario di merda quanto mi pagano di fondo come stai Luciano? Bene non a caso diciamo io sono fuori orario di lavoro in collegamento con voi mentre il mio direttore era in orario di lavoro Ah sta fine Hai capito Hai capito Ha fatto una battuta quindi noi lavoriamo al massimo non ci sottraiamo quindi Adesso io voglio fare voglio fare o voglio approfittare per una cosa di servizio anche Renato Cifarelli che sarà con noi dopo diciamo insieme a Oscar e Carlo Alberto mi chiede se ho sentito il terremoto c'è stato un terremoto in Sicilia però siccome era nella parte orientale ciò che succede nella parte orientale non interessa la parte occidentale non l'ho sentito non mi interessa non ne voglio sapere niente mi auguro che non te lo so niente ma io non ho sentito nulla sto bene vi ringrazio ecco questo ringrazio tutti i miei pensieri Posso fare una domanda? È arrivata la mia fratello Ciao Flavia Ciao Ciao Naturalmente l'anno prossimo all'asta metteremo anche il maglione di Capone Stavo per chiedere il Capone una prima domanda molto seria ci fai vedere tutto il maglione intero? Tutto il maglione facci vedere tutto il ministero Capone lei è la moglie del ministro e ci faccio vedere il ministero questa è una citazione da Bridget Jones brava citazioni altissime c'era Giannello che citava Proust a Menta io però mentre Giannello citava Proust citavo una poltrona per due quindi mi ero già qualificato diciamo per quello che ho Allora con Flavia e Luciano vorremmo un po' ritornare a una cosa che era già uscita fuori quando c'era Claudio c'era Asa cioè abbiamo ricordato che la prima rubrica è tutta colpa o mai la rubrica che per prima ha sdoganato un'idea che fosse tutta colpa in senso ironico che fosse tutta colpa del liberismo era tenuta proprio da Luciano per il foglio e Marco Valerio Loprete vedi nel backstage io avevo detto che era Marco Valerio mi hanno corretto cari te avevamo tutti ragione eravate voi due insieme un carissimo saluto a Marco Valerio Loprete ma chi è che ha corretto Serena no per saperlo voglio sapere vabbè andiamo avanti ma 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 Stagliaro fa finta di niente quella rubrica lì appunto ironicamente iniziò a sdoganare questa questa leggenda che esista un pensiero unico neoliberista che è il male oscuro e evidente patente del mondo poi la rubrica se non sbaglio insomma come tutte le cose che che nascono poi finiscono però ce ne sarebbe ancora bisogno sì nel senso che vabbè un po' dopo un po' si saranno sulle cose perché avevamo coperto tutto lo scibio umano perché il berino è stato accusato di era stata affibbiata la colpa la responsabilità di qualsiasi cosa dei tornado dell'acrono perché non era perché non c'era stato ancora il covid non c'era stato il covid sicuramente diciamo è anche colpa del liberismo anche il covid qualsiasi cosa era un modo diciamo per ironizzare su un atteggiamento su un riflesso diciamo finto intellettuale no perché poi in genere tutte persone pensose fanno questi ragionamenti ma in realtà era uno schema molto elementare di prendere qualsiasi evento e dire che è colpa del liberismo senza mai definire cosa sia senza mai definire bene questi messi di causa ed effetto e in effetti diciamo è un'arma retorica potentissima che viene usata di continuo per come dire spiegare qualsiasi cosa e delegittimare un po' qualsiasi interlocutore diciamo si dice che esistono il pensiero unico neoliberista che siano tutti neoliberisti quando poi in realtà se uno vede non c'è nessuno o pochissimi che si definiscono tali e quindi diciamo si proseguono così da anni o da decenni funziona diciamo poi è uno schema comodo spesso anche una comfort zone per spiegare qualsiasi cosa e si va avanti così non so che dirti vuoi che apriamo la rubrica no io no volevo io potrei continuare ma volevo forse stagnare la menta stanno iniziando a cedere non volevo monopolizzare la conversazione ma no a quest'ora già da tempo siamo a letto ma da mo che siamo a letto allora vabbè vado avanti io ho capito sono entrati no diciamo che la stessa lo stesso tema la stessa impressione la volevo chiedere anche a Flavia il fratello dal punto di vista Luciano fa fa giornalismo su carta stampata Flavia in televisione volevo chiederle se questa questa idea dell'esistenza di pensieri unici ora noi stavamo parlando di quello neoliberista ma non sarebbe l'unico come dire corre anche scorre anche nei corridoi delle redazioni televisive e le influenze in un certo senso nel senso che a momenti si segue e si seguono certe certe ondate appunto di pensiero unico sì e no allora come sai la televisione è un po' il regno della celtroneria e quindi tu l'hai allora sì e segue moltissimo quello che l'onda lo zeitgeist del momento è difficile che le televisioni anticipino qualche cosa qualcuno può intercettare diciamo qualche situazione qualche elemento ma insomma di solito si va a rimorchio e si contribuisce poi a ingigantire magari a dare molto più risalto molta più visibilità qualche cosa ma insomma è difficile che ci sia autonomia ma questo proprio per la struttura stessa della televisione e in particolare diciamo così dei talk show che sono il momento in cui puoi esprimere un pensiero in modo un po' più compiuto poi ovviamente poi dipende anche dal tipo di trasmissione a cui stai partecipando perché ce ne sono alcuni dove fai veramente a tempo giusto a dire due battute e poco altro non solo quindi la televisione diciamo regno del cialtroismo e innova poco da questo punto di vista ma la televisione funziona molto per schemi quando tu devi comporre un parterre sostanzialmente diciamo la 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 di degli autori è quello di procedere per figurine allora chiamo tizio perché mi fa questa parte chiamo caio perché me ne fa quest'altra e semplonio perché me ne fa quest'altra ancora e ci si aspetta da queste persone che si comportino secondo quello che è lo schema diciamo immaginato e che verosimilmente è stato verificato attraverso altre dichiarazioni di queste persone, altri scritti ecc questo perché devi semplificare anche un po' e quindi la sfumatura non è facilissima da cogliere e spiazza fra l'altro anche perché tu hai un canovaccio per cui una specie di commedia dell'arte definiamola così e quindi ti aspetti che la tal persona ti risponda in questo modo perché poi si contrappone idealmente all'altra quando qualcuno esce fuori dei binari o hai un conduttore che è curioso, bravo ed è capace di spaziare tranquillamente anzi a volte sollecita lui per primo o lei per prima oppure il conduttore che non sempre è autore si trova spiazzato e quindi non sa bene come muoversi e come regolarsi lo so che il quadro è un po' triste diciamo è realistico non si nota anche da fuori dall'altra parte della televisione non voglio far finta di insomma che non voglio indurare il pillo io ho una domanda approfitto è arrivato Sergio Scalpelli che salutiamo e ringraziamo per essere qui con noi allora a questo punto come si parlava appunto delle figurine da mettere diciamo in qualche modo Luciano scrive su un giornale che ha un mercato diciamo abbastanza di nicchia quindi magari si può permettere anche delle figurine di natura diversa Flavia giustamente di nicchia come direbbe Checco Zalone vabbè vabbè io stavo dicendo un'altra cosa ma non me la farei no vabbè no perché dico ci sono anche persone che non mi conoscono bene tu mi conosci lascia stare fammi fare la domanda seria che mi ero preparato allora allora c'è un c'è un tema di segmento diciamo Sergio ti chiedo diciamo perché appunto anche per per la tua esperienza c'è un tema di segmento di domanda e e e quindi poi alla fine dobbiamo rassegnarci rispetto a quello diceva Flavia cioè dice io devo devo lavorare con le figurine perché magari faccio un certo tipo di eh di di programma eh Luciano si può permettere altro tipo di figurine oppure non c'è quasi mai il diciamo eh la la capacità o la voglia di rischiare non dico da parte dei giornalisti ma ovviamente da parte degli editori e quindi diciamo eh la 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 provare a fare qualcosa di diverso non dico di più alto ma di diverso cioè appunto da riapprofondire di spiegare di porsi meno problemi di figurine più problemi di contenuti oppure è proprio una cosa a cui dobbiamo rinunciare e quindi andarci a chiudere nelle nicchie di cui parlava Luciano eh io penso che nelle nicchie c'è il massimo di libertà di libertà possibile eh io penso che tutte le esperienze insomma il foglio l'ho visto nascere eh ma anche quelle successive anche il riformista non solo quello di oggi ma anche quello di una dozzina di anni fa e altre molte testate online penso all'inchiesta e ad altre facendo diciamo vita di nicchia che poi peraltro nel mondo digitale cominciano a essere nicchie con numeri abbastanza significativi eh per cui eh c'è anche il tema è un tema che credo abbia davanti a sé anche il foglio cioè io sono perché ad esempio il foglio resti tutta la vita con una uscita cartacea però probabilmente lo sviluppo del foglio cioè la possibilità di fare operazioni che cambino la scala dei numeri dei lettori il foglio è chiaramente ma come tutte queste esperienze di nicchie è chiaramente un giornale molto importante della cosiddetta classe dirigente effettivamente i pezzi del foglio i pezzi più importanti qui ci sono diversi autori ma insomma certamente Luciano e Carlo lo sanno benissimo sono pezzi che girano molto che vengono twittati che vengono ripresi che vengono letti e comunque entrano ad esempio vanno sulle scrivanie dei principali eh manager delle più importanti aziende private e non solo private anche pubbliche italiane io credo che ci sia un tema di editori non di giornalisti io penso che la quantità e la qualità di giornalisti che hanno voglia di fare un giornalismo ragionato approfondito non schematico sia molto o sia piuttosto significativa e penso che ci sia una grande paura una grande paura negli editori o comunque che gli editori abbiano uno schema di ragionamento che è ancora molto dentro le cosiddette compatibilità del sistema e quindi fanno fatica fanno molta fatica a pensare giornali che in qualche modo vadano ad approfondire le cose lo si vede lo si vede facilissimamente dal rapporto con questo governo insomma questo governo è un governo che anche diciamo essendo io stato ad esempio tra quelli che ovviamente non contando nulla ma diciamo sul solco della linea data dell'agosto scorso da Giuliano Ferrara avevo un pochino acconciato a sopportare un governo che con i 5 stelle però questo è un governo che effettivamente diciamo così se venisse preso d'attacco da un giornalismo che a parte quello di nicchia dei grandi giornali che in qualche modo andassero a scavare l'esempio più evidente mi sembra il Corriere della Sera seriamente sulla quantità di cose non dette e non fatte sarebbe vivrebbe meno una condizione di sopravvivenza per quanto ostentata ma comunque di sopravvivenza che è quella che stiamo vedendo quindi io penso che il giornalismo di nicchia nell'era digitale non è così tanto di nicchia bisognerebbe però poi avere sempre editori che in qualche modo decidono di giocare delle partite intellettuali e questo accade sempre meno ecco grazie Silvio grazie Sergio io vorrei passare su una domanda a Luciano perché credo che uno dei privilegi tra virgolette dei giornali di nicchia sia quello di poter lanciare delle provocazioni intellettuali o magari delle idee che nascono come provocazioni e poi entrano nel dibattito una di queste idee l'hai lanciata tu pochi giorni fa sul foglio con un articolo in cui sostanzialmente proponevi in un momento in cui si dà il bonus a tutti e per tutto di introdurre un bonus vaccinazione ne abbiamo parlato anche in una puntata apposita delle cronache ne hai parlato sui libri oltre però la domanda qui non è tanto di raccontarci la questione del merito ma che effetto ha fatto secondo te lanciare questo tipo di idee produce delle conseguenze oppure si ha la sensazione che cadano nel vuoto tra le tante idee di micchia per riprendere il cozzalone questa che è una delle tante un po' se ne discute ovviamente poi i policymaker decidono in base a altri criteri non che manchino le idee ma diciamo sono a caccia di constituencies particolari specifiche quindi di consenso quindi anche le misure sono tagliate per una certa determinata platea di elettori o gruppi di interesse e l'abbiamo visto con tutta una serie di bonus che sono state anche in questa ultima legge di bilancio dal cashback che è stato fatto un po' a mio avviso diciamo su misura degli emittenti delle carte dei circuiti bancari senza voler fare del complottismo ma diciamo hanno proprio stata realizzata un po' da questi circuiti ai bonus per i rubinetti ai bonus per le lenti a contatto per le biciclette i monopattini per l'edilizia approfittando dell'emergenza del covid quando a mio avviso nell'emergenza covid l'unico bonus di cui ci sarebbe bisogno è quello per uscire dall'emergenza covid e quindi il vaccino che è l'unica arma che conosciamo l'unica riforma strutturale di cui il paese avrebbe bisogno dal punto di vista sanitario ed economico perché è ciò che più si avvicina alla situazione pre-covid che ci avvicina a quella situazione non che per l'Italia fosse particolarmente brillante diciamo dal punto di vista economico ma quantomeno diciamo potrebbe riportare un po' di ridurre l'incertezza per tutte le persone le famiglie gli operatori economici le loro scelte di consumo produzione e investimento sarebbe una misura che costa pochissimo diciamo con 4-5 miliardi che meno del cashback 4 miliardi ormai non si negano a nessuno 4 miliardi si trovano quello Grimi fa lo scostamento fa lo scostamento sposta la tenda ritrova 4 miliardi come dire penso che che l'asta del sito Bruno Leone stasera li raccoglierà io ho visto ciò che c'è in pali se non raccogliete 4 miliardi mi pare alla portata come bonus scusa posso fare un appello scusa Luciano io sarei veramente orgoglioso se il commissario Arcuri vincesse la settimana con le cronache dal fronte per chiedervi per cui scusa quello deve fare l'offerta c'ha tanto da fare anche a noi ma no ma c'ha troppo da fare c'ha troppo da incasinare Luciano avevi finito scusami è vero che nei giornali come il Foglio ma anche su tanti altri c'è spesso la possibilità anche di uscire un po' come dire dalla cronaca ordinare che spesso è chiacchiericcio e cercare di volare un po' più alto pensare cose diciamo che su cui non si riflette molto perché spesso si è travolti da cose che accadono ogni giorno che poi non sono così tanto interessanti e forse se i giornali decidessero di staccare un po' della quotidianità di parlare della quotidianità politica ma non quella delle persone di approfondire alcune cose a me susciterebbero anche maggior interesse negli elettori negli elettori nei lettori ecco uscire un po' della quotidianità che è stata un po' anche la la caratteristica sempre tenuta dal foglio il foglio che Sergio ha contribuito a fondare e che ha creato un giornalismo almeno in Italia diverso di nicchia ma nel senso di approfondimento non necessariamente vocato all'attualità alle ultime agenzie di stampa ma anche a approfondimento culturale quindi schemi schemi un po' diversi e volevo chiedere a Flavio Fratello tornando sulla televisione ma c'è spazio per provare a fare qualcosa di un po' diverso anche semplicemente come appunto quello che ha fatto il foglio anche in televisione noi notiamo sempre per esempio che YouTube anche il nostro canale YouTube nel suo piccolo è molto seguito tra giovanissimi noi facciamo dei riferimenti da cose che diamo per scontate dalle pubblicità che vedevamo quando eravamo piccoli a film e nei commenti vediamo che non sono colti perché sono troppo giovani sono nati a metà anni 90 e forse qualcuno anche dopo e tutta questa fascia qui forse è disinteressata rispetto a un modello molto più ingessato a volte molto più composto anche nei confronti della politica meno arrogante nel senso nel senso buono del termine di star sopra anche agli ospiti c'è spazio per qualche piccolo cambiamento che però possa fare davvero la differenza nella informazione che si fa in tv allora lo spazio c'è di sicuro intanto però permettimi di fare una una precisazione la televisione cioè quando si parla di video video non significa necessariamente televisione capisco che magari soprattutto per chi lavora nella carta stampata magari questa cosa appaia meno evidente però non puoi equiparare youtube alla televisione sono proprio due cose completamente diverse che hanno pubblici completamente diversi non a caso i ragazzi di 20 anni la televisione praticamente non la guardano più non solo hanno superato persino già l'idea di farsi un proprio palinsesto ma ormai vanno su altri canali altri modi di fruire dei video instagram le storie tiktok youtube è un'altra cosa è come se io volessi paragonare l'enciclopedia tre cani alla fanzine al ciclostile degli anni settanta sì stiamo sempre parlando di carta stampata ma sono due cose completamente diverse e quindi hanno un modo di essere realizzato completamente diverso e hanno pubblici completamente diversi la televisione come noi la conosciamo quella classica ha diciamo così delle regole che tutto sommato vengono ancora rispettate e che garantiscono il minimo di ascolto che ti permette di andare avanti e fra queste regole c'è la riconoscibilità la ripetitività e quindi una sorta di abitudine ti faccio un esempio proprio molto molto facile e immagino possano cogliere tutti quelli che stanno guardando questa nostra trasmissione l'omnibus il dibattito di omnibus della sette che è il dibattito quello che introduci la mattina eccetera eccetera ha avuto per molto tempo un solo conduttore poi si è passati a due conduttori e a un certo punto si è deciso di mettere due conduttori diciamo durante tutta la settimana e alternare quelli del sabato e della domenica è stato un passaggio molto graduale che è stato fatto non perché non fossero disponibili altre persone ma perché il meccanismo dell'abitudinario che diciamo così è intrinseco proprio nella trasmissione televisiva faceva sì che l'introduzione anche di una novità molto banale come poteva essere quello dell'alternarsi di due conduttori una settimana a uno una settimana ad l'altro che tutto sommato rischiava di destabilizzare un po' per cui si procede davvero con una certa lentezza anche perché ripeto il pubblico è anche un circolo vizioso un gatto che si morde la coda però il pubblico è abbastanza anziano è un pubblico abitudinario quindi non gli puoi dare troppe novità tutte insieme detto questo il panorama televisivo quindi non sto parlando di youtube tiktok eccetera eccetera il panorama televisivo e l'offerta televisiva nel nostro paese per rimanere al nostro paese è molto ampia quindi spazi per sperimentazioni ce ne sono la rete dove io lavoro tutto sommato è una rete che se tu guardi nel suo complesso è una rete nuova diversa rispetto al panorama tradizionale delle televisioni della RAI per esempio o di Mediaset noi abbiamo una programmazione molto dedicata settoriale pochissimo spazio per show quiz cose del genere quindi già siamo di fatto una sperimentazione però qualche cosa di altro all'interno di questo altro ovviamente a seconda della sensibilità del coraggio della voglia di sperimentare dei singoli conduttori della singola struttura della trasmissione si può fare ovviamente certo ci mancherebbe anzi di solito chi sperimenta ha più successo ma non è insomma lo devi saper fare ecco non è così scontato diciamo dopodiché leggevo proprio l'altro giorno un articolo che ha scritto Guia Songini che è una collega bravissima che parlava di altro ma a un certo punto citava la televisione e diceva nessuno di noi si ricorda una sola puntata delle trasmissioni di Guardi che sono quelle che tu vedi tutti i giorni ripetitive eccetera tutti noi ci ricordiamo quelli della notte che in realtà è andato in onda per tre mesi due mesi neanche mi ricordo più in un brevissimo periodo della nostra stagione a riprova del fatto che quindi sì certo la sperimentazione la puoi fare in un ambito di però zoccolo duro di abitudine che la televisione richiede sostanzialmente ecco io proprio sulla sperimentazione ho una domanda conclusiva per Sergio Scalpelli a cui prego di essere ipersintetico l'anno prossimo ricorre il centenario della fondazione del PC del Partito Comunista Italiano se tu fossi Gramsci cosa suggeriresti per costruire l'egemonia culturale neoliberista in Italia questa è una domanda magnifica perché io devo dirti che ho litigliato tanto con il mio amico Salvatore Carruba che come sapete è un liberale storico perché lui diceva questa cosa del concetto di egemonia è una puttanata è uno stagione se i liberali avessero una decima della capacità di fare egemonia che hanno avuto i comunisti d'Italia sarebbero come minimo i padroni del sistema formativo italiano non lo so io è molto complicata perché bisogna la egemonia del PC d'Italia quella con pratica quella che sia determinata nel secondo dopoguerra come sapete tutti ha avuto due cardini fondamentali il sistema universitario soprattutto naturalmente le facoltà umanistiche che sono state largamente influenzate dallo schema dello storicismo crociano-granciano e dagli anni 70 in poi la magistratura che è stata un bel pezzo di cosiddetta egemonia e sono state le classiche cose fatte appunto secondo lo schema della cosiddetta direzione intellettuale morale quindi la capacità di organizzare un consenso rilevante l'Italia ha avuto un brevissimo momento secondo me in cui il tema della riforma liberale è stato un patrimonio di massa ed è stato il primissimo Berlusconi insomma alla FIA all'inizio del 94 Berlusconi ha aperto una finestra che si è quasi subito richiusa probabilmente ci vuole quello probabilmente ci vuole un Berlusconi con un minimo di diciamo di tempra e di gusto per la battaglia intellettuale più significativo e più rilevante di quello che si è rivelato con tutti con tutte le attenuanti del caso che bisogna comunque sempre riconoscere grazie Sergio una domanda magnifica per una risposta magnifica no è interessante la risposta grazie Sergio grazie Luciano grazie Flavia prima ci tenevo a soffermarmi su una cosa Flavia l'abbiamo presentata attraverso lo suo volto più noto che è quello di conduttrice di Omnibus sulla Sette ma Flavia fa anche un grande servizio con la rassegna stampa che conduce periodicamente la radio radicale che è come dire è un appuntamento imperdibile in generale e imperdibile soprattutto quando lo conduce Flavia quindi di questo la ringrazio particolarmente grazie a tutti grazie passiamo alla panel conclusivo con le belve adesso adesso io a Monenta e Stagnero ci mettiamo a guardare ci riposiamo e lasciamo e lasciamo ma ci sono oppure dicono che ci sono o non ci sono si fanno desiderare eccoli 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 che qualità basta me ne vado me ne vado grande io poi ho fatto un attimo adesso spiegate adesso se non potete intervistare voi però Renato io il microfono di Renato lo sento no tu ci puoi intervistare ma il microfono ha fatto il tifo di quello di ball green questo è il tifo di quello di ball green aspetta che guardo quale ho configurato vedi 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 vabbè ci mettiamo a guardarli a sentire sì sì ora noi vi ascoltiamo noi siamo arrivati alla fine innanzitutto volete fare un appello alla chiusura con successo di questa asta facciamolo facciamolo cioè mancano manca poco tempo cari tutti che siete collegati a questo discutibile appuntamento di giorni cercate cercate ancora le occasioni che ci sono perché sono bellissimi i libri libri autografati libri di classici che ci stanno a cuore e che non trovate neanche le librerie antiquari e dopodiché ci sono cose esperienziali so che in questo periodo cari matti dell'IBL pretendere che la gente prenda impegno per fare visita di qua a qualche mese è un po' un azzardo perché non sappiamo quale cazzo di PCM ci arrivi tra capo e collo nel giro della notte però detto questo è un'espressione di fiducia noi siamo fiduciosi sul fatto che la volontà non si faccia piegare degli individui dalle circostanze contro le quali come avete avuto la possibilità di seguire per mesi e mesi e mesi le croniche del fronte autorealberista hanno tentato di spezzare spesso inutili fattualmente no ma preziosissime testimonianze per farci tutti riflettere sulla contorsione abissale in cui dal mese di febbraio di quest'anno dal punto di vista orbilamentale quest'Italia è stata posta tra le cose che voglio dirvi che per Natale però bisogna per tirarvi su di morale a me sono arrivate molte cari amici barzellette natalisti ispirate alla condizione di guerra in particolare sono bellissime alcune barzellette che immagino tutti voi già conosciate perché corrono di bocca in bocca che riguardano alcuri le conoscete le barzellette di alcuri per il Natale no no le vogliamo sapere le vogliamo sapere a noi Mimmo piace ce ne sono due fantastiche la prima è che ha preso la notizia naturalmente nei vertici assoluti del paradiso dantesco la Madonna ha preso la notizia di una norma del governo che affida la gara per il presepe la mangiatoia al super commissario Arg come dico io Arg questa è la cosa che non mi piace la Madonna a questo punto si è un po' presta l'orecchio non aveva fatto molta attenzione agli sviluppi italiani però le arrivano all'orecchio delle cose un po' preoccupanti e allora a un certo punto decide di rompere ogni indugia e si manifesta al super commissario e le sue prime parole ovviamente sono quelle di una formula di rito di direttissimo Domenico il signore è con te e improvvisamente subito il super commissario dice no Giuseppe ma come il signore è con te ma no direttissimo a me lo sappiamo che non avete tempo per occuparsi di queste cose ma avete visto c'è una nuova norma che cambia la preghiera una nuova norma dice la Madonna ma come sarebbe a dire il governo italiano che cambia le preghiere cristiane che affrontano le loro radici del Vangelo nella parola di mio figlio ma come sarebbe ma che vuol dire il DPCM salvo i tese lo sapete benissimo come funziona in Italia che vuol dire poi se non vi piace lo cambiamo e allora la Madonna dice in ogni caso visto che l'ultima parola non sta a voi caro Domenico ma quale sarebbe la nuova formula quindi per augurarsi e per pregare insieme l'altissimo il mio figlio ma come non lo sa direttissima madre e allora la Madonna dice il signore è contento oh noi ripetiamo le nostre preghiere Giuseppe Conte Giuseppe Conte allora però attenzione qui c'è la prima freddura la seconda freddura è che la Madonna dice però veniamo al punto questo poi verrà esaminata più in alto questa faccenda ma vedi Domenico io vengo da te perché siamo un po' preoccupati io e Giuseppe no Giuseppe 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 il mio Giuseppe non il tuo e perché direttissima madre perché siete preoccupati e ma come sarebbe a dire qui girano voci sono arrivate di gare senza sapere nel dettaglio a chi sono state affidate come perché tu decidi personalmente non dici i prezzi ma la preoccupazione direttissima madre qual è ma è quella non capisci deve essere al momento giusto il bambinello ci deve essere nella mangiatoia al centro della stalla dove ogni anno ricordate la nascita di mio figlio a Betlemme anche i sindacati a Betlemme mi hanno detto che sono preoccupati perché non si può ah no direttissima madre ma su questo allora lei proprio non ha avuto tempo di conoscermi ma in che senso ma non lo sa che c'è c'è una garanzia che io do sempre a Giuseppe Conte quale sarebbe questa garanzia ma è ovvio con me al momento giusto la mangiatoia è sempre piena ecco barzellette di questo tipo qua beh sono carini per darmi l'idea che è meglio sorridere anche di queste cose per così dire va bene vi ho portato una notte avete notato che Oscar per coprire i libri e per non fare la figura di quello che fa le dirette con i libri ha messo la bandiera americana io però se notate questa volta questa volta non ho messo i libri della tradizione questo ci dispiace la tua volta compare oggi ho messo la bandiera che mi è più cara non solo perché c'è stato un evento sportivo che mi ha riempito di gioia pochi minuti fa ma al di là di questo no è perché oggi in Natale mi ha dato io l'ho anche scritto su Twitter stamattina un regalo all'Università perché Gogol che sconfigge Beria e quindi Navalny che con la telefonata alla Crucianni si fa raccontare all'anno 007 russo come l'hanno avvelenato e il cover up successivo all'ospedale di Omsk se io penso do le condoglianze alla famiglia dello 007 russo come è ovvio però detto tutto questo alla faccia che deve aver fatto Putin è il più bel regalo di Natale che si potesse immaginare e mi dispiace che Putin e Xi Jinping siano le due stelle polari del governo Conte e Di Maio non mi stupisco non mi sono mai stupito però la modalità con cui è stato sbeffeggiato all'autoritarismo russo che tanto piace nel nostro paese a un pezzo di destra a quelli che vanno al metropol che piattiscono i soldi eccetera eccetera beh mi ha riempito di una sana e serena e pacata felicità credi che qualcosa che è qualcosa che da felicità anche di questi tempi succede non lo so Serena non lo so Serena io rinominerei questa serata cronache dal fronte di una caporetto liberale o forse narrative dall'orizzonte del socialismo pandemico caro Carlo io ho iniziato la battaglia sanitaria a febbraio sull'isonzo dei diritti individuali con te maledetto e finisco la guerra sul piave del micromanagement comportamentale per via decretizia puoi immaginare come sia contento una domanda di stato drammaticamente espansa spazialmente temporalmente vedete voi questo è il bollettino della disfatta liberale i resti di quello che fu uno dei potenti eserciti intellettuali del mondo risalgono in disordine senza speranza le valli che avevano discese con orgogliosa sicurezza questo è quello che rimane meno che c'è l'Europa che siamo a festeggiare una nuova Europa un'unione fondata sul debito cioè vi rendete conto che festeggiamo l'Europa che fa il debito cioè siamo arrivati a questo debito caro Carlo no il debito unisce più di qualsiasi cosa altro che l'amore sono i debiti che uniscono le famiglie ma certo molto spesso la gente si lascia e c'è il mutuo in comune infatti questo è bello la povertà che unisce esatto e qui siamo di fronte al momento in cui il trionfo di questa bestia statale perché questo è un fatto parliamoci chiaro è un'invasione su ogni spazio ogni luogo coincide però se posso proprio col fallimento dello stato del welfare occidentale se ci pensate un secondo l'ironia è che questo stato nazionale che vive il suo momento di gloria fiscale con la pandemia ha i piedi d'argilla dell'incapacità di garantire il patto elementare della salute pubblica entro i suoi confini giurisdizionali nazionali il livello di coordinamento internazionale non è mai stato dal punto di vista strutturale ricerca tecnologia logistica gli intangibus non è mai stato così alto siamo al picco della globalizzazione degli intangibili signori non so se avete visto cos'è cambiata la ricerca scientifica in questi sei mesi nella capacità di fare squadre disperse proprio nel momento in cui lo stato trionfa quel modello di giurisdizione nazionale geografica riceve la più grande scoppola della storia quindi diciamo che qualche soddisfazione ce la possiamo ancora prendere ma non facendo politica caro Sagnaro eh ah che frecciata che frecciata attenti che è arrivato al direttore adesso ci tira le orecchie ragazzi state attenti l'unica e un'unica l'unica che dopo Oscar panzellettiere avevo bisogno di vedere siamo a correo una buona parte dei presenti comunque ho visto che è comparso anche Alberto lasciate che io lo ringrazio personalmente l'ho già fatto in privato perché tu prima hai invocato l'altissimo e lui si è presentato no però le due pagine che ha fatto pochi giorni fa sul foglio dedicate a una delle più strepitose e ignote in Italia o quantomeno ignote per quello che è stato e ha fatto e ha scritto davvero e molto per così dire misjudgete e manipolate da molti intellettuali della sinistra cioè sto parlando di Michael Ockershop sono l'ideale continuità con quello che ha detto Carlo Alberto adesso perché a proposito della stregliata Carlo per così dire perché la grande Carlo di non farsi mai trascinare nell'idea che l'intellettuale deve cambiare il mondo cioè lui si è sempre riservato in pochi libri ma fondamentali e molti testi brevi e molto insegnamento di andare al fondo della comprensione della realtà quello che in Italia manca secondo me è proprio il livello cognitivo di base da parte dei politici ma di moltissima parte della classe dirigente italiana non è solo la politica questo è quello che io ho sperimentato in questi anni mentre noi viviamo in un paese che continua a ripetere la globalizzazione è morta non è solo verissimo quello che ha detto Carlo Alberto cioè che siamo al picco della globalizzazione in tanto ma quasi nessuno fa notare che per esempio lo stesso commercio mondiale malgrado il rallentamento di Trump resistente tutto quello che volete il reshorment che la Cina fa dal resto dell'Asia e quello reciproco tra USA e Cina chiude l'anno molto meno peggio di quanto non si pensasse qualche ma infatti Oscar se posso dirti la vendetta vera la vendetta migliore per un liberale è il profitto mio Dio non nel trionfo alle elezioni noi vendichiamoci facendo i soldi tra l'altro le condizioni per fare impresa ma noi non si riesce neanche questa l'Alberto guarda che poi cazzo dice l'Alberto fatemi citare un comunista serio getting rich is always glorious se posso dire il principio è molto semplice le condizioni per fare impresa non sono mai state così favorevoli pensate la pandemia ha portato centinaia di milioni di utenti delle corti più anziane e quelle più ricche peraltro trascinate a forza su internet e quindi raggiungibili economicamente prima avevano costi di transazione molto elevati oggi quei costi sono crollati anche il capitale umano è molto più raggiungibile pensate appunto alla rivoluzione della ricerca scientifica ormai la robotica dei colletti bianchi ne ha scritto Richard Baldwin diventa un fattore che fa aumentare la tradabilità del capitale umano guardate che sono cose straordinarie fare impresa oggi con un premio a rischio peraltro molto basso artificialmente basso liquidità abbondante investitori disperati cioè vendichiamoci facendo soldi non so se posso fare questo appello sapere come si fa io ci provo io ci provo ma io no neanche quello cerco pure di intercettare questi soldi pubblici non mi riesci mi sono messo a fare soldi pubblici Carlo scusa in questo momento sei l'unico che non riesce a intercettare i soldi pubblici io prima abbiamo sentito ho preso il cashback però in realtà questa serata è fatta per fare soldi e per aiutarti a fare soldi dovete andare sul pubblico io mi divertevo più alle cene devo dire però però vedrai che a giugno covid per me arriva però altra osservazione poi mi taccio perché ho già monopolizzato con le barzellette non voglio continuare a fare le barzellettate però caro Alberto io ti faccio un esempio prima hanno parlato a lungo di informazione c'era Luciano c'era Notello io sono molto sono un giornalista per morire dire oramai è ovvio perché è uno che non ha più perde ogni editore deve farsi una riflessione però detto tutto questo io sono allibito perché qualunque sia il loro orientamento vedo giornali e media che dedicano ore o pagine e pagine alle cronache degli scontri tra partiti e sembra che la questione sia Renzi con dal punto di vista strutturale perdonate com'è che non abbiamo mai letto una sola analisi sul fatto che non c'è nella storia della Repubblica dell'intera storia della Repubblica a iniziare dal governo che dovete gestire il binomio era quello di Einaudi ministro di Gasperi ma che dovete gestire il Marshall Fund non è mai esistita la storia della Repubblica una circostanza per cui un governo si può permettere e vuole permettersi di cui le scelte di conto iniziali vedremo se cambiate di eternare per anni a venire eternare per anni a venire tre cose prima 88 miliardi che sono quelli di debito svuappato alla faccia che il debito non era un problema che servono a dare continuità di finanziamento da adesso a programmi pluriannali di questo governo mentre nella realtà italiana i programmi pluriannali vengono regolarmente cambiati a ogni governo perché non è spesa impegnata la spesa si impegna anno per anno questo governo può fare come prima cosa 88 miliardi di propri progetti eternati uno il resto del recovery fund annetto che questi 88 miliardi appunto non sono aggiuntivi per evitare di fare troppo debito pubblico ma anche questo in pochi lo hanno quasi notato però tutto il resto del recovery fund serve e servirà per anni bisognerà fare anche in fretta se no li perdiamo a fare cose che decide questo governo e questa è la seconda cosa non è mai esistito nella storia repubblica un governo che ha questa chance di eternarsi nel tempo perché una volta contrattato con l'Europa è ottenuto un risicato via libera poi bisognerà fare quello che si è deciso terza cosa nel frattempo ben pensando di aggiungerci anche un'architettura ordinamentale questo è un governo che nel senza un fiato anche delle imprese mi dispiace ha strutturato in otto mesi più di 40 fondi ad occhio presso tutti i ministeri per l'accesso a tutti i tipi di agevolazioni bonus del credito ordinario dei sostegni alle perdite per la cosa per la ricapitalizzazione per l'internazionalizzazione per le fusioni ognuno di questo con una gestione solo pubblica che conta più del giudizio dell'intermediario che secondo me doveva essere preservato cioè l'intermediario finanziario privato quello che poi giudica caro Carlo Alberto i progetti e il rischio dei progetti no questa struttura di questi 40 fondi resterà per anni e anni e anni perché non resterà solo per il covid così funziona la politica pubblica in Italia ecco questa discrezione banale fatta da un coglione com'è che non la leggiamo da nessuna parte Carlo Alberto e cari fratelli come mai sfuggono queste cose che sono le vere strutture stanno litigando su questo cazzo non stanno litigando su ci sono due vice premier oppure no questo è molto più chiaro agli intellettuali di sinistra del nuovo corso PD di quanto non sia chiaro agli altri è abbastanza chiaro secondo me visto come aveva immaginato la sua struttura però di tutto questo io non sento parlare mai però posso dirti Oscar io mi sono un po' stufatto di questi appelli all'etica del giornalismo il claim è più importante è all'unica libertà che conta nei media che si chiama libertà economica nel momento in cui gli economics delle news sono broken sono broken perché hai un costo di produzione altissimo un costo di distribuzione zero direi distribuzione zero non va a stare in piedi quindi scusami ma io agli appelli etici non credo io credo che si riesce a rifondare un mercato non delle news che non vale niente ma delle issues come sai data driven issue oriented e community based perché a me non interessa un viewer rich is overrated a me non interessa l'attenzione accidentale pagata con pochi centesimi mi interessa l'intenzione l'interazione la transazione economica che è la base del mercato allora il servizio che i media devono fare al capitalismo è rendere mercato liquido non celebrare i potenti e in cambio cosa ottengono un modello di business sostenibile e indipendente e allora vedi che il meccanismo riparte in sintesi e taccio per sempre Carlo Alberto vi ha spiegato che cosa io lui Renazzo Cifarelli tra poche settimane iniziamo a fare perché faremo una roba con le uscite settimanali e poi tutto il tempo tutta roba in inglese quindi io come avete capito non ci ho capito è fondata proprio è tutta una roba di non seguire le mie ore ma di ma perché siamo dell'Illinois rarato siamo analisi sui dati di più non dico però questo io l'unica l'unica cosa che mi ricordo dell'Illinois sono i nazisti perché sai come diceva prima Serena noi abbiamo un profilo culturale veramente profondo perché abbiamo letto dei libri importanti eccetera e quindi io ho visto 50 volte Blues Brothers e dell'Illinois la cosa scusami e c'è uno splendido articolo di Ricossa di tanti anni fa che spiegava come Blues Brothers è uno straordinario film liberista che tra l'altro cade a fagiolo con la serata di oggi perché nessuno si offenderà se dico che lo speaker in assoluto più straordinario è stato una suora cioè Soranna vero vero e quindi potremmo anche essere in missione per conto di Dio questo sì potrebbe essere perché poi c'è questo problema che loro continuano a parlare inglese io non capisco niente di quello che dicono e gli vado dietro gli vado dietro e dico poi me lo spiegate però poi finisce la trasmissione dico no io devo andare devo andare devo andare io non ho capito niente però mi hanno detto vieni con noi e io continuo a seguirli bravo tu così devi fare io sono un bambino che c'è bisogno cioè poi sai parlare inglese mi ricorda le Harley come a Carlo quindi per me è una cosa molto figa hai capito io ho capito che tornano le Belve però non ho capito ancora bene come tornano perché poi non possiamo spiegarvelo non possiamo spiegarvelo perché dovremmo flasharvi tutti come Men in Black quindi mi dispiace ma questa conversazione non è mai avvenuta l'unica cosa che posso farvi che non si chiamerà le Belve perché le Belve era un brett collettivo Mario che resta nostro carissimo amico ha scelto di no di no continuare e quindi si chiamerà in un altro modo e sarà una cosa che piacerebbe a Vargasiosa che c'è caro a tutti abbiamo abbiamo una notizia Oscar che fa i quiz qualche indizio ve l'abbiamo dato io Oscar dai Renato ci mette l'hardware la verità ci ha già messo l'hardware ok proviamo a mettere la scoppa poi mi devo spiegare questa roba l'hardware per chi l'ha capito chi non l'ha capito cazzi suoi cioè no ma non non vedi cara non si può spiegare se non hai capito già come direbbe Guccini quindi non sono cose le beve non si devono far capire le beve devono mordere no poi che poi anche sul mordere parliamone insomma io però vado sempre al ventunito infatti questo c'è un problema diciamo no no c'è il periodo per mordere c'è il periodo per fare altro insomma adesso va bene ora l'orario ormai è andato all'ecclesiaste stiamo passando no no ecco elet comunque sì va bene no no non ho la libreria però il divano dei liberisti dei liberisti là dietro hai visto cioè io qualcosa da liberista ce l'ho sempre o playboy o il divano o cose di questo genere per la gioia di Carlo che so che è un mio fan quando io ho i libri quelli lì un po' assolutamente tutte e due i carri c'è che è playboy e c'è chi ha una intera libreria dedicata all'articolo 16 della costituzione sono sono e Carlo Alberto che è una libreria data driven di dietro si vede chiaramente dal allora Carlo Alberto tenete conto che quelli che voi vedete sulla sinistra dove ci sono dentro tutti i fogli ogni contenitore è una nuova start up che lui sta facendo quello è quello è quelle di questa settimana perché poi quello è il lavoro della settimana la settimana prossima poi cambia di nuovo esatto però l'importante caro Renato e qui dobbiamo passare per la chiusura ad Alberto è non accettare mai di avere la mente servile quella di Ken Edminoglio mai mai accettare che questo Stato che si è messo in ginocchio a chiedere a implorare le spiegazioni sulle visite ai nonni abbia su di noi quell'effetto di indebolire la capacità di prendere le decisioni libere perché l'ironia è proprio questa quando lo Stato vuol determinare il nostro ordine morale finisce che il cittadino chiede come dire la grazia di avere le spiegazioni sul comportamento questa è la mente servile io penso che questo sia il grande pericolo che abbiamo corso che stiamo correndo allora riappropriarci della fondamentale libertà che non vuol dire mettere in pericolo gli altri e non vuol dire sicuramente discutere sul bene pubblico uno dei pochi beni pubblici una delle ultime interviste di Coase proprio ci date ad Alberto se non sbaglio ma esattamente quanti beni pubblici rimangono io ricordo che lui citò la difesa nazionale la giustizia ovviamente un americano non direbbe mai la salute pubblica perché la salute per un americano è un tradable good e non è certamente un diritto però ecco senza voler rinunciare almeno al valore europeo della salute come bene pubblico e sicuramente nel caso della pandemia un liberale deve accettare che invece la salute sia un bene pubblico perché non è un bene privatizzabile non è un bene come dire che può essere disposto da un'iniziativa individuale ha bisogno di una forma di coordinamento certo non un coordinamento statale non nei confini giurisdizionali di una repubblica perché perché trascende quel elemento ecco però l'importante e torno e chiudo è che questa mente servile che è il vero oggetto dei DPCM caro osca è questa tentativa di instillare nella testa dei cittadini le istruzioni nel fare il download del software comportamentale rifiutiamoci installiamo l'antivirus del liberalismo se poi posso dire una cosina ancora anch'io visto che fino adesso ho fatto più o meno il pagliaccio che è quello che mi tocca di solito insomma allora la cosa che a me sta dando più fastidio di questo periodo in assoluto è visto il mestiere che faccio è che stiamo andando di fronte a uno stato che sta cercando di diventare la mucca a cui tutti si attaccano attraverso questi micro micro aiuti le piccole cose eccetera eccetera cioè noi stiamo creando una generazione di persone che invece di aver voglia di fare di sviluppare di creare azienda di crescere all'interno di un'azienda di imparare studiare per cercare di crescere stanno diventando succubi dello stato non solo per le regole ma anche per gli introiti perché ormai abbiamo mille e mille piccoli bonus a pioggia che non servono assolutamente a nulla se non a far vedere che danno dei soldi abbiamo un sacco di gente che è a casa a fare niente pagata a fare niente e evito di elencarlo troppo perché poi se no mi saltano addosso e non abbiamo nessuno che sta pensando al futuro cioè allora domani tutto cambia cioè da questa crisi usciremo con una situazione che è completamente cambiata lo diceva prima Carlo Alberto abbiamo un'intera generazione che prima era tagliata fuori che è quella diciamo potrebbe essere degli ultra 65 anni ultra 70 anni eccetera che fino a ieri non usava internet oggi ha usato internet ha imparato a fare le videocall con i nipoti ha imparato a comprare su Amazon eccetera eccetera abbiamo un commercio che uscirà devastato da questa situazione abbiamo un polo delle città che si sposterà dal centro alle periferie perché se noi andiamo verso lo smart working sempre più la gente vorrà muoversi poco per andare sul posto di lavoro abbiamo davanti una serie di infiniti cambiamenti fortissimi che richiederanno un adattamento da parte di chi fa servizi e di chi fa azienda pazzesco e qui siamo qua a litigare su chi gestisce i soldi perché renta vuol gestire con i suoi contro gestire con i suoi di mai vuol gestire con i suoi a me verrebbe da dire quello che dicevo una volta Grillo perché noi stiamo ammazzando il paese ma attraverso queste cose attraverso i mille bonus attraverso il continuo tettare da una mamma stato che fa debiti ci si dimentica che se non riproduciamo i soldi cioè se non c'è qualcuno che paga le tasse di debiti non andiamo avanti basta ho parlato fin troppo seriamente io direi che meglio di così non si poteva arrivare in chiusura meglio che cose vanno depresso pure loro io speravo un poco ma a me mi stanno ammazzando ti puoi consolare Carlo lo sai che la notizia innanzitutto è che la ragioneria generale ha detto no a 60 di questi bonus votati dalla commissione bilancio no vediamo se li cambiano a cominciare dalla nonna garanzia esodati finalmente la ragioneria ha detto e basta chiamarli esodati sono nuovi prepensionati garantiti che con l'esodo e la fornina non c'entrano un cazzo siamo arrivati alla nonna ma è successo però a me la notizia che danno il bonus bidet mi ha riempito di gioia perché non so se bisogna che lo Stato ci dia il bonus diciamola tutta per sciacquarci i coglioni ecco devo dire quando si arriva a questo si è arrivato a tutto beh però cambiamo i ordinetti dai e questa mi sembra la perfetta conclusione della nostra diretta che però non può concludersi prima di aver fatto due cose la prima è chiedere a Veronica Cancelliere Enzo Cartaregia e Manuel Faè di farsi vedere perché noi abbiamo cialtronizzato le persone che lavoravano e che hanno reso possibile tutto ciò stando dietro dietro la scena sono state loro non solo ma anche preparando quello che ti hanno permesso di dire chiedo alla regia di farti fare una volta tanto la persona addirittura che delegava questo diciamo è stata una cosa importante quindi grazie Veronica grazie Enzo grazie Manuel per tutto il tempo che ci avete dedicato per tutta la passione la fatica il lavoro e perché ci avete sopportato insieme a Serena da questo punto di vista una cosa una cosa vista la giornata e la serata facciamo vedere come sta andando l'asta che sono gli ultimi minuti assolutamente io ho saputo se la regia mi dà una cosa per un attimo chiedo aiuto alla regia la partecipazione a una settimana di cronache è quotata poco sotto la maglia di Cristiano Ronaldo e se riuscissimo a superarla mi fareste un grandissimo regalo ma fosse la maglia di Sucru famoso turco del Palermo che voi non potete ricordare aspetta cerchiamo di condividere di vedere quella è cultura Carlo quella è cultura Renato meno male ci sono io ecco andate sul sito dell'asta su ebay aiutateci sosteneteci perché l'istituto Bruno Leoni esiste grazie a questo tipo di cose a questo tipo di contributi e poi sì prego dicevo Carlo l'ultimo rilancio è stato fatto dieci minuti fa direi che i minuti che rimangono sono trentatré siamo a 382 euro quindi direi che ai 400 bisogna proprio puntare mi pare il minimo dovremmo capire come gestire l'anno più di 100 euro a testa dovremmo capire come gestire la spedizione gratuita soprattutto dalla Sicilia io vado a tranci io vado a tranci non ho messo a spada non ho problemi e poi per concludere questa lunga maratona che speriamo vi abbia intrattenuti e divertiti la parola non può che andare al motore immobile no non tanto immobile dell'istituto Bruno Leoni al motore ottico dell'istituto Bruno Leoni cioè al vero al motore grippato aspetta posso ricordare prima dei saluti finali che oltre all'asta è sempre aperto appunto anche il sito ilmiodono.it che è un'altra iniziativa con cui sostenere soprattutto una nostra attività in particolare cioè quella di portare nelle scuole i principi base dell'economia quindi le nostre attività formative presso le scuole superiori lì semplicemente la cosa è meno onerosa è sufficiente premere un click e votare l'istituto Bruno Leoni Alberto io vorrei in realtà vorrei chiedere per per antica tradizione a Oscar di di concludere con un appello all'asta insomma per ricordarci i giorni un po' più belli nei quali potevamo vederci di persona è stata anzitutto complimenti a Serena Carlo e Carlo è stata veramente una maratona insomma anche semplicemente stare di là dello schermo è stata un'impresa tenere alta la soglia d'attenzione per tutto questo tempo non è così facile complimenti a loro complimenti a Enzo a Veronica e a Manuel questa questa offerta per una settimana con le cronache tiriamola un po' su insomma mettiamo qualche bonus diciamo che chi vince potrà capire potrà scoprire cosa c'è davvero nei faldoni alle spalle di Serena che da sempre incombono sulla sua testa magari potrà anche avere se Carlo Alberto ce lo consente il privilegio di aprire il suo armadio e di scoprire cosa effettivamente si cela nella parte della parte sinistra dello schermo questa iniziativa che è giusto ci fa molto piacere se sia conclusa con le con le neo belve come sono state neoliberisticamente ribattezzate nei commenti che ci fa molto piacere sia stata su Liberi Oltre vale per l'asta vale perché abbiamo fatto il punto su tante cose abbiamo ascoltato molto interessanti per tutta la sera vale anche un po' per quello che dobbiamo fare nei prossimi mesi perché veramente questo pericolo della mente servile giocando su una vecchia battuta cominciamo a temere il Giuseppe Conte che è in noi col passare dei mesi è veramente una cosa alla quale dovremmo rispondere imparare di nuovo a rispondere come società la disillusione diciamo così l'eccessiva il fatto che siamo molto rimissivi insomma innanzi a limitazioni della libertà individuale che mai avremmo pensato diciamo la verità di subire nella nostra vita il fatto che abbiamo innanzi un governo guidato da persone che non è per chiedere i complotti ma che stanno evidentemente utilizzando un'emergenza sanitaria per fare tutt'altro con ripercussioni di lunga durata sulla vita di tutti noi il fatto che la situazione alla quale ci troviamo da mesi avrà conseguenze terribili sull'ingresso nel mercato del lavoro ma anche sulla psicologia dei più giovani e questo sembra non interessare assolutamente a nessuno sono delle cose che devono svegliarci un po' tutti per il tempo che impieghiamo a vedere trasmissioni come queste su internet per il tempo che impieghiamo a leggere ad approfondire certi temi ma anche per il tempo che dobbiamo impiegare per fare uscire certe idee certe proposte e certe riflessioni da questi da questi circuiti e portarli un po' diciamo così al bar quando potremo tornare a prendere il cappuccino ma in genere in quello che una volta si chiamava il paese reale quindi siccome il problema non è più solo lo stato ladro ma è lo stato straladro che ci troviamo innanzi oggi negli anni a venire cerchiamo di impegnarci un po' tutti di più per quello che possiamo nel nostro e come riusciamo e con questo io veramente cederei la parola a Oscar perché per la tradizione di quando potevamo trovarci appunto più felicemente in una sala l'appello conclusivo per l'asta è il suo grazie Alberto grazie a voi tutti e come sempre per me è un piacere e un onore perché ormai posso dire di avervi visti crescere per così dire invecchiare la parola giusta è invecchiare non sei ancora compito quello riguarda me ma il primo l'appello è fatto di tre semplici considerazioni la prima parto sorridendo perché è comunque un incontro per natalizio ho cominciato con le barzellette sacre di motivo sacro su Arcuri e faccio anche un appello se credete davvero alla fede popolare cristiana al culto dei santi insomma San Gennaro vi ha fatto capire pure lui forse è il caso di cambiare strada quindi ecco se ci credete ma questo lo dico sorridendo come ovvio non mi permetterei mai di pensare che è una cosa seria invece voglio farvi mettere su due cose perché se potete se fate parte di quella fetta d'Italia che non è in condizioni perché in alcuni settori chi lavora lì lo è davvero nel settore della ristorazione tutto l'oreca e così via la faccenda altro che la storia del governo è tragica per via del vai viene di chiusure figlie di non aver saputo fare ciò che come aveva ricordato Carlo Alberto da febbraio in poi doveva essere chiaro che doveva essere la via da battere cioè tracciamento dati granulari da volgere alla sanità territoriale per non solo identificare meglio i focolai ma concentrare lì eventualmente le chiusure sui focolai e non estenderle a regioni a paese intero e così via ecco ma se non fate parte di quell'Italia ma fate parte invece della parte d'Italia vastamente sfiduciata che è quella che ha portato a un record che non si vedeva da tanti anni di risparmio sul vostro reddito disponibile perché non vi fidate del futuro non vi fidate di questo governo perché non si vedeva da decenni un risparmio sul reddito disponibile che tornasse oltre quota del 20% dare una mano attraverso quest'asta che è stata prima richiamata per il buono leoni significa non solo secondo esempio continuare a dare al buono leoni una mano per esempio per pubblicare cose che altrove non si pubblicano come il buono leoni ha sempre fatto e continuerà a fare come testimoniato anche da cosa trovate firmato dagli autori nell'asta ma terzo esempio pensate a una piccola cosa modesta ma che è figlia di queste considerazioni di Alberto di Carlo Alberto di Carlo Stagnaro di Serena che avete sentito in tutti questi mesi per esempio l'iniziativa recente di offrire un'assistenza legale a chi di voi si sente ristretto e non compreso nei propri diritti per i dpcm successivi nel tempo di chiusure limiti spostamenti e così via ecco anche questa cosa che il buono leone ha recentemente offerto e alcuni di voi diversi di voi chiamano per invocarla è un piccolo concreto segno però di una volontà lo ripeto nel caso del buono leone non di dedicarsi alla progettualità politica per cambiare l'Italia ma di offrire da una parte riflessioni approfondimenti basate sulla competenza sul tema della libertà dell'ordinamento dell'impresa dei diritti che sono fondamentali per una tradizione liberale che in Italia è finita per essere egida e bandiera di gente che non sa neanche che cosa sia ma anche di iniziative concrete una di queste è offerte di corsi elezioni di fondamenti dell'economia politica e della finanza siamo un paese di ignoranti in termini finanziari con questi riferimenti culturali si tratta di iniziative modeste se volete senza ambizione di cambiare il paese ma che sono quella luce quella scintilla quel fuoco che l'istituto Bruno Leone vuole mantenere acceso con grande rispetto per le prime di tutti ma con grande coerenza su un filone culturale che al nostro paese può arrecare prima capacità di comprensione secondo capacità di riflessione e poi decida chiunque come crede la volontà di cambiamento politico quello che è stato fatto in questo 2020 resterà a lungo io prima ho dato solo qualche dato di cui non vedo alcuna riflessione e conta infinitamente di più di chi sarà al governo negli anni lo dico con rispetto chiunque di voi votiate che state ascoltando qualunque sia la vostra passione politica è la struttura ordinamentale è la struttura degli strumenti della politica economica pubblica che in questo 2020 ha fatto un cambio di fase direbbero i marxisti io dico un cambio di impostazione che se non compreso bene in ogni suo aspetto modifica comprime mi dispiace doverlo dire obnubila in vasta parte dell'opinione pubblica diritti fondamentali ecco per questi diritti seriamente vi chiedo se non valga la pena nei 30 minuti che restano di dare una mano a un gruppo di persone che negli anni vi ha dimostrato di essere poco incline alla filosofia di trasformazione diretta ma sempre coerente di fronte alla manifestazione dell'approfondimento culturale e di iniziative concrete come quella della scuola e quella dell'assistenza legale che vi ho appena ricordato io posso solo ringraziare loro tutti i ragazzi i ricercatori i fellow dell'istituto Brunoleoni che in questi anni hanno arricchito il pensiero pubblico di cose che diffidate dalle imitazioni o si rifanno ai fondamenti veri di questa cultura che è un filone senza il quale gli autoritarismi del novecento non sarebbero stati mai piegati oppure perderemo la possibilità nelle generazioni successive di contrastare altri nuovi autoritarismi con nuove facce e che però pretendono sempre dall'alto con minoranze che si incardinano nel potere di stabilire l'etica comportamentale la libertà d'impresa la libertà di allocazione delle risorse pubbliche e private perché il fisco questo è abbiamo un fisco che rispetto alle sue premesse fondamenti costituzionali è diventato il più variegato tramite i forfè i bonus eccetera tutti decisi discrezionalmente dal governo come assegni elettorali con un nome e un cognome di una lobby di una minoranza di una categoria di una fazione di reddito di cui ci si aspetta che ricambi il favore alle elezioni questo è rosolo a base imponibile non ci ha reso affatto il paese meno progressivo nel prelievo ma iniquamente progressivo per una minoranza ristretta di italiani che si sombarcano alla maggioranza delle risorse IRPEF del nostro paese e tutto questo continuerà così e peggiorerà se noi non siamo in grado nel nostro piccolo di dare una mano non solo al Bruno Leone ma a quei pochi pochi molto pochi che tentano di riflettere che non hanno molto spazio una riflessione pubblica ma senza dei quali questi valori questa tradizione questo pensiero con quello che rappresenta rischia di avere sempre meno spazio in un paese in cui lo spazio della giubilità lo si decide dall'alto e questo spero che a molti di voi non possa piacere questo è il mio invito finale con le buone feste ma con una promessa sono sicuro che nel 2020 vedremo qual è la situazione sanitaria torneremo a fare tutti quello che questa sera solo Alberto ha potuto fare perché lui il bicchiere di vino ce l'ha e noi invece buone feste a tutti e soprattutto sottoscrivete 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 grazie Oscar allora noi chiudiamo permettetemi soltanto ancora una volta di ringraziare Oscar Renato Carlo Alberto che sono stati con noi adesso chiaramente Enzo Veronica e Manuel senza i quali non avremmo potuto fare tutto questo ringraziare Alberto che come sempre diciamo ci guarda da lontano a volte ci rimprovera a volte ci consiglia a volte ci aiuta però anche noi abbiamo una piccola tradizione e vogliamo chiudere con quella permettetemi di ringraziare Carlo Carlo e Serena ormai condividiamo questa avventura così bella per noi perché ci riempie diciamo le giornate e soprattutto ci fa ci fa divertire però dobbiamo chiudere con la rima dello chansonier della Riviera Ligure Carlo ti prego giustamente perché tutti quelli che sono sopravvissuti nelle ultime cinque ore sentendoci chiacchierare devono pentirsene e la rima di oggi è ovviamente dedicata al tema della serata volete aiutare il pensiero unico neoliverista comprateci all'asta solo così allo scempio dell'articolo 16 si potrà dire basta perfetto ciao a tutti grazie ciao ciao ragazzi ciao a tutti buonanotte ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti